Salve, sono Maria Cristina Zannoner e chi non mi conosce sono l'editore di libri e progetti educativi. Vi presento questa bellissima iniziativa che è una maratona di Pinocchio, il Pinocchio di Collodi, un grande classico, come sapete apprezzato dai bambini di tutte le età che possiamo dire ha attraversato intere generazioni e ancora oggi è molto amato dai bambini. Questa nostra maratona l'abbiamo fortemente voluta per celebrare e ringraziare l'impegno di tutti gli insegnanti d'Italia che in questo brutto periodo di chiusura delle scuole si sono impegnate tantissimo da casa come potevano. Questa vorrebbe essere un po' una festa, raccontiamo appunto un grande classico, lo raccontiamo da tutta Italia, sentirete che gli insegnanti sono insegnanti di tutta Italia. Abbiamo avuto tantissime adesioni e purtroppo non ce l'abbiamo fatta a farlo fare a tutti anche se appunto abbiamo diviso in 82 tappe e quindi contiamo di rifarlo molto presto nel prossimo autunno proprio per il grande successo che questa iniziativa ha avuto. Grazie, grazie di cuore a tutti gli insegnanti che hanno dato la loro disponibilità e hanno apprezzato insieme a noi e capito l'importanza di questo forte legame con i bambini attraverso la lettura attraverso la loro voce. Grazie. Le avventure di Pinocchio Come andò che Mastro Ciliegia, paligname, trovò un pezzo di legno che piangeva e rideva come un bambino. C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No ragazzi, avete sbagliato, c'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso ma un semplice pezzo da catasta di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio paligname, il quale aveva nome Mastro Antonio, se non che tutti lo chiamavano Maestro Ciliegia, per via della punta del suo naso, che era sempre lustra e paonazza, come una ciliegia matura. Appena Mastro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto e, dandosi una fregatina di mani per la contentezza, orbottò a mezza voce. Questo legno è capitato a tempo. Voglio servirmene per fare una gamba di tavolino. Detto fatto, prese subito l'ascia arrotata per cominciare a levargli la scorza, e di sbrossarlo. Ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata, rimase col braccio sospeso in aria, perché sentì una vocina sottile e sottile, che disse raccomandandosi, non mi picchiare tanto forte. Figuratevi come rimase quel buon vecchio di Mastro Ciliegia. Girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai poteva essere uscita quella vocina. E non vide nessuno. Guardò sotto il banco. E nessuno. Guardò dentro un armadio che stava sempre chiudò. E nessuno. Guardò nel corbello dei trucioli della segatura. E nessuno. Apri l'uscio di bottega per dare un'occhiata anche sulla strada. E nessuno. O dunque. Ho capito, disse allora ridendo e grattandosi la parrucca. Si vede che quella vocina me la sono figurata io. rimettiamoci a lavorare. E riprese l'ascia in mano. Tirò giù un solennissimo colpo sul pezzo di legno. Ai! Tu mi hai fatto male! gridò rammaricandosi la solita vocina. Questa volta Mastro Ciliegia restò di stucco, con gli occhi fuori del capo per la paura, con la bocca spalancata e con la lingua giù ciondoloni fino al mento come un mascherone da fontana. Appena riebbe l'uso della parola cominciò a dire tremando e balbettando dallo spavento. Ma di dove sarà uscita quella vocina che ha detto oi? Eppure qui non c'è anima viva. Che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino. Io non lo posso credere. Questo legno eccolo qui. È un pezzo di legno da caminetto, come tutti gli altri. A buttarlo sul fuoco c'è da far bollire una pentola di fagioli. O dunque che ci sia nascosto dentro qualcuno. E se ci sia nascosto qualcuno tanto peggio per lui. Ora l'accomodo io. E così dicendo agguantò con tutte e due le mani quel povero pezzo di legno e si pose a sbatacchiarlo senza carità contro le pareti della stanza. Poi si messe in ascolto per sentire se c'era qualche vocina che si lamentasse. Aspettò due minuti. E nulla. Cinque minuti. E nulla. Dieci minuti. E nulla. Ho capito. Disse allora sforzandosi di ridere arrufandosi la parrucca. Si vede che quella vocina che ha detto oi me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare. E perché gli era entrata addosso una grande paura si provò a canterrellare per farsi un po' di coraggio. Intanto posata da una parte l'ascia prese in mano la pialla per piallare e tirare il pulimento il pezzo di legno. Ma nel mentre che lo piallava in su e in giù sentì la solita vocina che gli disse ridendo smetti tu mi fai pizzicodino sul corpo. Questa volta il povero mastro ciliegia cadde giù come fulminato. Quando gli aprì gli occhi si trovò seduto per terra. Il suo viso pareva trasfigurito e persino la punta del naso di paonazza come era quasi sempre gli era diventata turchina dalla gran paura. Maestro ciliegia regala il pezzo di legno al suo amico geffetto il quale lo prende per fabbricarsi un burattino maraviglioso che sappia ballare, tirar di scherma e fare i saldi mortali. In quel punto fu bussato alla porta. Passate pure, disse il falegname senza aver la forza di rizzarsi in piedi. Allora entrò in bottega un vecchietto tutto arzillo il quale aveva nome geffetto ma i ragazzi del vicinato quando lo volevano far montare su tutte le fiege lo chiamavano col soprannome di polendina a motivo della sua parrucca gialla che somigliava moltissimo alla polendina di gran turco. Geffetto era bizzosissimo, guai a chiamarlo polendina, diventava subito una bestia e non c'era più verso di tenere. Buongiorno Mastro Antonio, disse Geffetto, che cosa fate così perterne? Insegno l'abbaco alle formicole. Buon provi faccia. Chi vi ha portato da me, compar Geffetto? Le gambe. Sappiate, Mastro Antonio, che sono venuto da voi per chiedervi un favore. Eccomi qui, pronto a servirvi, replicò il falegname, rezzandosi sui ginocchi. Stamane mi è piovuta nel cervello un'idea. Sentiamola. Ho pensato di fabbricarmi da me un bel burattino di legno, ma un burattino maraviglioso che sappia ballare, tirar di scherma e fare i salti mortali. Con questo burattino voglio girare il mondo per buscarmi un tozzo di pane e un bicchier di vino. Che me ne pare? Bravo Polendina, gridò la solita vocina, che non si capiva di dove uscisse. Ma sentirsi chiamare Polendina, compar Geffetto diventò rosso come un peperone dalla pizza e, voltandosi verso il falegname, gli disse in bestialito. Perché mi offendete? Chi vi offende? Mi avete chiamato Polendina? Non sono stato io. Sto un po' a vedere che sarò stato io. Io dico che siete stato voi. No, sì, no, sì. E riscaldandosi sempre più, vennero dalle parole ai fatti. E acciuffatisi tra di loro, si graffiarono, si morsero, e si svertucciarono. Finito il combattimento, Mastro Antonio si trovò fra le mani la parrucca gialla di Geffetto, e Geffetto si accorse di avere in bocca la parrucca brizzolata del falegname. Rendimi la mia parrucca, gridò Mastro Antonio, e tu rendimi la mia. Rifacciamo la pace. I due vecchietti, dopo aver ripreso ognuno di loro la propria parrucca, si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita. Dunque, compar Geffetto, disse il falegname in segno di pace fatta, qual è il piacere che volete da me? Vorrei un po' di legno per fabbricare il mio burattino. Me lo date? Mastro Antonio, tutto contento, andò subito a prendere sul banco quel pezzo di legno che era stato cagione a lui di tante paure. Ma quando fu lì per consegnarlo all'amico, il pezzo di legno dette uno scossone, e sgusciandoli violentemente dalle mani, andò a battere con forza negli stinchi impresciuttiti del povero Geffetto. Ah, gli è con questo bel garbo, Mastro Antonio, che voi regalate la vostra roba? M'avete quasi azzoppito. Vi giuro che non sono stato io, allora sarò stato io. La colpa è tutta di questo legno. Lo so che è del legno, ma siete stato voi che me l'avete tirato nelle gambe? Io non ve l'ho tirato. Bugiardo. Geppetto, non mi offendete, se no vi chiamo Polendina. Asino. Polendina. Somaro. Polendina. Brutto scimmiotto. Polendina. A sentirsi chiamar Polendina per la terza volta, Geppetto perse il lume degli occhi, si avventò sul palegname e lì se ne dettero un sacco e una sporta. A battaglia finita, Mastro Antonio si trovò due graffi di più sul naso e quell'altro due bottoni di meno al giubbetto. Pareggiati in questo modo, i loro conti, si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita. Intanto, Geppetto prese con sé il suo bravo pezzo di legno e, ringraziato Mastro Antonio, se ne tornò zoppicando a casa. Geppetto, tornato a casa, comincia subito a fabbricarsi il burattino e gli mette il nome di Pinocchio, prime monellerie del burattino. La casa di Geppetto era una stanzina terrena che pigliava luce da un sottoscala. La mobilia non poteva essere più semplice, una seggiola cattiva, un letto poco buono e un tavolino tutto rovinato. Nella parete di fondo si vedeva un caminetto col fuoco acceso, ma il fuoco era dipinto e accanto al fuoco c'era dipinta una pentola che bolliva allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo che pareva fumo davvero. Appena entrato in casa, Geppetto prese subito gli arnesi e si pose a intagliare e a fabbricare il suo burattino. Che nome gli metterò? Disse fra sé e sé. Lo voglio chiamar Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi, Pinocchio il padre, Pinocchio la madre e Pinocchi i ragazzi, e tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva l'elemosina. Quando ebbe trovato il nome al suo burattino, allora cominciò a lavorare a buono e gli fece subito i capelli, poi la fronte, poi gli occhi. Fatti gli occhi, figuratevi la sua maraviglia quando si accorse che gli occhi si muovevano e che lo guardavano fisso fisso. Geppetto, vedendosi guardare da quei due occhi di legno, se ne ebbe quasi per male e disse con accento risentito, occhiacci di legno, perché mi guardate? Nessuno rispose. Allora, dopo gli occhi, gli fece il naso. Ma il naso, appena fatto, cominciò a crescere. E cresci, 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 diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai. Il povero Geppetto si affaticava a ritagliarlo, ma più lo ritagliava e lo scorciva e più quel naso, impertinente, diventava lungo. Dopo il naso gli fece la bocca. La bocca non era ancora finita di fare, che cominciò subito a ridere e a canzonarlo. smetti di ridere, disse Geppetto impermalito, ma fu come dire al muro. Smetti di ridere, ti ripeto, urlò con voce minacciosa. Allora la bocca smesse di ridere, ma cacciò fuori tutta la lingua. Geppetto, per non guastare i fatti suoi, finse di non avvedersene e continuò a lavorare. Dopo la bocca gli fece il mento, poi il collo, poi le spalle, lo stomaco, le braccia e le mani. Appena finite le mani, Geppetto sentì portarsi via la parrucca dal capo. Si voltò in su e che cosa vide? Vide la sua parrucca gialla in mano del burattino. Pinocchio, rendimi subito la mia parrucca. E Pinocchio, invece di rendergli la parrucca, se la messe in capo per sé, rimanendovi sotto mezzo affogato. A quel garbo insolente e derisorio, Geppetto si fece tristo e melanconico, come non era stato mai in vita sua. E voltandosi verso Pinocchio, gli disse, Birba d'un figliuolo, non sei ancora finito di fare e già cominci a mancarti rispetto a tuo padre. Male, ragazzo mio, male. E si rasciugò una lacrima. Restavano sempre da fare le gambe e i piedi. Quando Geppetto ebbe finito di fargli i piedi, sentì arrivarsi un calcio sulla punta del naso. Me lo merito, disse allora fra sé. Dovevo pensarci prima, oramai è tardi. Poi prese il burattino sotto le braccia e lo posò in terra, sul pavimento della stanza, per farlo camminare. Pinocchio aveva le gambe aggranchite e non sapeva muoversi. E Geppetto lo conduceva per la mano per insegnargli a mettere un piede dietro l'altro. Quando le gambe gli si furono sgranchite, Pinocchio cominciò a camminare da sé e a correre per la stanza, finché, infilata la porta di casa, saltò nella strada e si dette a scappare. E il povero Geppetto a corrergli dietro senza poterlo raggiungere, perché quel birichino di Pinocchio andava a salti come una lepre. E battendo i suoi piedi di legno sull'astrico della strada, faceva un fracasso come venti paia di zoccoli da contadini. Piglialo, piglialo, urlava Geppetto. Ma la gente che era per la via, vedendo questo burattino di legno che correva come un barbero, si fermava incantata a guardarlo e rideva, rideva, rideva a non poterselo figurare. Alla fine, e per buona fortuna, capitò un carabiniere, il quale, sentendo tutto quello schiamazzo e credendo si trattasse di un puledro che avesse levata la mano al padrone, si piantò coraggiosamente a gambe larghe in mezzo alla strada, con l'animo risoluto di fermarlo e di impedire il caso dei maggiori disgrazie. Ma Pinocchio, quando si avvide da lontano del carabiniere, che barricava tutta la strada, si ingegnò di passargli per sorpresa fra mezzo alle gambe e invece fece fiasco. Il carabiniere, senza punto muoversi, lo acciuffò pulitamente per il naso. Era un nasone spropositato che pareva fatto apposta per essere acchiappato dai carabinieri e lo riconsegnò nelle proprie mani di Geppetto, il quale, a titolo di correzione, voleva dargli subito una buona tiratina ad orecchi. Ma figuratevi come rimase, quando nel cercargli gli orecchi non gli riuscì di poterli trovare. E lo sapete perché? Perché nella furia di scolpirlo si era dimenticato di farglieli. Allora lo prese per la collottola e, mentre lo riconduceva indietro, gli disse tentennando minacciosamente il capo. Andiamo subito a casa e, quando saremo a casa, non dubitare che faremo i nostri conti. Pinocchio, a quest'antifona, si buttò per terra e non volle più camminare. Intanto i curiosi e i bighelloni principavano a fermarsi lì d'intorno e a fare capannello. Chi ne diceva una? Chi ne diceva un'altra? Povero burattino, dicevano alcuni, ha ragione a non voler tornare a casa. Chi lo sa come lo picchierebbe, quello maccio di geppetto? E gli altri soggiungevano malignamente. Quel geppetto pare un galantuomo, ma è un vero tiranno coi ragazzi. E se gli lasciano quel povero burattino fra le mani, è capacissimo di farlo a pezzi. Insomma, tanto dissero e tanto fecero che il carabiniere, rimiso in libertà Pinocchio e condusse in prigione quel povero uomo di geppetto, il quale, non avendo parole, lì lì per difendersi, piangeva come un vitellino e nell'avviarsi verso il carcere, valbettava singhiozzando. Sciagurato figliolo, e pensare che ho penato tanto a farlo un burattino per bene. Ma mi sta il dovere, dovevo pensarci prima. Quello che accadde dopo è una storia da non potersi credere. E ve la racconterò in questi altri capitoli. La storia di Pinocchio col grillo parlante, dove si vede come ragazzi cattivi hanno annoia di sentirsi correggere da chi ne sa più di loro. Vi dirò dunque ragazzi, che mentre il povero geppetto era condotto senza sua colpa in prigione, quel monello di Pinocchio, rimasto libero dalle grinfie del carabiniere, se la dava a gambe giù attraverso i campi, per far più presto a tornarsene a casa, e nella gran furia del correre saltava greppi altissimi, siepi di pruni e fossi pieni d'acqua, tale e quale come avrebbe potuto fare un capretto o un leprottino inseguito dai cacciatori. Giunto dinnanzi a casa, trovò l'uscio di strada socchiuso, lo spinse, entrò dentro, e appena ebbe messo tanto di paletto si gettò a sedere per terra, lasciando andare un gran sospirone di contentezza. Ma quella contentezza durò poco, perché sentì nella stanza qualcuno che fece cri cri cri, chi è che mi chiama? Disse Pinocchio tutto impaurito, sono io. Pinocchio si voltò e vide un grosso grillo che saliva lentamente su super il muro, dimmi grillo e tu chi sei? Io sono il grillo parlante e abito in questa stanza da più di cent'anni. Oggi però questa stanza è mia, disse il burattino, e se vuoi farmi un vero piacere, vattene subito, senza nemmeno voltarti indietro. Io non me ne anderò di qui, rispose il grillo, se prima non ti avrò detto una gran verità. Dimmela e spicciati. Guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori e che abbandonano capricciosamente la casa paterna, non avranno mai bene in questo mondo e prima o poi dovranno pentirsene amaramente. Canta pure, grillo mio, come ti pare piace, ma io so che domani all'alba voglio andarmene di qui, perché se rimango qui avverrà a me quel che avviene a tutti gli altri ragazzi, vale a dire mi manderanno a scuola e per amore o per forza mi toccherà studiare e io a dirtela in confidenza di studiare non ne ho appunto voglia e mi diverto più a correre dietro le farfalle, a salire per gli alberi e a prendere gli uccellini di nido. Povero grullerello, ma non sai che facendo così diventerai da grande un bellissimo somaro e che tutti si piglieranno gioco di te? Chetati, grillaccio del malaugurio, gridò Pinocchio. Ma il grillo, che era paziente e filosofo, invece di aversi a male di questa impertinenza, continuò con lo stesso tono di voce. E se non ti garba di andare a scuola, perché non impari almeno un mestiere, tanto da guadagnarti onestamente un pezzo di pane? Vuoi che te lo dica? replicò Pinocchio, che cominciava a perdere la pazienza. Fra i mestieri del mondo non ce n'è che uno solo che veramente mi va da genio. E questo mestiere sarebbe quello di mangiare, bere, dormire, divertirmi e fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo. Per tua regola, disse il grillo parlante con la sua solita calma, tutti quelli che fanno codesto mestiere finiscono quasi sempre all'ospedale o in prigione. Vada, grillaccio del malaugurio, se mi monta la bizza, guai a te. Povero Pinocchio, mi fai proprio compassione. Perché ti faccio compassione? Perché sei un burattino. E quel che è peggio? Perché hai la testa di legno. A queste ultime parole, Pinocchio saltò su tutto infuriato e, preso di sul banco un martello di legno, lo scagliò contro il grillo parlante. Forse non credeva nemmeno di colpirlo, ma disgraziatamente lo colse per l'appunto nel capo, tanto che il povero grillo ebbe appena il fiato di fare cri, cri, cri. Poi rimase listecchito e appiccicato alla parete. Capitolo quinto Pinocchio ha fame e cerca un uovo per farsi una frittata, ma sul più bello la frittata gli vola via dalla finestra. Intanto cominciò a farsi notte e Pinocchio, ricordandosi che non aveva mangiato nulla, sentì un'ugiolina allo stomaco, che somigliava moltissimo all'appetito. Ma l'appetito dei ragazzi cammina presto e, difatti, dopo pochi minuti, l'appetito diventò fame e la fame, dal vedere al non vedere, si convertì in una fame da lupi, in una fame da tagliarsi col coltello. Il povero Pinocchio corse subito al focolare, dove c'era una bella pentola che bolliva, e fece l'atto di scoperchiarla, per vedere che cosa ci fosse dentro. Ma la pentola era dipinta sul muro. Immaginatevi come restò. Il suo naso, che era già lungo, gli diventò più lungo almeno quattro dita. Allora si dette a correre per la stanza e a frugare per tutte le cassette e per tutti i ripostigli in cerca di un po' di pane, magari un po' di pan secco, un crosterello, un osso avanzato al cane, un po' di polenta muffita, una lisca di pesce, un nocciolo di ciliegia, insomma qualche cosa da masticare. Ma non trovò nulla, il gran nulla, proprio nulla. E intanto la fame cresceva e cresceva sempre. E il povero Pinocchio non aveva altro sollievo che quello di sbadigliare. E faceva degli sbadigli così lunghi che qualche volta la bocca gli arrivava fino agli orecchi. E dopo aver sbadigliato sputava e sentiva che lo stomaco gli andava via. Allora, piangendo e disperandosi, diceva Il grillo parlante aveva ragione. Ho fatto male a rivoltarmi al mio babbo e a fuggire di casa. Se il mio babbo fosse qui, ora non mi troverei a morire di sbadigli. Oh, che brutta malattia che è la fame! Quando ecco che gli parve di vedere, nel monte della spazzatura, qualche cosa di tondo e di bianco che somigliava tutto a un uovo di gallina. Spiccare un salto e gettarvisi sopra fu un punto solo. Era un uovo davvero. La gioia del burattino è impossibile descriverla. Bisogna sapersela figurare. Credendo quasi che fosse un sogno, si rigirava quest'uovo fra le mani e lo toccava e lo baciava. E baciandolo diceva E ora come dovrò cuocerlo? Ne farò una frittata? No, è meglio cuocerlo nel piatto. O non sarebbe più saporito se lo friggessi in padella? O se invece lo cuocessi a uso uovo a bere? No, la più lesta di tutte è di cuocerlo nel piatto o nel tegamino. Ho troppa voglia di mangiarmelo. Detto fatto, pose un tegamino sopra un caldano pieno di braccia accesa. Messe nel tegamino, invece d'olio e di burro, un po' d'acqua. E quando l'acqua principiò a fumare, tac, spezzò il guscio dell'uovo e fece l'atto di scodellarvelo dentro. Ma invece della Chiara e del Torlo scappò fuori un pulcino tutto allegro e complimentoso il quale, facendo una bella rivelenza, disse Mille grazie, signor Pinocchio, da avermi risparmiata la fatica di rompere il guscio. Arrivedella, stia bene e tanti saluti a casa. Ciò detto, distese le ali e infilata la finestra che era aperta se ne volò via a perdita d'occhio. Il povero burattino rimase lì come incantato con gli occhi fissi, con la bocca aperta e coi gusci dell'uovo in mano. Riavultosi, peraltro, dal primo sbigottimento cominciò a piangere, a strillare, a battere i piedi in terra per la disperazione e fiangendo diceva Eppure il grillo parlante aveva ragione se non fossi scappato di casa e se il mio babbo fosse qui ora non mi troverei a morire di fame. Oh, che brutta malattia che è la fame! E perché il corpo gli seguitava a brontolare più che mai e non sapeva come fare a chetarlo pensò di uscire di casa e di dare una scappata al paesello vicino nella speranza di trovare qualche persona caritatevole che gli facesse l'elemosina di un po' di pane. In occhio si addormenta coi piedi sul caldano e la mattina dopo si sveglia coi piedi tutti bruciati. Per l'appunto era una nottataccia d'inferno. Tonava forte e forte lampeggiava come se il cielo pigliasse fuoco e ventaccio freddo e strapazzone fischiando rabbiosamente e sollevando un immenso nubolo di polvere faceva stridere e cigolare tutti gli alberi della campagna. Pinocchio aveva una gran paura dei tuoni e dei lampi se non che la fame era più forte della paura motivo per cui accostò l'uscio di casa e prese la carriera in un centinaio di salti arrivò fino al paese con la lingua fuori e col fiato grosso come un cane da caccia ma trovò tutto buio e tutto deserto le botteghe erano chiuse le porte di casa chiuse le finestre chiuse e nella strada nemmeno un cane pareva il paese dei morti. Allora Pinocchio preso dalla disperazione e dalla fame si attaccò al campanello di una casa e cominciò a suonare a distesa dicendo dentro di sé qualcuno si affaccerà di fatti si affacciò un vecchino col berretto da notte in capo il quale gridò tutto stizzito che cosa volete a quest'ora? Che mi fareste il piacere di darmi un po' di pane? Aspettami costi che torno subito rispose il vecchino credendo di avere da fare con qualcuno di quei ragazzacci rompicolli che si divertono di notte a suonare i campanelli delle case per molestare la gente per bene che se la dorme tranquillamente. Dopo mezzo minuto la finestra si riaprì e la voce del solito vecchino gridò a Pinocchio fatti sotto e para il cappello! Pinocchio si levò subito il suo cappelluccio ma mentre faceva l'atto di pararlo sentì ripioversi addosso un'enorme catinellata d'acqua che lo annoffiò tutto dalla testa ai piedi come se fosse un vaso di giranio appassito. tornò a casa bagnato come un pulcino e rifinito dalla stanchezza e dalla fame e perché non aveva più forza da reggersi ritto si pose a sedere appoggiando i piedi fradici e impiallaccherati sopra un caldano pieno di braccia accesa e lì si addormentò e nel dormire i piedi che erano di legno li presero fuoco e ad agio ad agio li si carbonizzarono e diventarono cenere e Pinocchio seguitava a dormire e a russare come se i suoi piedi fossero quelli di un altro finalmente sul far del giorno si svegliò perché qualcuno aveva bussato alla porta chi è? domandò smadigliando e stropicciandosi gli occhi sono io rispose una voce quella voce era la voce di Geppetto Geppetto torna a casa e dà al burattino la colazione che il povero uomo aveva portata per sé il povero Pinocchio che aveva sempre gli occhi fra il sonno non si era ancora visto dei piedi che gli si erano tutti bruciati per cui appena sentì la voce di suo padre schizzò giù dallo sgabello per correre a tirare il paletto ma invece dopo due o tre traballoni cadde di picchio tutto lungo disteso sul pavimento e nel battere in terra fece lo stesso rumore che avrebbe fatto un sacco di mestoli cascato da un quinto piano aprimi intanto gridava Geppetto dalla strada babbo mio non posso rispondeva il burattino piangendo e ruzzolandosi per terra perché non puoi perché mi hanno mangiato i piedi e chi te li ha mangiati il gatto disse Pinocchio vedendo il gatto che con le zampine davanti si divertiva a far ballare alcuni trucioli di legno aprimi ti dico ripete Geppetto se no quando vengo in casa il gatto te lo do io non posso star ritto credetelo oh povero me povero me che mi toccherà camminare coi ginocchi per tutta la vita Geppetto credendo che tutti questi pianiste fossero un'altra monelleria del burattino pensò bene di farla finita e arrampicatosi su per il muro entrò in casa dalla finestra da principio voleva dire voleva fare ma poi quando vide il suo Pinocchio sdraiato in terra e rimasto senza piedi davvero allora sentì intenerirsi e presolo subito in collo si dette a baciarlo e a fargli mille carezze e mille moine e coi luccioloni che li cascavano giù per le gote gli disse singhiozzando Pinocchio mio com'è che ti sei bruciato i piedi non lo so babbo ma credetelo che è stata una nottata d'inferno e me ne ricorderò finché campo tonava balenava e io avevo una gran fame e allora il grillo parlante mi disse ti sta bene sei stato cattivo e te lo meriti e io gli dissi vada grillo e lui mi disse tu sei un burattino e hai la testa di legno e io gli tirai un manico di martello e lui morì ma la colpa fu sua perché io non volevo ammazzarlo prova ne sia che messi un tegamino sulla braccia accesa del caldano ma il pulcino scappò fuori e disse arrivedella e tanti saluti a casa e la fame cresceva sempre motivo per cui quel vecchino col berretto da notte affacciandosi alla finestra mi disse fatti sotto e pare il cappello e io con quella catinellata d'acqua sul capo perché il chiedere un po' di pane non è vergogna non è vero me ne tornai subito a casa e perché avevo sempre una gran fame messi i piedi sul caldano per asciugarmi e voi siete tornato e me li sono trovati bruciati e intanto la fame l'ho sempre e i piedi non li ho più e il povero Pinocchio cominciò a piangere e a berciare così forte che lo sentivano da cinque chilometri lontano Geppetto che di tutto quel discorso arruffato aveva capito una sola cosa cioè che il burattino sentiva morirsi dalla gran fame tirò fuori di tasca tre pere e porgendogli le disse queste tre pere erano la mia colazione ma io te le do volentieri mangiale e buon pro ti faccia se volete che le mangi fatemi il piacere di sbucciarle sbucciarle replicò Geppetto meravigliato non avrei mai creduto ragazzo mio che tu fossi così boccuccia e così schizzinoso di palato male in questo mondo fin da bambini bisogna abbezzarsi abboccati e a saper mangiare di tutto perché non si sa mai quel che ci può capitare i casi sono tanti voi direte bene soggiunse Pinocchio ma io non mangerò mai una frutta che non sia sbucciata le bucce non le posso soffrire e quel buon uomo di Geppetto cavato fuori un coltellino e armatosi di santa pazienza sbucciò le tre pere e pose tutte le bucce sopra un angolo della tavola quando Pinocchio in due bocconi ebbe mangiato la prima pera fece l'atto di buttare via il torsolo ma Geppetto gli trattenne il braccio dicendogli non lo buttare via tutto in questo mondo può far comodo ma io il torso non lo mangio davvero gridò il burattino rivoltandosi come una vipera chi lo sa i casi sono tanti ripete Geppetto senza riscaldarsi fatto sta che i tre torsoli invece di essere gettati fuori dalla finestra vennero posati sull'angolo della tavola in compagnia delle bucce mangiate o per meglio dire divorate le tre pere Pinocchio fece un lunghissimo sbadiglio e disse pianucolando ho dell'altra fame ma io ragazzo mio non ho più nulla da darti proprio nulla nulla ci avrei soltanto queste bucce e questi torsoli di pera pazienza disse Pinocchio se non c'è altro mangerò una buccia e cominciò a masticare da principio storse un po' la bocca ma poi una dietro l'altra spolverò in un soffio tutte le bucce e dopo le bucce anche i torsoli e quando ebbe finito di mangiare ogni cosa si battè tutto contento le mani sul corpo e disse gongolando ora sì che sto bene vedi dunque osservò Geppetto che avevo ragione io quando ti dicevo che non bisogna abbettarsi né troppo sofistici né troppo delicati di palato caro mio non si sa mai quel che ci può capitare in questo mondo i casi sono tanti Geppetto rifà i piedi a Pinocchio e vende la propria casacca per comprargli l'abecedario il burattino appena che si fu levata la fame cominciò subito a bofonchiare a piangere perché voleva un paio di piedi nuovi ma Geppetto per punirlo della monelleria fatta lo lasciò piangere disperarsi per una mezza giornata poi gli disse e perché dovrei rifarti i piedi forse per vederti scappare di nuovo da casa tua vi prometto disse il burattino singhiozzando che da oggi in poi sarà buono tutti i ragazzi replicò Geppetto quando vogliono ottenere qualcosa dicono così vi prometto che andrò a scuola studierò e mi farò onore tutti i ragazzi quando vogliono ottenere qualcosa ripetono la medessima storia ma io non sono come gli altri ragazzi io sono più buono di tutti e dico sempre la verità vi prometto babbo che imparerò un'arte e che sarò la consolazione e il bastone della vostra vecchiaia Geppetto che sebbene facesse il viso di tiranno aveva gli occhi pieni di pianto e il cuore grosso dalla passione nel vedere il suo povero Pinocchio in quello stato compassionevole non rispose altre parole ma presi in mano gli arnesi del mestiere e due pezzetti di legno stagionato si pose a lavorare di grandissimo impegno e in meno d'un'ora i piedi erano belle fatti due piedini svelti asciutti e nervosi come se fossero modellati da un artista di genio allora Geppetto disse al burattino chiudi gli occhi e dormi e Pinocchio chiuse gli occhi e fece finta di dormire e nel tempo che si fingeva addormentato Geppetto con un po' di colla sciolta in un guscio d'uovo gli appiccicò i due piedi al loro posto e gli appiccicò così bene che non si vedeva nemmeno il segno dell'attaccatura appena il burattino si accorse di avere i piedi saltò giù dalla tavola dove stava disteso e principiò a fare mille sgambetti e mille capriole come se fosse mattito dalla gran contentezza per ricompensarvi di quanto avete fatto per me disse Pinocchio il suo babbo voglio subito andare a scuola bravo ragazzo ma per andare a scuola ho bisogno di un po' di vestito Geppetto che era povero non aveva in tasca nemmeno un centesimo gli fece allora un vestituccio di carta fiorita un paio di scarpe di scorza d'albero e un berrettino di midolla di pane Pinocchio corse solito svecchiarsi in una catinella piena d'acqua e rimase così contento di sé che disse pavoneggiandosi paio proprio un signore davvero replicò Geppetto perché tienlo a mente non è il vestito bello che fa il signore ma è piuttosto il vestito pulito a proposito soggiunse il burattino per andare alla scuola mi manca sempre qualcosa anzi mi manca il più e il meglio cioè mi manca l'abbecedario hai ragione ma come si fa per averlo è facilissimo si va ad un libraio e si compra e i quattrini io non ce li ho nemmeno io soggiunse il buon vecchio facendosi tristo e Pinocchio sebbene fosse un ragazzo allegrissimo si fece tristo anche lui perché la miseria quando è miseria davvero la intendono tutti anche i ragazzi pazienza gridò Geppetto tutto a un tratto rizzandosi in piedi e infilatasi la vecchia casacca di fustagno tutta toppe e rimendi uscì correndo di casa dopo poco tornò e quando tornò aveva in mano l'abbecedario per il figliuolo ma la casacca non l'aveva più il povero uomo era in maniche di camicia e fuori ne ricava e la casacca babbo l'ho venduta perché l'avete venduta perché mi faceva caldo Pinocchio capì questa risposta al volo e non potendo frenare l'impeto del suo buon cuore saltò il collo di Geppetto e cominciò a baciarlo per tutto il viso capitolo nove Pinocchio vende l'abbecedario per andare a vedere il teatrino dei burattini smesso che fu di nevicare Pinocchio col suo bravo abbecedario nuovo sotto il braccio prese la strada che menava la scuola e strada facendo fantasticava nel suo cervellino mille ragionamenti e mille castelli in aria uno più bello dell'altro e discorrendo da sé solo diceva oggi alla scuola voglio subito imparare a leggere domani poi imparerò a scrivere e domani l'altro imparerò a fare numeri poi con la mia abilità guadagnerò molti quattrini e coi primi quattrini che mi verranno in tasca voglio subito fare al mio babbo una bella casacca di panno ma che dico di panno gliela voglio fare tutta ad argento e d'oro ecco bottoni di brillanti e quel povero uomo se la merita davvero perché insomma per comprarmi libri e farmi istruire è rimasto in maniche di camicia a questi freddi non ci sono che babbi che siano capaci di certi sacrifici mentre tutto commosso diceva così riparve di sentire in lontananza una musica di pifferi di colpi di gran cassa pi 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 che è un piccolo paesetto che è un piccolo paesetto che cosa sia questa musica? peccato che io debba andare a scuola se no e rimase lì perplesso ad ogni modo bisognava prendere una risoluzione o a scuola o a sentire pifferi oggi andrò a sentire pifferi e domani a scuola per andare a scuola c'è sempre tempo disse finalmente quel monello facendo una spallucciata detto fatto infilò giù per la strada traversa e cominciò a correre a gambe più correva e più sentiva ad estinto il suono dei pifferi e dei tonfi di gran cassa quando ecco che si trovò in mezzo a una piazza tutta piena di gente la quale si affollava intorno a un baraccone di legno e di tela dipinta di mille colori che cos'è quel baraccone domandò pinocchio voltandosi a un ragazzetto che era lì del paese leggi il cartello che c'è scritto e lo saprai lo leggerei volentieri ma per l'appunto oggi non so leggere bravo bue allora te lo leggerò io sappi dunque che in che che in quel cartello a lettere rosse come il fuoco c'è scritto gran teatro dei burattini è molto che è cominciata la commedia comincia ora e quanto si spende per entrare quattro soldi pinocchio che aveva addosso la febbre della curiosità perse ogni ritegno e disse senza vergognarsi al ragazzetto col quale parlava mi daresti quattro soldi fino a domani te li dare volentieri gli rispose l'altro canzonandolo ma oggi per l'appunto non te le posso dare per quattro soldi ti vendo la mia giacchetta gli disse allora al burattino e che vuoi che mi faccia di una giacchetta di carta fiorita se ci piove su non c'è più verso di cavalzerad addosso puoi comprare le mie scarpe sono buone per accendere il fuoco quanto mi dà del berretto bello acquisto davvero un berretto di midolla di pane c'è il caso che i topi me lo vengono a mangiare in capo pinocchio era sulle spine stava lì per fare un'ultima offerta ma non aveva il coraggio esitava tentennava pativa alla fine disse vuoi darmi quattro soldi di questo abecedario nuovo ma io sono un ragazzo e non compro nulla dai ragazzi gli rispose il suo piccolo interlocutore che aveva più giudizio di lui per quattro soldi l'abbecedario lo prendo io gridò un rivenditore di panni usati che si era trovato presente alla conversazione e il libro fu venduto lì su due piedi e pensare che quel pover uomo di cerpetto era rimasto a casa a tremare dal freddo in maniche di camicia per comprare l'abbecedario al figliuolo. I burattini riconoscono il loro fratello Pinocchio e gli fanno una grandissima festa ma sul più bello esce fuori il burattinaio mangiafoco e Pinocchio corre il pericolo di fare una brutta fine. Quando Pinocchio entrò nel teatrino delle marionette accadde un fatto che destò una mezza rivoluzione. Bisogna sapere che il sipario era tirato su e la commedia era già incominciata. Sulla scena si vedevano Arlecchino e Pulcinella che bisticciavano fra di loro e secondo il solito minacciavano da un momento all'altro di scambiarsi un carico di schiaffi e di bastonate. La platea tutta attenta si mandava male dalle grandi risate nel sentire il battibecco di quei due burattini che gestivano e si trattavano d'ogni vitupero con tanta verità come se fossero proprio due animali ragionevoli e due persone di questo mondo. Quando all'improvviso che è che non è, Arlecchino smette di recitare e voltandosi verso il pubblico e accennando con la mano qualcuno in fondo alla platea comincia a urlare in tono drammatico. Nomi del firmamento! Sogno son d'esto! Eppure quello laggiù è Pinocchio! È Pinocchio davvero! grida Pulcinella. È proprio lui! Strilla la signora Rosaura facendo capolino di fondo alla scena. È Pinocchio! È Pinocchio! Urlano in coro tutti i burattini uscendo a salti fuori dalle quinte. È Pinocchio! È il nostro fratello Pinocchio! Evviva Pinocchio! Pinocchio vieni quassù da me! grida Arlecchino. Vieni a gettarti fra le braccia dei tuoi fratelli di legno! A questo affettuoso invito Pinocchio spicca un salto e di fondo alla platea va nei posti distinti. Poi con un altro salto dai posti distinti monta sulla testa del direttore d'orchestra e di lì schizza sul palcoscenico. È impossibile figurarsi gli abbracciamenti, gli strizioni di collo, i pizzicotti dell'amicizia e le zuccate della vera e sincera fratellanza che Pinocchio riceve in mezzo a tanto ruffio dagli attori e dalle attrici di quella compagnia drammatico vegetale. Questo spettacolo era commovente, non c'è che dire, ma il pubblico della platea, vedendo che la commedia non andava più avanti, si impazientì e prese a gridare. Vogliamo la commedia! Vogliamo la commedia! Tutto fiato buttato via, perché i burattini invece di continuare la recita raddoppiarono il chiasso e le grida e postosi Pinocchio sulle spalle se lo portarono in trionfo davanti ai lumi della ribalta. Allora uscì fuori il burattinaio, un omone così brutto che metteva paura soltanto a guardarlo. Aveva una barbaccia nera come uno scarabocchio d'inchiostro e tanto lunga che gli scendeva dal mento fino a terra. Basta dire che quando camminava se l'appestava coi piedi. La sua bocca era larga come un forno, i suoi occhi parevano due lanterne di vetro rosso con l'ume acceso di dietro e con le mani schioccava una grossa frusta fatta di serpenti di code di volpe attorcigliate insieme. All'apparizione inaspettata del burattinaio ammutolirono tutti. Nessuno fiatò più. Si sarebbe sentito volare una mosca. Quei poveri burattini, maschi e femmine, tremavano come tante foglie. Perché sei venuto a mettere lo scompiglio nel mio teatro? Domandò il burattinaio a Pinocchio con un vocione d'orco gravemente infreddato di testa. La crede illustrissimo che la colpa non è stata mia. Basta così, stasera faremo i nostri conti. Di fatti, finita la recita della commedia, il burattinaio andò in cucina, dove gli si era preparato per cena un bel montone, che girava lentamente infilato nello spiede. E perché gli mancavano le legna per finirlo di cuocere e di rosolare, chiamò Orlecchino e Pulcinella e disse loro. Portatemi di qua quel burattino che troverete accanto al chiodo. Mi pare un burattino fatto di legname molto asciutto e sono sicuro che, a buttarlo sul fuoco, mi darà una bellissima fiammata all'arrosto. Arlecchino e Pulcinella da principio esitarono, ma impauriti da un'occhiataccia del loro padrone, obbedirono. E dopo poco tornarono in cucina portando sulle braccia il povero Pinocchio, il quale, divincolandosi come un'anguilla fuori dall'acqua, strillava disperatamente. Babbo mio, selvatemi! Non voglio morire, no! Non voglio morire! Mangiafoco starnutisce e perdona Pinocchio, il quale poi difende dalla morte il suo amico arlecchino. Il burattinaio Mangiafoco, che questo era il suo nome, pareva un uomo spaventoso, non dico di no, specie con quella sua barbaccia nera che a uso grembiale gli copriva tutto il petto e tutte le gambe. Ma nel fondo poi non era un cattiluomo. Prova ne sia che quando vide portarsi davanti quel povero Pinocchio, che si dibatteva per ogni verso urlando, non voglio morire, non voglio morire, principiò subito a commuoversi e impietosirsi. E dopo aver resistito un bel pezzo, alla fine non ne pote più e lasciò andare un sonorissimo starnuto. A quello starnuto, Arlecchino, che fino allora era stato afflitto e ripiegato con un sancio piangente, si fece tutto allegro in viso e chinatosi verso Pinocchio gli bisbigliò sottovoce. Buone nuove, fratello! Il burattinaio ha starnutito e questo è segno che si è mosso a compassione per te e oramai sei salvo. Perché bisogna sapere che, mentre tutti gli uomini, quando si sentono impietositi per qualcuno o piangono o perlomeno fanno finta di asciugarsi gli occhi, mangia fuoco invece, ogni volta che si inteneriva davvero, aveva il vizio di sfrantire. Era un modo come un altro per dare a conoscere agli altri la sensibilità del suo cuore. Dopo aver starnutito, il burattinaio, seguitando a fare il burbero, gridò a Pinocchio. Finiscila di piangere! I tuoi lamenti mi hanno messo un'ugiolina qui in fondo allo stomaco. Sento uno spasimo che quasi, quasi... Eccì! Eccì! E fece altri due starnuti. Felicità, disse Pinocchio. Grazie. E il tuo babbo e la tua mamma sono sempre vivi? Gli domandò mangia fuoco. Il babbo sì. La mamma non l'ho mai conosciuta. Chi lo sa che dispiacere sarebbe per il tuo vecchio padre se ora ti facessi gettare fra quei carboni ardenti. Povero vecchio, lo compatisco. Eccì! 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 E fece altri tre starnuti. Felicità, disse Pinocchio. Grazie. Del resto bisogna compatire anche me, perché, come vedi, non ho più legna per finire di cuocere quel montone arrosto. E tu, dico la verità, in questo caso mi avresti fatto un gran comodo. Ormai mi sono impietosito e ci vuol pazienza. Invece di te, metterò a bruciare sotto lo spiede qualche burattino della mia compagnia. Ora, gendarmi! A questo comando comparvero subito due gendarmi di legno, lunghi lunghi, secchi, 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 col cappello e l'incerna in testa e con la sciabola sfoderata in mano. Allora il burattinaio disse loro con voce rantulosa. Pegliatevi lì quell'arlecchino, legatelo ben bene e poi gettatelo a bruciare sul fuoco. Io voglio che il mio montone sia arrostito bene. Figuratevi il povero arlecchino. Fu tanto il suo spavento che le gambe gli si ripiegarono e catte bocconi per terra. Pinocchio, alla vista di quello spettacolo straziante, andò a gettarsi ai piedi del burattinaio e piangendo dirottamente e bagnandogli di lacrime tutti i piedi della lunghissima barba, cominciò a dire con voce supplichevole «Pietà, signor mangiafuoco!» «Qui non ci sono, signori!» replicò duramente il burattinaio. «Pietà, signor cavaliere!» «Qui non ci sono, cavalieri!» «Pietà, signor commendatore!» «Qui non ci sono, commendatori!» «Pietà, eccellenza!» A sentirsi chiamare eccellenza, il burattinaio fece subito il bocchino tondo e diventando tutto un tratto più umano e più trattabile, disse a Pinocchio «Ebbene, che cosa vuoi da me?» «Vi domando grazia per il povero l'arrecchino!» «Qui non c'è grazia che tenga!» «Se ho risparmiato te, bisogna che faccia mettere sul fuoco lui, perché io voglio che il mio montone sia arrostito bene!» «In questo caso!» gridò fieramente Pinocchio rizzandosi e gettando via il suo berretto di midolla di pane. «In questo caso conosco qual è il mio dovere!» «Avanti, signori gendarmi! Legatemi e gettatemi là, fra le fiamme!» «No, non è giusto che il povero l'arrecchino, il vero amico mio, debba morire per me!» A queste parole, pronunziate con voce alta e con accento eroico, fecero piangere tutti i burattini che erano presenti a quella scena. Gli stessi gendarmi, sebbene fossero di legno, piangevano come due agnellini di latte. Mangiafuoco sul principio rimase duro e immobile, come un pezzo di ghiaccio. Ma poi, ad agio ad agio, cominciò anche lui a commuoversi e a starnutire. E fatto quattro o cinque starnuti, apri affettuosamente le braccia e disse a Pinocchio. «Tu sei un bravo ragazzo! Vieni qua da me e dammi un bacio!» Pinocchio corse subito e, arrampicandosi come uno scogliattolo su per la balba del burattinaio, andò a posargli un bellissimo bacio sulla punta del naso. «Dunque, la grazia è fatta?» domandò il povero allecchino con un fil di voce che si sentiva appena. «La grazia è fatta!» rispose Mangiafuoco. Poi soggiunse sospirando e tentennando il capo. «Pazienza! Questa sera mi rassegnerò e mangerò il montone mezzo crudo. Ma un'altra volta, guai a chi toccherà!» Alla notizia della grazia ottenuta, i burattini corsero tutti sul palco scenico e, accesi lumi e lampadari come in una serata di gala, cominciarono a saltare e a ballare. Era l'alba e ballavano sempre. 12esimo capitolo Il burattinaio Mangiafuoco regala 5 monete d'oro a Pinocchio, perché le porta il suo babbo Geppetto. E Pinocchio, invece, si lascia digliorare dalla volta del gatto e se ne va con loro. Il giorno di poi, Mangiafuoco per non distante Pinocchio e gli domandò «Come si chiama tuo padre?» «Geppetto? E che messia ne fa?» «Povero! Guadagna molto? Guadagna tanto quanto ci vuole, ma non avere mai un centetimo in tasca. Si figuri che per comprarmi l'abbecedario della scuola doveva vendere l'unica casacca che aveva addosso, una casacca che, fra toppe e rammelli, era tutta una piaga. «Povero diavolo! Mi fa quasi compassione! Ecco qui 5 monete d'oro! Vai subito a portarnele e saluterò tanto da parte mia!» Pinocchio, come facile immaginarselo, ringraziò mille volte il burattinaio. Abbracciò a uno a uno tutti i burattini della compagnia, anche i gendarmi, e fuori di sé dalla contentezza si mise in viaggio per tornarsene a casa sua. Ma non aveva affatto ancora mezzo chilometro che incontrò per la strada una volta a zoppa da un piede e un gatto cieco da tutti e due gli occhi, che se ne andavano da là aiutandosi tra di loro da buoni compagni di esmentura. La volta, che era a zoppa, camminava appoggiandosi al gatto, e il gatto, che era cieco, si lasciava guidare dalla volta. «Buongiorno, Pinocchio!» disse la volta, salutandolo garbatamente. «Come che sai il mio nome?» domandò il burattino. «Conosco bene il tuo babbo!» «Dove l'hai veduto?» «L'ho veduto ieri sulla porta di casa sua!» «Che cosa faceva?» «Era in maniche di camicia e tremava di freddo!» «Povero babbo!» «Ma se Dio vuole, da oggi in poi non tremerà più!» «Perché?» «Perché io sono diventato un gran signore!» «Un gran signore e tu?» disse la volta e cominciò a ridere di un riso sguaiato e canzonatore. Il gatto rideva anche lui, ma per mandarlo a vedere si pentinava i paffi con le zampe davanti. «C'è poco da ridere!» gridò Pinocchio impermanito. «Mi dispiace davvero di farvi venire l'acquadina in bocca, ma queste qui, ve ne intendete, sono cinque bellissime monete d'oro!» e tirò fuori delle monete a poter dare la mancia a freddo. Al simpatico suono di quelle monete, la monete, per un muoto involantario, rungò la gamba che pareva rattratta. Il gatto spalancò tutti e due gli occhi e parlo due lanterne verdi, ma poi li chiuse subito, tant'è vero che Pinocchio non si è accoste di nulla. «E ora?» gli domandò la volta. «E cosa vuoi fare di codesse monete?» «Prima di tutto, mi spose il gurettino, voglio comprare per il mio babbo una bella casacca nuova, tutta d'oro e d'argento, e con i bottoni di brillanti, e poi voglio comprare un abbicelario per me. Per te?» «Davvero? Perché voglio andare a scuola e mettermi a studiare, buono!» «Guarda me!» disse la volta. «Per la passione sciocca di studiare, ho perduto una gamba!» «Guarda me!» disse il gatto, «per la passione sciocca di studiare, ho perduto la vista di tutti e due gli occhi!» «In quel mentre, un merlo bianco, che se ne stava appollaiato sulla siepe della strada, fece suo solito verso e disse, «Pinocchio, non dar retta ai consigli dei cattivi compagni, se non puoi, te ne pentirai!» «Povero merlo!» non l'avesse mai detto. Il gatto, spiccando un gran salto, gli s'avventò addosso e, senza neanche dargli il tempo di dire oi, se lo mangiò in un boccone con le penne e tutto. Mangiato che lebbe e ripulitosi la bocca, chiuse gli occhi da capo e ricominciò a fare il cieco come prima. «Povero merlo!» disse Pinocchio al gatto, «perché l'hai trattato così male? Ho fatto per dargli una lezione, così un'altra volta imparerà a non metter bocca nei discorsi degli altri!» Erano giunti, più che a mezza strada, quando la volpe, fermandosi di punto in bianco, disse al burattino, «Vuoi raddoppiare le tue monete d'oro?» «Cioè? Vuoi tu di cinque miserabili zettini farne cento, mille, duemila?» «Magari! E la maniera?» «La maniera è facilissima! Invece di tornartene a casa tua dovresti venire con noi!» «E dove mi volete condurre? Nel paese dei barbagianni!» Pinocchio ci pensò un poco e poi disse risolutamente, «No, non ci voglio venire! Oramai sono vicino a casa e voglio andarmene a casa dove c'è mio babbo che mi aspetta!» «Dio sa, povero vecchio, quanto ha sospirato ieri a non vedermi tornare!» Purtroppo io sono stato un figliolo cattivo e il grillo parlante aveva ragione quando diceva «I ragazzi disobbedienti non possono aver bene in questo mondo!» «E io l'ho provato a mie spese perché mi sono capitate molte disgrazie e anche ieri sera in casa di Mangiafoco ho corso pericolo!» «Brrr! Mi viene i bordoni soltanto a pensarci!» «Dunque, disse la volte, vuoi proprio andare a casa tua?» «Allora va pure, è tanto peggio per te!» «Tanto peggio per te!» ripetè il gatto «Pensaci bene, Pinocchio, perché tu dai un calcio alla fortuna!» «Alla fortuna!» ripetè il gatto «I tuoi cinque zecchini, dall'oggi al domani, sarebbero diventati duemila!» «Duemila!» ripetè il gatto «Ma com'è mai possibile che diventino tanti?» domandò Pinocchio, restando aperta la bocca dallo stupore «Te lo spiego subito!» disse la volpe «Bisogna sapere che nel paese dei barbagianni c'è un campo benedetto, chiamato da tutti il campo dei miracoli!» «Tu fai in questo campo una piccola buca e ci metti dentro, per esempio, uno zecchino d'oro «Poi ricopri la buca con un po' di terra, la annatti con due secchie d'acqua di fontana, ci getti sopra una presa di sale e la sera te ne vai tranquillamente a letto!» «Intanto, durante la notte, lo zecchino germuglia e fiorisce e la mattina dopo di levata, ritornando nel campo, che cosa trovi?» «Trovi un bell'albero carico di tanti zecchini d'oro, quanti chicchi di grano può avere una bella spiga nel mese di giugno!» «Sicché, dunque!» disse Pinocchio, sempre più sbalordito. «Se io sotterrassi in quel campo i miei cinque zecchini, la mattina dopo, quanti zecchini ci troverei?» «È un conto facilissimo!» rispose la volpe, «un conto che puoi farlo sulla punta delle dita!» «Poni che ogni zecchino ti faccia un grappolo di cinquecento zecchini, moltiplica il cinquecento per cinque e la mattina dopo ti trovi in tasca duemila cinquecento zecchini lampanti e sonanti!» «Oh, che bella cosa!» gridò Pinocchio ballando dall'allegrezza. «Appena che questi zecchini li avrò raccolti, ne prenderò per me duemila e gli altri cinquecento di più li darò in regalo a voi altri due!» «Un regalo a noi!» gridò la volpe segnandosi e chiamandosi offesa. «Dio, te ne liberi!» «Te ne liberi!» ripetè il gatto. «Noi, riprese la volpe, non lavoriamo per il video interesse. Noi lavoriamo unicamente per arricchire gli altri!» «Gli altri!» ripetè il gatto. «Che brave persone!» pensò dentro di sé Pinocchio. E dimenticandosi, lì sul tamburo, del suo babbo, della casacca nuova, dell'abbecedario e di tutti i buoni proponimenti fatti, disse alla volpe al gatto. «Andiamo subito! Io vengo con voi!» Capitolo tredicesimo L'osteria del gambero rosso Cammina, cammina, cammina Alla fine, sul far della sera, arrivarono stanchi morti all'osteria del gambero rosso. «Fermiamoci un po' qui!» disse la volpe «Tanto per mangiare un boccone e per riposarci qualche ora. A mezzanotte, poi, ripartiremo per essere domani all'alba nel campo dei miracoli». Entrati nell'osteria, si posero tutti e tre a tavola Ma nessuno di loro aveva appetito Il povero gatto, sentendosi gravemente indisposto di stomaco non poteva mangiare altro che 35 triglie con salsa di pomodoro e quattro porzioni di trippa alla parmigiana e perché la trippa non gli pareva condita abbastanza si rifece tre volte a chiedere il burro e il formaggio grattato La volpe avrebbe spelluzzicato volentieri qualcosa anche lei ma siccome il medico le aveva ordinato una grandissima dieta così dove contentarsi di una semplice lepre dolce e forte con un leggerissimo contorno di pollastre ingrassate e di galletti di primo canto Dopo la lepre si fece portare per tornagusto un cibreno di pernici, di starne, di conigli, di ranocchi, di lucertole e duva paradisa E poi non volle altro Aveva tanta nausea per il cibo, diceva lei che non poteva costarsi nulla la bocca Quello che mangiò meno di tutti fu Pinocchio chiese uno spicchio di noce e un cantuccio di pane e lasciò tutto nel piatto, ogni cosa Il povero figliuolo col pensiero sempre fisso al campo dei miracoli aveva preso un'indigestione anticipata di monete d'oro Quando ebbero cenato la volpe disse all'oste Doveci due buone camere una per il signor Pinocchio e un'altra per me e per il mio compagno Prima di ripartire schiacceremo un sonnellino Ricordatevi però che a mezzanotte vogliamo essere svegliati per continuare il nostro viaggio Sì signori rispose l'oste e strizza all'occhio Alla volpe e al gatto Come dire Ho mangiato la foglia e ci siamo intesi Appena che Pinocchio fu entrato nel letto si addormentò di colpo e principiò a sognare e sognandoli pareva di essere in mezzo a un campo e questo campo era pieno di argoscelli carichi di grappoli e questi grappoli erano carichi di zecchini d'oro e questi zecchini d'oro dondolandosi mossi dal vento facevano zin 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 Quasi volessero dire Chi ci vuole venga a prenderci Ma quando Pinocchio fu sul più bello quando cioè allungò la mano per prendere a manciate tutte quelle belle monete e mettersele in tasca si trovò svegliato all'improvviso da tre violentissimi colpi dati nella porta di camera in all'oste che veniva a dirgli che la mezzanotte era suonata E i miei compagni sono pronti? gli domandò il burattino Altro che pronti sono partiti due ore fa E perché ma tanta fretta? Perché il gatto ha ricevuto un'ambasciata che il suo gattino maggiore malato di geloni e piedi stava in pericolo di vita E la cena l'hanno pagata? Che vi pare? Quelli lì sono persone troppo educate perché facciano un affronto simile alla signoria vostra Peccato quest'affronto mi avrebbe fatto tanto piacere disse Pinocchio grattandosi in testa Poi domandò E dove hanno detto di aspettarmi quei buoni amici? Al campo dei miracoli domattina all'ascoltar del giorno Pinocchio pagò uno zecchino per la cena sua e per quella dei suoi compagni e dopo partì ma si può dire che partisse a tastoni perché fuori dall'osteria c'era un buio così buio che non si vedeva da qui a lì Nella campagna all'intorno non si sentiva alitare una foglia solamente di tanto in tanto alcuni uccellacci notturni traversando la strada da una siepe all'altra venivano a sbattere le ali sul naso di Pinocchio il quale facendo un salto indietro per la paura gridava chi va là? l'eco delle colline circostanti ripeteva in lontananza chi va là? chi va là? chi va là? intanto mentre camminava vide sul tronco di un albero un piccolo animaletto che riluceva di una luce pallida e opaca come un lumino da notte dentro una lampada di porcellana trasparente chi sei? gli domandò Pinocchio sono l'ombra del grillo parlante rispose l'animaletto con una vecina fioca fioca che pareva venisse dal mondo di là che vuoi da me? disse il burattino voglio darti un consiglio ritorna indietro e porta i quattro zicchini che ti sono dimasti al tuo povero babbo che piange e si dispera per non averti più veduto domani il mio babbo sarà un gran signore perché questi quattro zicchini diventeranno duemila non ti fidare ragazzo mio di quelli che promettono di farti ricco dalla mattina alla sera per il solito o sono matti o imbruglioni dai retta a me ritorna indietro e io invece voglio andare avanti l'ora è tarda voglio andare avanti la nottata è scura voglio andare avanti la strada è pericolosa voglio andare avanti ricordati che ragazzi che vogliono fare di capriccio e a modo loro prima o poi se ne pentono le solite storie buonanotte grillo buonanotte pinocchio e che il cielo ti salvi dalla guazza degli assassini appena dette queste ultime parole il grillo parlante si spense a un tratto come si spenge un lume soffiandoci sopra e la strada rimase più buia di prima capitolo quattordicesimo Pinocchio per non avere dato retta i buoni consigli del grillo parlante si imbatte negli assassini davvero disse tra sé il burattino rimettendosi in viaggio come siamo disgraziati noi altri poveri ragazzi tutti ci sgridano tutti ci ammoniscono tutti ci danno dei consigli a lasciarli dire tutti si metterebbero in capo di essere i nostri babbi e i nostri maestri tutti anche i grilli parlanti ecco qui perché io non ho voluto dar retta a quell'ugioso di grillo chi lo sa quante disgrazie secondo lui mi dovrebbero accadere dovrei incontrare anche gli assassini meno male che gli assassini non esistono io non ci credo ne ci ho creduto mai per me gli assassini sono stati inventati apposta dai babbi per far paura ai ragazzi che vogliono andare fuori la notte e poi se anche li trovassi qui sulla strada mi darebbero forse soggezione neanche per sogno andrei loro sul viso gridando signori assassini che cosa vogliono da me si rammentino che con me non si scherza se ne vadano dunque per i fatti loro e zitti a questa parlantina fatta sul serio coi poveri assassini mi par di vederli scapperebbero via come il vento caso poi fossero tanto ineducati da non voler scappare allora scapperei io e così la farei finita ma Pinocchio non poté finire il suo ragionamento perché in quel punto gli parve di sentire dietro di sé un leggerissimo fruscio di foglie si voltò a guardare e vide nel puglio due figuracce nere tutte imbacuccate in due sacchi da carbone le quali correvano dietro a lui a salti e in punta di piedi come se fossero due fantasmi eccoli davvero disse dentro di sé e non sapendo dove nascondere i quattro zecchini se li nascose in bocca e precisamente sotto la limba poi si provò a scappare ma non aveva ancora fatto il primo passo che sentì agguantarsi per le braccia e intese due voci orribili e cavernose che gli dissero vuola borsa vuola vita Pinocchio non potendo rispondere con le parole a motivo delle monete che aveva in bocca fece mille salamelecchi e mille pantomime per dare all'intennere a quei due incappati di cui si vedevano soltanto gli occhi attraverso i buchi dei tacchi che lui era un povero burattino e che non aveva in tasca nemmeno un centesimo falso via via meno charle e fuori i denari gridarono minacciosamente i due briganti e il burattino fece col capo e con le mani un segno come dire non ne ho metti fuori i denari o sei morto disse l'assassino più alto di statura morto ripete l'altro e dopo ammazzato te ammazzeremo anche tuo padre anche tuo padre no no il mio povero babbo no gridò Pinocchio con accento disperato ma nel gridare così gli zecchini gli suonarono in bocca ah furfante dunque i denari te li sei nascosti sotto la lingua sputali subito e Pinocchio duro ah tu fai il sordo aspetta un po' che penseremo noi a farteli sputare difatti uno di loro afferrò il burattino per la punta del naso e quell'altro lo prese per la bazza e lì cominciarono a tirare screanzatamente uno per in qua e l'altro per in là tanto da costringerlo a spalancare la bocca ma non ci fu verso la bocca del burattino pareva inchiodata e ribadita allora l'assassino più piccolo di statura cavato fuori un coltellaccio provò a conficcarglielo a guisa di leva e di scalpello fra le labbra ma Pinocchio lesto come un lampo gli azzannò la mano coi denti e dopo avergliela con un morso staccata di netto la sputò e figuratevi la sua meraviglia quando invece di una mano si accorse di avere sputato in terra uno zampetto di gatto incoraggito da questa prima vittoria si liberò a forza dalle unghie degli assassini e saltata la siepe della strada cominciò a fuggire per la campagna e gli assassini a correre dietro a lui come due cani dietro a una lepre e quello che aveva perduto uno zampetto correva con una gamba sola né si è saputo mai come facesse dopo una corsa di 15 chilometri Pinocchio non ne poteva più allora vistosi perso si arrampicò su per il fusto di un altissimo pino e si pose a sedere in vetta ai rami gli assassini tentarono di arrampicarsi anche loro ma giunti a metà del fusto sdrucciolarono e ricascando a terra si spellarono le mani e i piedi non per questo si dettero per vinti che anzi raccolto un fastello di legna secca a piede del pino vi appiccarono il fuoco in men che non si dice il pino cominciò a bruciare e a divampare come una candela agitata dal vento Pinocchio vedendo che le fiamme salivano sempre più e non volendo far la fine del piccione arrosto spiccò un bel salto di vetta all'albero e via a correre da capo attraverso i campi e i vigneti e gli assassini dietro sempre dietro senza stancarsi mai intanto cominciava a balluginare il giorno e si rincorrevano sempre quando ecco che Pinocchio si trovò improvvisamente sbarrato il passo da un fosso largo e profondissimo tutto pieno di acquaccia sudicia color del caffè latte che fare una due tre gridò il burattino e slanciandosi con una gran rincorsa saltò dall'altra parte e gli assassini saltarono anche loro ma non avendo preso bene la misura patatunfete cascarono giù nel bel mezzo del fosso Pinocchio che sentì il tonfo e gli schizzi dell'acqua urlò ridendo e seguitando a correre buon bagno signori assassini e già si figurava che fossero bell'affogati quando invece voltandosi a guardare si accorse che gli correvano dietro tutti e due sempre imbaccucati nei loro sacchi e gronlanti acqua come due panieri sfondati gli assassini seguono Pinocchio e dopo averlo raggiunto lo impittano a un ramo della terza grande allora il burattino perduto cid'animo si trova sul senso di riettarsi in terra e di darsi per dito quando inibirare gli occhi all'intorno vive a mezzo al verde e sotto degli alberi biancheggiare in lontananza una casina candida come la mia vede se io avessi tanto piato da arrivare fino a quella casa forse sarei salvo disse dentro di sé e senza indigiare un minuto riprese a correre per il bosco a carriera distesa gli assassini sempre dietro e dopo una corsa disperata di quasi due ore finalmente il trapelato arrivò alla porta di quella casina e bussò nessuno rispose tornò a bussare con maggior dolenza perché sentiva avvicinarsi il rumore dei passi e il respiro grosso e affannato dei suoi perseguitori e il stesso silenzio avvedutosi che il bussare non giuvava a nulla cominciò per disperazione a dare calci intuccare la porta allora si affacciò alla finestra una bella bambina con capelli percini e il viso bianco come un'immagine di cera gli occhi chiusi e le mani incrociate sul petto la quale senza muovere tutto le labbra disse con una voce che pareva finisse dall'altro mondo in questa casa non c'è nessuno sono tutti morti aprimi almeno tu gridò Pinotto piangendo e rammaricandosi sono morta anch'io morta e ora che fai costi alla finestra aspetto la vara che venga a portarmi via appena detto così la bambina disparve la finestra si chiuse senza far rumore o bella bambina dai capelli trucchini gridava Pinotto aprimi per carità api compassione di un povero ragazzo inseguito dagli assassini ma non poté finirla parola perché sentì afferrarsi per il collo e le solite due vociacce che gli brontolarono minacciosamente ora non ci scappi più il burattino vedendosi balenare la morte l'inanzi agli occhi fu preso da un tremito così forte che nel tremare suonavano le giunture delle sue gambe di domino dei quattro zecchini che tenevano ascolti sotto la lingua dunque domandarono gli assassini vuoi aprirla la bocca sì o no ah non rispondi lascia fare che questa volta te la faremo aprir noi e cavato fuori due coltellacci lunghi lunghi affilati come rasoi zaff e zaff li affibbiarono due colpi nel mezzo alle reni ma il burattino per sua fortuna era fatto di un legno durissimo motivo per cui le lame spezzandosi andarono in le bestecce e gli assassini rimasero col manico dei coltelli in mano a guardarsi in faccia capito disse allora uno di loro bisogna impiccarlo e impicchiamolo impicchiamolo ripete l'alto detto fatto gli legarono le mani dietro le spalle e passato in un modo scorsoio intorno alla gola lo attaccarono dentro l'uomo al ramo di una grossa percia detta la percia grande poi si posero là seduti sull'erba aspettando che il burattino facesse l'ultimo sgambetto ma il burattino dopo tre ore aveva sempre gli occhi aperti la bocca chiusa e sgambettava tutte le mani annoiati finalmente di aspettare si voltarono a Pinocchio e gli dissero sguignazzando addio a domani quando domani torneremo qui si spera che ci farai la garbatizza di farti trovare ben nel morto e con la bocca spalancata detto fatto gli legarono le mani dietro le spalle e passato un nodo scorsoio intorno alla gola lo attaccarono penzoloni al ramo di una grossa pianta detta la quercia grande poi si posero là seduti sull'erba aspettando che il burattino facesse l'ultimo sgambetto ma il burattino dopo tre ore aveva sempre gli occhi aperti la bocca chiusa e sgambettava più che mai annoiati finalmente di aspettare si voltarono a Pinocchio e gli dissero sguignazzando addio a domani quando domani torneremo qui si spera che ci farai la garbatezza di farti trovare bello e morto e con la bocca spalancata e se ne andarono intanto sarà levato un vento impetuoso di tramontana che soffiando e mucchiando con rabbia sbattichiava in qua e là il povero impiccato facendo dondolare violentemente come il battaglio di una campana che suonava festa e quel dondolio gli cagionava acutissimi spasmi e il nodo scorsoio stringendosi sempre più alla gola gli toglieva il respiro a poco a poco gli occhi gli si appannarono e sebbene sentisse avvicinarsi la morte pure sperava sempre che da un momento all'altro sarebbe capitata qualche anima pietosa a dargli un aiuto una mano ma quando aspetta aspetta vide che non compariva nessuno proprio nessuno allora gli tornò in mente il suo povero babbo e barbettò quasi moribondo oh babbo mio se tu fossi qui e non ebbe fiato per dir altro chiuse gli occhi aprì la bocca stirò le gambe e dato un grande scrollone rimase lì come intirizzito la bella bambina dai capelli turchini fa raccogliere il burattino lo mette a letto e chiama tre medici per sapere se sia vivo o morto in quel mentre che il povero Pinocchio impiccato dagli assassini ha un ramo della quercia grande pareva ormai più morto che vivo la bella bambina dai capelli turchini si affacciò da capo alla finestra e impietositasi alla vista di quell'infelice che sospeso per il collo ballava il trescone alle ventate di tramontana battè per tre volte le mani insieme e fece tre piccoli colpi a questo segnale si sentì un gran rumore di ali che volavano con foga precipitosa e un grosso falco venne a posarsi sul davanzale della finestra che cosa comandate mia graziosa fata disse il falco abbassando il becco in atto di riverenza perché bisogna sapere che la bambina dai capelli turchini non era altro in fin dei conti che una buonissima fata che da più di mill'anni abitava nelle vicinanze di quel bosco vedi tu quel burattino attaccato penzoloni a un ramo della quercia grande lo vedo or bene vola subito laggiù rompi col tuo fortissimo becco il nodo che lo tiene sospeso in aria e posalo delicatamente sdraiato sull'erba a piede la quercia il falco volò via e dopo due minuti tornò dicendo quel che mi avete comandato è fatto e come l'hai trovato vivo o morto a vederlo pareva morto ma non deve essere ancora morto per bene perché appena gli ho sciolto il nodo scorsoio che lo stringeva intorno alla gola ha lasciato andare un sospiro balbettando mezza voce ora mi sento meglio allora la fata battendo le mani insieme fece due piccoli colpi e apparve un magnifico can barbone che camminava ritto sulle gambe di dietro tale quale come se fosse un uomo il can barbone era vestito da cocchiere in livrea di gana aveva in capo un nicchiettino a tre punte gallonato d'oro una parrucca bianca con i riccioli che gli scendevano giù per il collo una giubba color di cioccolata con i bottoni di brillanti e con due grandi tasche per tenervi gli ossi che gli regalava a pranzo la padrona un paio di calzoni corti di velluto cremisi le calze di seta gli scarpini scollati e di dietro una specie di fodera da ombrelli tutta di raso turchino per mettervi dentro la coda quando il tempo cominciava a piovere su da bravo medoro disse la pata il cam barbone fa subito attaccare la più bella carrozza della mia scuderia e prendi la via del bosco arrivato che sarai sotto la quercia grande troverai disteso sull'erba un povero burattino mezzo morto raccoglilo con garbo posalo pari pari sui cuscini della carrozza e portamelo qui hai capito il cam barbone per fare intendere che aveva capito dimenò tre o quattro volte la fodera di raso turchino che aveva dietro e partì come un barbero di lì a poco si vide uscire dalla scuderia una bella carrozzina color dell'aria tutta imbottita di penne di canarino e foderata all'interno di panna montata e di crema coi savoiardi la carrozzina era tirata da cento pariglie di topini bianchi e il can carbone seduto a cassetta schioccava la frussa a destra e a sinistra come un vetturino quando ha paura di aver fatto tardi non era ancora passato un quarto d'ora che la carrozzina tornò e la fata che stava aspettando sull'uscio di casa prese in collo il povero burattino e portatolo in una cameretta che aveva le pareti di madre perla mandò subito a chiamare i medici più famosi del vicinato e i medici arrivarono subito uno dopo l'altro arrivò cioè un corvo una civetta e un grillo parlante vorrei sapere da lor signori disse la fata rivolgendosi ai tre medici riuniti intorno al letto di Pinocchio vorrei sapere da lor signori se questo disgraziato burattino sia vivo o morto a questo invito il corvo facendosi avanti per primo tastò il polso Pinocchio poi il naso poi il dito mignolo dei piedi e quando ebbe tastato ben bene pronunziò solennemente queste parole a mio credere il burattino è bello e morto ma se per disgrazia non fosse morto allora sarebbe indizio sicuro che è sempre vivo mi dispiace disse la civetta di dover contraddire il corvo mio illustre amico e collega per me invece il burattino è sempre vivo ma se per disgrazia non fosse vivo allora sarebbe segno che è morto davvero e lei non dice nulla domandò la fata al grillo parlante lo dico che il medico prudente quando non sa quel che dice la miglior cosa che possa fare è quella di stare zitto del resto quel burattino lì non m'è fisionomia nuova io lo conosco da un pezzo Pinocchio che fino allora era stato immobile come un vero pezzo di legno ebbe una specie di fremito convulso che fece scuotere tutto il letto quel burattino lì seguitò a dire il grillo parlante è una birba matricolata Pinocchio aprì gli occhi e li richiuse subito è un monellaccio uno svogliato un vagabondo Pinocchio si nascose la faccia sotto i lenzuoli quel burattino lì è un figliuolo disobbediente che farà morire di crepacuore il suo povero babbo a questo punto si sentì nella camera un suono soffocato e di pianti di singhiozzi figuratevi come rimasero tutti allorché sollevati un poco i lenzuoli si accorsero che quello che piangeva singhiozzava era Pinocchio quando il morto piange è segno che è in via di guaragione disse solennemente il corvo mi duele con di contraddire il mio lustro amico e collega soggiunse la civetta ma per me quando il morto piange è segno che gli dispiace a morire Pinocchio mangia lo zucchero ma non vuole purgarsi però quando vede i vecchini che vengono a portarlo via allora si purga poi dice una bugia e per gastipo il cresce il naso appena i tre medici furono usciti di camera la fata si accostò a Pinocchio e dopo averlo toccato sulla fronte si accorse che era travagliato da un febbrone da non seguire allora sciolse una certa polverina bianca in mezzo di chiè d'acqua e porgendola al burattino gli disse amorosamente bevila e in pochi giorni sarei guarito Pinocchio guardò il bicchiere storse un po' la bocca e poi gli mandò con voce di pianisteo è dolce e amara è amara ma ti farà bene sei amara non la voglio dareta a me bevila a me l'amaro non piace bevila e quando l'avrai bevuta ti darò una pallina di zucchero per rifarti la bocca dov'è la pallina di zucchero? eccola qui disse la fata tirandola fuori da una zuccheriera d'oro prima voglio la pallina di zucchero e poi beverò quella quaccia amara me lo prometti sì la fata vedete la pallina e Pinocchio dopo averla sgranocchiata e ingoiata e un attimo disse leccando si baffi bella cosa se anche lo zucchero fosse una medicina mi imporgherai tutti i giorni ora mantieni la promessa e bevi queste poche gocciole d'acqua che ti renderanno la salute Pinocchio prese di maravoglio il bicchiere in mano e vi ficcò dentro la punta del naso poi se la accostò alla bocca poi tornò a ficcarci la punta del naso e finalmente disse è troppo amara io non la posso bere come fai a dirlo se non l'hai nemmeno assaggiata me lo figuro l'ho sentita l'odore voglio prima un'altra pallina di zucchero e poi la beverò allora la fata con tutta la pazienza di una buona mamma gli pose in bocca un altro po' di zucchero e dopo gli presentò da capo il bicchiere così non la posso bere disse il murattino facendo mille smorfie perché? perché mi dà noia quel guanciale che ho laggiù sui piedi la fata gli legò il guanciale oh inutile nemmeno così la posso bere cos'altro ti dà noia? mi dà noia l'uscio di camera che è mezzo aperto la fata andò e chiuse l'uscio di camera insomma gridò Pinocchio dandogli uno scoppio di pianto questa quaccia amara non la voglio bere no 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 ragazzo mio te ne pentirai non me ne importa la tua malattia è grave non mi importa la febbre ti porterà in poche ore all'altro mondo non me ne importa non hai paura della morte? nessuna paura piuttosto morire che bevere quella medicina cattiva a questo punto la porta della camera si spalancò e ne entrarono dentro quattro conigli neri come l'inchiostro che portavano sulle spalle una piccola barra da morto che cosa volete da me? gridò Pinocchio rizzandosi tutto impaurito a sedere sul letto siamo venuti a prenderti rispose il coniglio più grosso a prendermi ma io non sono ancora morto ancora no ma ti restano pochi minuti di vita avendo tu riscusato di bere la medicina che ti avrebbe guarito della febbre oh fata mia oh fata mia cominciò allora a strillare il burattino datemi subito quel bicchiere spicciatevi per carità perché non voglio morire no non voglio morire e preso il bicchiere con tutte e due le mani lo votò in un fiato pazienza dissero i conigli per questa volta abbiamo fatto il viaggio a ufo e tiratisi di nuovo la piccola bara sulle spalle uscirono di camera bofocchiando e mormorando fra i denti fatto sta che di lì a pochi minuti Pinocchio saltò giù dal letto bell'è guarito perché bisogna sapere che i burattini di legno hanno il privilegio di ammalarsi di rado e di guarire prestissimo e la fata vedendolo correre e ruzzare per la camera vispo e allegro come un gallettino di primo canto gli disse dunque la mia medicina t'ha fatto bene davvero altro che bene mi ha rimesso al mondo e allora come mai ti sei fatto tanto pregare a beverla egli è che noi ragazzi siamo tutti così abbiamo più paura delle medicine che del male vergogna i ragazzi dovrebbero sapere che un buon medicamento preso a tempo può salvarli da una grave malattia e forse anche dalla morte oh ma un'altra volta non mi farò tanto pregare mi rammenterò di quei conigli neri con la bara sulle spalle e allora piglierò subito il bicchiere in mano e giù ora vieni un po' qui da me e raccontami come andò che ti trovasti fra le mani degli assassini gli andò che il burattinaio mangia fuoco mi dette cinque monete d'oro e mi disse portere al tuo babbo e io invece per la strada trovai una volpe e un gatto due persone molto per bene che mi dissero vuoi che codeste monete diventino mille e duemila vieni con noi e ti condurremo al campo dei miracoli e io dissi andiamo e loro dissero fermiamoci qui all'osteria del gambero rosso e dopo la mezzanotte ripartiremo e io quando mi svegliai loro non c'erano più perché erano partiti allora io cominciai a camminare di notte che era un buio che pareva impossibile per cui trovai per la strada due assassini dentro due sacchi da carbone che mi dissero metti fuori i quattrini io dissi non ce n'ho perché le monete d'oro me le ero nascoste in bocca e uno degli assassini si provò a mettermi la mano in bocca e io con un morso gli staccai la mano e poi la sputai ma invece di una mano sputai uno zampetto di gatto e gli assassini a corrermi dietro e io corri che ti corro finché mi raggiunsero e mi legarono con il collo a un albero di questo bosco col dire domani torneremo qui e allora sarai morto e con la bocca aperta e così ti porteremo via le monete d'oro che nascoste sotto la lingua e ora le quattro monete dove le hai messe gli domandò la fata le ho perdute rispose Pinocchio ma disse una bugia perché invece le aveva in tasca appena detta la bugia il suo naso che era già lungo gli crebbe subito due dita di più e dove le hai perdute nel bosco qui vicino a questa seconda bugia il naso seguitò a crescere se le hai perdute nel bosco vicino disse la fata le cercheremo e le ritroveremo perché tutto quello che si perde nel vicino bosco si ritrova sempre ah ora che mi rammento bene replicò il burattino imbrogliandosi le quattro monete non le ho perdute ma senza vedermene le ho inghiottite mentre bevevo la vostra medicina a questa terza bugia il naso gli si allungò in un modo così straordinario che il povero Pinocchio non poteva più girarsi da nessuna parte se si voltava di qui batteva il naso nel letto o nei vetri della finestra se si voltava di là lo batteva nelle pareti o nella porta di camera se alzava un po' più il capo correva il rischio di ficcarlo in un occhio alla fata e la fata lo guardava e rideva perché ridete gli domandò il burattino tutto confuso impensierito di quel suo naso che cresceva a occhiate rido della bugia che hai detto come mai sapete che ho detto una bugia le bugie ragazzo mio si riconoscono subito perché ve ne sono di due specie vi sono le bugie che hanno le gambe corte e le bugie che hanno il naso lungo la tua per l'appunto è di quelle che hanno il naso lungo Pinocchio non sapendo più dove nascondersi per la vergogna si provò a fuggire di camera ma non gli riuscì il suo naso era cresciuto tanto che non passava più dalla porta Pinocchio ritrova la volpe e il gatto e va con loro a seminare le quattro monete nel campo dei miracoli come potete immaginarvelo la fata lasciò che il burattino piangesse e urlasse una buona mezz'ora a motivo di quel suo naso che non passava più dalla porta di camera e lo fece per dargli una severa lezione e perché si correggesse dal brutto vizio di dire le bugie il più brutto vizio che possa avere un ragazzo ma quando lo vide trasfigurato e con gli occhi fuori dalla testa dalla gran disperazione allora mossa la pietà batte le mani insieme e a quel segnale entrarono in camera dalla finestra un migliaio di grossi uccelli chiamati picchi i quali posati tutti sul naso di Pinocchio cominciarono a beccarglielo tanto e poi tanto che in pochi minuti quel naso enorme e spropositato si trovò ridotto alla sua grandezza naturale quanto siete buona fata mia disse il burattino asciugandosi gli occhi e quanto bene vi voglio ti voglio bene anch'io rispose la fata e se tu vuoi rimanere con me tu sarai il mio fratellino e io la tua buona sorellina io resterei volentieri ma il mio povero babbo ho pensato a tutto il tuo babbo è stato di già avvertito e prima che faccia notte sarà qui davvero ridò Pinocchio saltando dall'allegrezza allora fatina mia se vi contentate vorrei andare l'incontro non vedo l'ora di poter dare un bacio a quel povero vecchio che ha sofferto tanto per me va pure ma bada di non ti sperdere prendi la via del bosco e sono sicura che lo incontrerai Pinocchio partì e appena entrato nel bosco cominciò a correre come un capriolo ma quando fu arrivato a un certo punto quasi in faccia alla quercia grande si fermò perché gli parve di aver sentito gente fra mezzo le frasche di fatti vide apparire sulla strada indovinate chi la volpe e il gatto ossia i due compagni di viaggio con i quali aveva cenato all'osteria del gambero rosso ecco il nostro caro Pinocchio gridò la volpe abbracciandolo e baciandolo come mai sei qui come mai sei qui ripete il gatto è una storia lunga disse il burattino e ve la racconterò a comodo sappiate però che l'altra notte quando mi avete lasciato solo sull'osteria ho trovato gli assassini per la strada gli assassini oh povero amico e che cosa volevano mi volevano rubare le monete d'oro infami disse la volpe infamissimi ripete il gatto ma io cominciai a scappare continuò a dire il burattino e l'oro sempre dietro finché mi raggiunsero e mi piccarono a un ramo di quella quercia e Pinocchio accennò la quercia grande che era lì a due passi si può sentir di peggio disse la volpe in che mondo siamo condannati a vivere dove troveremo un rifugio sicuro noi altri galantuomini nel tempo che parlava così Pinocchio si accorse che il gatto era zoppo dalla gamba destra davanti perché gli mancava in fondo tutto lo zampetto con gli unghioli per cui gli domandò che cosa hai fatto del tuo zampetto il gatto voleva rispondere qualche cosa ma si imbrogliò allora la volpe disse subito il mio amico è troppo modesto e per questo non risponde risponderò io per lui sappi dunque che un'ora fa abbiamo incontrato sulla strada un vecchio lupo quasi svenuto dalla fame che ci ha chiesto un po' dell'emosina non avendo noi da dargli nemmeno una lisca di pesce che cosa ha fatto l'amico mio che ha davvero un cuore di Cesare si è staccato coi denti uno zampetto delle sue gambe davanti e l'ha gettata con la povera bestia perché potesse sdigiunarsi e la volpe nel dir così si asciugò una lacrima Pinocchio commosso anche lui si avvicinò al gatto sussurrandogli negli orecchi se tutti i gatti ti somigliassero fortunati i topi e ora che fai in questi luoghi domandò la volpe al burattino aspetto il mio babbo che deve arrivare qui di momento in momento e le tue monete d'oro le ho sempre in tasca meno una che le ha spese all'osteria del gambero rosso e pensare che invece di quattro monete potrebbero diventare domani mille e duemila perché non hai rete il mio consiglio perché non vai a seminarle nel campo dei miracoli oggi è impossibile vi anderò un altro giorno un altro giorno sarà tardi disse la volpe perché perché quel campo è stato comprato da un gran signore e da domani in là non sarà più permesso a nessuno seminarvi i denari quant'è distante di qui il campo dei miracoli due chilometri appena vieni con noi fra mezz'ora sei là semini subito le quattro monete dopo pochi minuti nel raccogli duemila e stasera ritorni qui con le tasche piene vuoi venire con noi Pinocchio esitò un po' a rispondere perché gli tornò in mente la buona fata il vecchio geppetto e gli avvertimenti del grillo parlante ma poi finì col fare come fanno tutti i ragazzi senza un fil di giudizio e senza cuore finì cioè con dare una scrollatina di capo e disse alla volpe e al gatto andiamo pure io vengo con voi e partirono dopo aver camminato una mezza giornata arrivarono a una città che aveva nome a Chiappa Citrulli appena entrato in città Pinocchio vide tutte le strade popolate di cani spelacchiati che sbadigliavano dall'appetito di pecore tosate che tremavano dal freddo di galline rimaste senza cresta e senza bargigli che chiedevano l'elemosina d'un chicco di gran turco di grosse farfalle che non potevano più volare perché avevano venduto le loro bellissime ali colorite di pavoni tutti scodati che si vergognavano di farsi vedere e di fagiani che zampettavano che etichetti rimpiangendo le loro scintillanti penne d'oro e d'argento ormai perdute per sempre in mezzo a questa folla di accattoni e di poveri vergognosi passavano di tanto in tanto alcune carrozze signorili con dentro o qualche volpe o qualche gazzaladra o qualche uccellaccio di rapina e il campo dei miracoli dov'è? domandò Pinocchio è qui a due passi detto fatto traversarono la città e usciti fuori dalle mura si fermarono in un campo solitario che su per giù somigliava a tutti gli altri campi eccoci giunti disse la volpe al burattino ora chinati giù a terra scava con le mani una piccola buca nel campo e mettici dentro le monete d'oro Pinocchio obbedì scavò la buca ci pose le quattro monete d'oro che gli erano rimaste e dopo ricoprì la buca con un po' di terra ora poi disse la volpe va alla gora qui vicina prendi una secchia d'acqua e annaffia il terreno dove hai seminato Pinocchio andò alla gora e perché non aveva lì per lì una secchia si levò di piedi una ciabatta e riempita la d'acqua annaffiò la terra che copriva la buca poi domandò c'è altro da fare? nient'altro rispose la volpe ora possiamo andare via tu poi ritorna qui fra una ventina di minuti e troverai l'arboscello già spuntato dal suolo e coi rami tutti carichi di monete il povero burattino fuori di sé dalla contentezza ringraziò mille volte la volpe e il gatto e promise loro un bellissimo regalo noi non vogliamo regali risposero quei due malanni a noi ci basta di averti insegnato il modo di arricchire senza durare fatica e siamo contenti come Pasque ciò detto salutarono Pinocchio e augurandogli una buona raccolta se ne andarono per i fatti loro Pinocchio è derubato delle sue monete d'oro e per castigo si busca quattro mesi di prigione il burattino ritornato in città cominciò a contare i minuti a uno a uno e quando gli parve che fosse l'ora riprese subito la strada che nelava il campo dei miracoli e mentre camminava con passo frettoloso il cuore gli batteva forte e gli faceva tic tac tic tac come un orologio da sala quando corre davvero e intanto pensava dentro di sé e se invece di mille monete ne trovassi sui rami dell'albero duemila e se invece di duemila ne trovassi cinquemila e se invece di cinquemila ne trovassi centomila oh che bel signore allora che diventerei vorrei avere un bel palazzo mille cavallini di legno e mille scuderie per potermi baloccare una cantina di rosoli e di alchermes e una libreria tutta piena di canditi di torte di panattoni di mandorlati e di cialdoni con la panna così fantasticando giunse in vicinanza del campo e lì si fermò a guardare se per caso avesse potuto scorgere qualche albero con i rami carichi di monete ma non vide nulla fece altri cento passi in avanti e nulla entrò sul campo andò proprio su quella piccola buca dove aveva sotterrato i suoi zecchini e nulla allora diventò pensieroso e dimenticando le regole del galatteo e della buona creanza tirò fuori una mano di tasca e si dette una lunghissima grattatina di capo in quel mentre sentì fischiarsi negli orecchi una gran risata voltatosi in su vide sopra un albero un grosso pappagallo che si spollinava le poche penne che aveva addosso perché ridi? gli domandò Pinocchio con voce di bizza rido perché nello spollinarmi mi sono fatto il solletico sotto le ali il burattino non rispose andò alla gora e riempita d'acqua la solita ciabatta si pose nuovamente ad annaffiare la terra che ricopriva le monete d'oro quando quando ecco che un'altra risata anche più impertinente della prima si fece sentire nella solitudine silenziosa di quel campo insomma gridò Pinocchio arrabbiandosi si può sapere pappagallo maleducato di che cosa ridi? rido di quei barbagianni che credono a tutte le scioccherie e che si lasciano trapolare da chi è più furbo di loro parli forse di me? sì parlo di te povero Pinocchio di te che sei così dolce di sale da credere che i denari si possano seminare e raccogliere nei campi come si inseminano i fagioli e le zucche anch'io l'ho creduto una volta e oggi ne porto le pene oggi ma troppo tardi mi son dovuto persuadere che per mettere insieme onestamente pochi soldi bisogna saperseli guadagnare o col lavoro delle proprie mani o con l'ingegno della propria testa non ti capisco disse il burattino che già cominciava a tremare dalla paura pazienza mi spiegherò meglio soggiunse il pappagallo sappi dunque che mentre tu eri in città la volpe e il gatto sono tornati in questo campo hanno preso le monete d'oro sotterrate e poi sono fuggiti come il vento e ora chi li raggiunge è bravo pinocchio restò a bocca aperta e non volendo credere alle parole del pappagallo cominciò con le mani e con le unghie a scavare il terreno che aveva annaffiato e scava 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 fece una buca così profonda che ci sarebbe entrato per rito un pagliaio ma le monete non c'erano più preso allora dalla disperazione tornò di corsa in città e andò di filato in un tribunale per denunziare al giudice i due malandrini che lo avevano derubato il giudice era uno scignone della razza dei gorilla un vecchio scimmione rispettabile per la sua gravetà per la sua barba bianca e specialmente per i suoi occhiali d'oro senza vetri che era costretto a portare continuamente a motivo di una flusione d'occhi che lo tormentava da parecchi anni Pinocchio alla presenza del giudice raccontò per filo e per segno l'iniqua frode di cui era stato vittima dette il nome il cognome e i connotati dei malandrini e finì chiedendo giustizia il giudice lo ascoltò con molta benignità prese rilissima parte al racconto si intenerì si commosse e quando il burattino non ebbe più nulla da dire allungò la mano e sonò il campanello a quella scampanellata comparvero subito due calmastini vestiti da giandarmi allora il giudice accennando Pinocchio ai giandarmi disse loro quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d'oro pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione il burattino sentendosi dare questa sentenza fra capo e collo rimase di princi svecco e voleva protestare ma i giandarmi a scanso di perdite inutili gli tapparono la bocca e la condussero in gattabuia e lì debbe rimanere quattro mesi quattro lunghissimi mesi e vi sarebbe rimasto anche di più se non si fosse dato un caso fortunatissimo perché bisogna sapere che il giovane imperatore che regnava nella città di Acchiappacitrulli avendo riportato una bella vittoria contro i suoi nemici ordinò grandi feste pubbliche luminarie fuochi artificiali corse di barberi e di velocipedi e in segno di maggiore esultanza volle che fossero aperte anche le carceri e mandati fuori tutti i malandrini se escono di prigione gli altri voglio uscire anch'io disse Pinocchio al carceriere voi no rispose il carceriere perché voi non siete del bel numero domando scusa replicò Pinocchio sono un malandrino anch'io in questo caso avete mille ragioni disse il carceriere e levandosi il berretto rispettosamente e salutandolo gli aprì le porte della prigione e lo lasciò scappare liberato dalla prigione si avvia per tornare a casa della fata ma lungo la strada trova un serpente torribile e poi rimane presa la cagliuola figuratevi l'allegrezza di Pinocchio quando si sentì libero senza stare a dire che è che non è uscì subito fuori della città e riprese la strada che doveva ricondurlo alla casina della fata a cagione del tempo più viginoso la strada era diventata tutto un pantano e ci si andava fino a mezza gamba ma il burattino non se ne dava per inteso tormentato dalla passione di rivedere il suo babbo e la sua sorellina dai capelli turchini correva a salti come un canlevriero e nel correre le pillaccher gli schizzavano fin sopra il berretto intanto andava dicendo fra sé e sé quante disgrazie mi sono accadute e me le merito perché io sono un burattino testardo e piccoso e voglio far sempre tutte le cose a modo mio senza dar retta a quelli che mi vogliono bene e che hanno mille volte più giudizio di me ma da questa volta in là faccio proponimento di cambiare vita e di diventare un ragazzo a modo e ubbidiente tanto ormai ho belle visto che i ragazzi a essere disubbidienti ci scapitano sempre e non ne infilano mai una per il suo verso e il mio babbo ne avrà aspettato ce lo troverò a casa della fata è tanto tempo povero uomo che non lo vedo più che mi strugo di fare mille carezze e di finirlo di baci e la fata mi perdonerà la brutazione che le ho fatta e pensare che ho ricevuto da lei tante attenzioni e tante cure amorose e pensare che se oggi sono sempre vivo lo debbo a lei ma si può dare un ragazzo più ingrato e più senza cuore di me nel tempo che diceva così si fermò tutto un tratto spaventato e fece quattro passi indietro che cosa aveva veduto aveva veduto un grosso serpente disteso attraverso la strada che aveva la pelle verde gli occhi di fuoco e la coda puntata che gli fumava come una cappa di camino impossibile immaginarsi la paura del burattino il quale allontanandosi più di mezzo chilometro si misa a sedere sopra un monticello di sassi aspettando che il serpente se ne andasse una buona volta per i fatti suoi e lasciasse libero il passo della strada aspettò un'ora due ore tre ore ma il serpente era sempre là e anche di lontano si vedeva il rosseggiare dei suoi occhi di fuoco e la colonna di fumo che gli usciva dalla punta della coda allora Pinocchio figurandosi di aver coraggio si avvicinò a pochi passi di distanza e facendo una vocina dolce insinuante e sottile disse al serpente scusi signor serpente che mi farebbe il piacere di tirarsi un pochino da una parte tanto da lasciarmi passare fu lo stesso che dire al muro nessuno si mosse allora riprese con la solita vocina deve sapere signor serpente che io vado a casa dove c'è il mio babbo che mi aspetta e che è tanto tempo che non lo vedo più si contenta dunque che io seguiti per la mia strada aspettò un segno di risposta quella dimanda ma la risposta non venne anzi il serpente che fino allora pareva arzillo e pieno di vita diventò immobile e quasi irrigidito gli occhi gli si chiusero e la coda gli smesse di fumare che sia morco davvero disse Pinocchio dandosi una fregatina di mani dalla gran contentezza e senza mettere tempo in mezzo fece l'acqua di scavalcarlo per passare dall'altra pacca della strada ma non aveva ancora finito di alzare la gamba che il serpente si rizzò all'improvviso come una molla scattata e il burattino nel tirarsi indietro spaventato inciampò e cadde per terra e per l'appunto cadde così male che restò col capo conficcato nel fango della strada e con le gambe ritte su in aria alla visca di quel burattino che sgambettava a capofitto con una velocità incredibile il serpente fu preso da una tal convulsione di risa che ridi 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 alla fine dallo sforzo del troppo ridere gli si strappò una vera sul petto e quella volta morì davvero allora Pinocchio ricominciò a correre per arrivare a casa della fata avanti che si facesse buio ma lungo la strada non potendo più reggere ai morsi terribili della fame saltò in un campo con l'intenzione di cogliere poche ciocche ed uva moscadella non l'avesse mai fatto appena giunto sotto la vite crac sentì stringersi le gambe da due ferri taglienti che gli fecero vedere quante stelle c'erano in cielo il povero burattino era rimasto preso a una tagliuola apposcata lato a alcuni contadini per beccarvi alcune grosse faine che erano il fragello di tutti i pollai del vicinato pinocchio pinocchio è preso da un contadino il quale lo costringe a far da candiguardia a un pollaio pinocchio come potete figurarvelo si dette a piangere a strillare a raccomandarsi ma erano pianti e grida inutili perché lì all'intorno non si vedevano case e dalla strada non passava anima viva intanto si fece notte un po' per lo spasimo della tagliuola che gli segava gli stinchi e un po' per la paura di trovarsi solo e al buio in mezzo a quei campi il burattino principiava quasi a svenirsi quando un tratto vedendosi passare una lucciola di sul capo la chiamò e le disse oh lucciolina mi faresti la carità di liberarmi da questo supplizio povero figliuolo repicò la lucciola fermandosi impietosita a guardarlo come mai si è rimasto con le gambe attanagliate fra codesti ferri arrotati sono entrato nel campo per cogliere due grappoli di quest'uva moscadella e ma l'uva era tua no e allora chi ti ha insegnato a portar via la roba degli altri avevo fame la fame ragazzo mio non è una buona ragione per potersi appropriare la roba che non è nostra è vero è vero gridò Pinocchio piangendo ma un'altra volta non lo farò più a questo punto il dialogo fu interrotto da un piccolissimo rumore di passi che si avvicinavano era il padrone del campo che veniva in punta di piedi a vedere se qualcuna di quelle faine che gli mangiavano di nottetempo i polli fosse rimasta presa al trabocchietto della tagliuola e la maraviglia fu grandissima quando tirata fuori la lanterna di sotto al pastrano s'accorse che invece di una faina c'era rimasto preso un ragazzo oh ladracchiolo disse il contadino incollerito dunque sei tu che mi porti via le galline io no io no gridò Pinocchio singhiozzando io sono entrato nel campo per prendere soltanto due grappoli d'uva chi ruba l'uva è capacissimo di rubare anche i polli lascia fare a me che ti darò una lezione da ricordartene per un pezzo e aperta la tagliola afferrò il burattino per la collottola e lo portò di peso fino a casa come si porterebbe un agnellino di latte arrivato che fu sull'aia dinanzi alla casa lo scaraventò in terra e tenendoli un piede sul collo gli disse ormai è tardi e voglio andare a letto i nostri conti li aggiusteremo domani intanto siccome oggi mi è morto il cane che mi faceva la guardia di notte tu prenderai subito il suo posto tu mi farai da cane di guardia detto fatto gli infilò al collo un grosso collare tutto coperto di spunzoni di ottone e glielo strinse in modo da non poterselo levare passandoci la testa di dentro al collare c'era attaccata una lunga catenella di ferro e la catenella era fissata nel muro se questa notte disse il contadino cominciasse a piovere tu puoi andare a cuccia in quel casotto di legno dove c'è sempre la paglia che ha servito di letto per quattro anni al mio povero cane e se per disgrazia venissero i ladri ricordati di stare a orecchi ritti e di abbaiare dopo quest'ultimo avvertimento il contadino entrò in casa chiudendo la porta con tanto di catenaccio e il povero Pinocchio rimase accovacciato sull'aia più morto che vivo a motivo del freddo della fame e della paura e di tanto in tanto cacciandosi rabbiosamente le mani dentro al collare che gli serrava la gola diceva piangendo mi sta bene purtroppo mi sta bene ho voluto fare lo svogliato il vagabondo e ho voluto dar retta ai cattivi compagni e per questo la sfortuna mi perseguita sempre se fossi stato un ragazzino per bene come ce n'è tanti se avessi avuto voglia di studiare e di lavorare se fossi rimasto in casa col mio povero babbo a quest'ora non mi troverei qui in mezzo ai campi a fare il cane di guardia alla casa di un contadino oh se potessi rinascere un'altra volta ma ormai è tardi e ci vuol pazienza fatto questo piccolo sfogo che gli venne proprio dal cuore entrò dentro il casotto e si addormentò capitolo ventiduesimo Pinocchio scuopre i ladri e in ricompensa di essere stato fedele vi è imposto in libertà ed era già più di due ore che dormiva saporitamente quando verso la mezzanotte fu svegliato da un bisbiglio e da un pissi pissi di vocine strane che gli parve di sentire nell'aria messa fuori la punta del naso dalla buca del casotto vide riunita a consiglio quattro bestiuole di pelame scuro che parevano gatti ma non erano gatti erano faine animaletti carnivori gliottosissimi specialmente d'uova e di pollastrine giovani una di queste faine staccandosi dalle sue compagne andò alla buca del casotto e disse sottovoce buonasera melampo io non mi chiamo melampo rispose il burattino o dunque chi sei? io sono Pinocchio e che cosa fai costi? faccio il cane di guardia un melampo dov'è? dov'è il vecchio cane che stava in questo casotto? è morto questa mattina morto? povera bestia era tanto buono ma giudicandoti dalla fisionomia anche te mi sembri un cane di garbo domando scusa io non sono un cane o chi sei? io sono un burattino e fai da cane di guardia? purtroppo per mia punizione ebbene io ti propongo gli stessi patti che avevo col defunto melampo e sarai contento e questi patti sarebbero? noi verremmo una volta alla settimana come per il passato a visitare di notte questo pollaio e porteremo via otto galline di queste galline sette le mangeremo noi e una la daremo a te a condizione si intende bene che tu faccia finta di dormire e non ti venga mai l'estro di abbaiare e di svegliare il contadino e melampo faceva proprio così? domandò Pinocchio faceva così e fra noi e lui siamo sempre andati d'accordo dormi dunque tranquillamente stai sicuro che prima di partire di qui ti lasceremo sul casotto una gallina bella e pelata per la colazione di domani ci siamo intesi bene anche troppo bene rispose Pinocchio e tentennò il capo in un certo modo minaccioso come se avesse voluto dire fra poco ci riparleremo quando le tre faine si credettero sicure del fatto loro andarono difilato al pollaio che rimaneva appunto vicinissimo al casotto del cane e aperta a furia di denti e di un violi la porticina di legno che ne chiudeva l'entrata li sgusciarono dentro una dopo l'altra ma non erano ancora finite d'entrare e sentirono la porticina richiudersi con grandissima violenza quello che l'aveva richiusa era Pinocchio il quale non contento di averla richiusa vi posò davanti per maggior sicurezza una grossa pietra a guisa di puntello e poi cominciò ad abbaiare e abbaiando proprio come se fosse un cane di guardia faceva con la voce bu 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 a quella abbaiata il contadino saltò il letto e preso il fucile e affacciatosi alla finestra domandò che c'è di nuovo ci sono i ladri rispose Pinocchio dove sono nel pollaio ora scendo subito e di fatti un men che si dice il contadino scese entrò di porta nel pollaio e dopo aver acchiappate e rinchiusa in un sacco le quattro faine disse loro con accento di vera contentezza alla fine siete cascate nelle mie mani potrei ponervi ma sì vil non sono mi contenterò invece di portarvi domani all'osta del vicino paese il quale vi spellerà e vi cucinerà a uso lepre dolce e forte e quindi un onore che non vi meritate ma gli uomini generosi come me non badano queste piccolizze avvicinatosi a Pinocchio quindi cominciò a fargli molte carezze e fra le altre cose gli domandò come hai fatto a scoprire il complotto di queste quattro ladoncelle e dire che Melampo il mio fido Melampo non si era mai accorto di nulla il burattino allora avrebbe potuto raccontare quel che sapeva avrebbe potuto cioè raccontare i patti vergognosi che passavano fra il cane e le faine ma ricordatosi che il cane era morto pensò subito dentro di sé a che serve accusare i morti i morti sono morti e la miglior cosa che si possa fare è quella di lasciarli in pace all'arrivo delle faine sull'aia eri sveglio o dormivi continuò a chiedergli il contadino dormivo rispose Pinocchio ma le faine mi hanno svegliato coi loro chiacchiericci e una è venuta fin qui al casotto per dirmi se prometti di non abbaiare e di non svegliare il padrone noi ti regaleremo una pollastra bella e pelata capite avere la sfacciataggine di fare a me una simile proposta perché bisogna sapere che io sono un burattino che avrò tutti i difetti di questo mondo ma non avrò mai quello di star di balla e di reggere il sacco alla gente di soletta bravo ragazzo gridò il contadino battendogli su una spalla cotesti sentimenti ti fanno onore e per provarti la mia grande soddisfazione ti lascio libero fin d'ora di tornare a casa e gli levò il collare da cane capitolo 23 Pinocchio piange la morte della bella bambina dai capelli turchini poi trova un colombo che lo porta sulla riva del mare e lì si getta nell'acqua per andare in aiuto del suo babbo Geppetto appena Pinocchio non sentì più il peso durissimo e umiliante di cui collare intorno al collo si pose a scappare attraverso i campi e non si fermò un solo minuto finché non ebbe raggiunta la strada maestra che doveva ricondurlo alla casina della fata arrivato sulla strada maestra si voltò in giù a guardare nella sottoposta pianura e vide benissimo a occhio nudo il bosco dove disgraziatamente aveva incontrato la volpe e il gatto vide fra mezzo agli alberi innalzarsi la cima di quella quercia grande alla quale era stato appeso ciondoloni per il collo ma guarda di qui guarda di là non gli fu possibile di vedere la piccola casa della bella bambina dai capelli turchini allora ebbe una specie di tristo presentimento e datosi a correre con quanta forza gli rimaneva nelle gambe si trovò in pochi minuti sul prato dove sorgeva una volta la casina bianca ma la casina bianca non c'era più c'era invece una piccola pietra di marmo sulla quale si leggevano in carattere stampatello queste dolorose parole qui giace la bambina dai capelli turchini morta di dolore per essere stata abbandonata dal suo fratellino Pinocchio come rimanesse il burattino quando ebbe compitate alla peggio quelle parole lo lascio pensare a voi cadde bocconi a terra e coprendo di mille baci quel marmo mortuario dette un grande scoppio di pianto pianse tutta la notte e la mattina dopo sul far del giorno piangeva sempre sebbene negli occhi non avesse più lacrime e le sue grida e i suoi lamenti erano così strazianti ed acuti che tutte le colline all'intorno ne ripetevano l'eco e piangendo diceva oh fatina mia perché sei morta perché invece di te non sono morto io che sono tanto cattivo mentre tu eri tanto buona e il mio babbo dove sarà oh fatina mia dimmi dove posso trovarlo che voglio stare sempre con lui e non lasciarlo più 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 oh fatina mia dimmi che non è vero che sei morta se davvero mi vuoi bene se vuoi bene al tuo fratellino rivivisci ritorna viva come prima non ti dispiace di vedermi solo abbandonato da tutti se arrivano gli assassini mi attaccheranno da capo al ramo al ramo dell'albero e allora morirò per sempre che vuoi che io faccia qui sola qui solo in questo mondo ora che ho perduto te e il mio babbo chi mi darà da mangiare dove anderò a dormire la notte chi mi farà la giacchettina nuova o sarebbe meglio cento volte meglio che morisse anch'io sì voglio morire e mentre si disperava a questo modo fece l'atto di volersi strappare i capelli ma i suoi capelli essendo di legno non potè nemmeno levarsi il gusto di ficcarci dentro le dita intanto passò su per aria un grosso colombo il quale soffermatosi alle distese gli gridò da una grande altezza dimmi bambino che cosa fai con sta giù non lo vedi piango disse Pinocchio alzando il capo verso quella voce e strofinandosi gli occhi con la manica della giacchetta dimmi soggiunse allora il colombo non conosci per caso fra i tuoi compagni un burattino che ha un nome Pinocchio Pinocchio hai detto Pinocchio ripetè il burattino saltando subito in piedi Pinocchio sono io il colombo a questa risposta si calò velocemente e venne a posarsi a terra era più grosso di un tacchino conoscerai dunque anche Geppetto domandò al burattino se lo conosco è il mio povero babbo ti ha forse parlato di me mi conduci da lui ma è sempre vivo rispondimi per carità è sempre vivo l'ho lasciato tre giorni fa sulla spiaggia del mare che cosa faceva si fabbricava da sé una piccola barchetta per traversare l'oceano quei pover uomo sono più di quattro mesi che gira per il mondo in cerca di te e non avendoti potuto mai trovare ora si è messo in capo di cercarti nei paesi lontani del nuovo mondo quanto c'è di qui alla spiaggia domandò Pinocchio con ansia affannosa più di mille chilometri mille chilometri o colombo mio che bella cosa potessi avere le tue ali se vuoi venire ti ci porto io come? a cavallo sulla mia groppa sei peso di molto? peso tutt'altro sono leggero come una foglia e lì senza stare a dire altro Pinocchio saltò sulla groppa al colombo e messa una gamba di qui e l'altra di là come fanno i cavallerizi gridò tutto contento galoppa galoppa cavallino che mi preme di arrivare presto il colombo prese la ire e in pochi minuti arrivò col volo tanto in alto che toccava quasi le nuvole giunto a quell'altezza straordinaria il burettino ebbe la curiosità di voltarsi in giù a guardare e fu preso da tanta paura e da tali giracapi che per evitare il pericolo di venire di sotto si avviticchiò con le braccia stretto stretto al collo della sua piumata cavalcatura volarono tutto il giorno sul far della sera il colombo disse ho una gran sete e io ho una gran fame soggiunse Pinocchio fermiamoci a questa colombaia pochi minuti e dopo ci rimetteremo in viaggio per essere domattina all'alba sulla spiaggia del mare entrarono in una colombaia deserta dove c'era soltanto una catinella piena d'acqua e un cestino ricolmo di vecce il burattino in tempo di vita sua non aveva mai potuto patire le vecce a sentir lui gli facevano nausea gli rivoltavano lo stomaco ma quella sera ne mangiò a strippa pelle e quando le ebbe quasi finite si rivoltò il colombo e gli disse ehi non avrei mai creduto che le vecce fossero così buone gnam bisogna persuadersi ragazzo mio replicò il colombo che quando la fame dice davvero e non c'è altro da mangiare anche le vecce diventano squisite la fame non ha capricci né ghiottonerie fatta la svelta un piccolo spuntino riprese del viaggio e via la mattina dopo arrivarono sulla spiaggia del mare il colombo posò a terra finocchio e non volendo nemmeno la seccatura di sentirsi ringraziare per aver fatto una buona azione riprese subito il volo e sparì la spiaggia era piena di gente che urlava e gesticolava guardando verso il mare guarda laggiù guarda laggiù laggiù cosa è accaduto domandò finocchio a una vecchina gli è accaduto che un povero babbo avendo perduto il figliolo gli è voluto entrare in una barchetta per andare a cercarlo di là dal mare e il mare oggi è molto cattivo e la barchetta sta per andare sott'acqua dov'è la barchetta eccola laggiù guarda dritto al mio dito disse la vecchia accennando a una piccola barca che veduta a quella distanza pareva un guscio di noce con dentro uno meno piccino 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 gridando gli è mi babbo gli è mi babbo intanto la barchetta sbattuta dall'infuriare delle onde ora spariva fra i grossi cavalloni ora tornava a galleggiare ora spariva ora tornava a galleggiare e Pinocchio ritto sulla punta di un alto scoglio non finiva più di chiamare il suo babbo per nome e di fargli molti segnali con le mani col moccichino dal naso e perfino col berretto che aveva in capo e parve che Geppetto sebbene fosse molto lontano dalla spiaggia riconoscesse il figliolo poiché si levò il berretto anche lui e lo salutò e a furia di gesti gli fece capire che sarebbe tornato volentieri indietro ma il mare era tanto grosso che gli imperiva di lavorare col remo e di potersi avvicinare a terra tutto a un tratto venne una terribile ondata e la barca pari aspettarono che la barca tornasse a galla ma la barca non si vide più tornare povero uomo povero uomo povero uomo dissero allora i pescatori che erano raccolti sulla spiaggia e brontolando sotto voce una preghiera si mossero per tornarsene alle loro case povero come hai visto hai visto hai visto dove andare mamma mia povero povero quando ecco che udirono un urlo disperato e voltandosi indietro videro un ragazzetto che diventa uno scoglio si gettava in mare gridando voglio salvare il mio babbo Pinocchio che stendo tutto di lento salitava facilmente si notava come un pesce ora si vedeva sparire sott'acqua portato dall'impeto dai flutti ora riappariva fuori con una gamba o con un braccio a grandissima distanza da terra alla fine lo persero d'occhio e non lo videro più povero ragazzo dissero allora i pescatori che erano raccolti sulla spiaggia e brontolando sotto voce una preghiera tornarono alle loro case povero ragazzo povero ragazzo Pinocchio arriva all'isola delle api industriose e ritrova la fata Pinocchio animato dalla speranza di arrivare in tempo a dare aiuto al suo povero babbo nuotò tutta quanta la notte e che orribile nottata fu quella diluvio grandinò tuonò spaventosamente e con certi lampi che pareva di giorno sul far del mattino gli riuscì di veder poco distante una lunga striscia di terra era un'isola in mezzo al mare allora fece di tutto per arrivare a quella spiaggia ma inutilmente le onde rincorrendosi accavallandosi se lo abballottavano fra di loro come se fosse stato un fuscello o un filo di paglia alla fine e per sua buona fortuna venne un'ondata tanto prepotente e impetuosa che lo scaraventò di peso sull'arena del lido il colpo fu così forte che battendo in terra gli crocchiarono tutte le costole e tutte le congiunture ma si consolò subito col dire anche per questa volta l'ho scampata bella intanto a poco a poco il cielo si rasserenò il sole apparve fuori in tutto il suo splendore e il mare diventò tranquillissimo e buono come un olio allora il burattino distese i suoi panni al sole per asciugarli e si pose a guardare di qua e di là se per caso avesse potuto scorgere su quell'immensa spianata d'acqua una piccola barchetta con un omino dentro ma dopo aver guardato ben bene non vide altro dinanzi a sé che cielo mare e qualche vela di bastimento ma così lontana lontana che pareva una mosca sapessi almeno come si chiama quest'isola andava dicendo sapessi almeno se quest'isola è abitata da gente di garbo voglio dire da gente che non abbia il vizio di attaccare i ragazzi ai rami degli alberi ma a chi mai posso domandarlo a chi se non c'è nessuno questa idea di trovarsi solo solo in mezzo a quel gran paese disabitato gli mise addosso tanta malinconia che stava lì per piangere quando ad un tratto vide passare a poca distanza dalla riva un grosso pesce che se ne andava tranquillamente per i fatti suoi con tutta la testa fuori dell'acqua non sapendo come chiamarlo per nome il burattino gli gridò a voce alta per farsi sentire ehi signor pesce che mi permetterebbe una parola anche due rispose il pesce il quale era un delfino così garbato come se ne trovano pochi in tutti i mari del mondo mi farebbe il piacere di dirmi se in quest'isola ci sono dei paesi dove si possa mangiare senza pericolo d'essere mangiati ve ne sono sicuro rispose il delfino anzi ne troverai uno poco lontano di qui e che strada si fa per andarvi devi prendere quella viottola là a mancina e camminare sempre dritto al naso non puoi sbagliare mi dica un'altra cosa lei che passeggia tutto il giorno e tutta la notte per il mare non avrebbe incontrato per caso una piccola barchettina con dentro il mio babbo e chi è il tuo babbo gli è il più babbo buono del mondo come io sono il figliolo più cattivo che si possa dare con la burrasca che ha fatto questa notte rispose il delfino la barchetta sarà andata sott'acqua e il mio babbo a quest'ora l'avrà indiottito il terribile pesce cane che da qualche giorno è venuto a spalgere lo sterminio e la desolazione nelle nostre acque che è grosso di molto questo pesce cane domandò Pinocchio che di già cominciava a tremare dalla paura si gli è grosso replicò il delfino perché tu possa fartene un'idea ti dirò che è più grosso di un casamento di cinque piani ed ha una boccaccia così larga e profonda che ci passerebbe comodamente tutto il treno della strada afferrata con la macchina accesa mamma mia gridò spaventato il burattino e rivestitosi in fretta e furia si voltò al delfino e gli disse arrivedella signor pesce scusi tanto l'incomodo e mille grazie della sua garbatezza detto ciò prese subito la viottola e cominciò a camminare di un passo svelto tanto svelto che pareva quasi che corresse e a ogni più piccolo rumore che sentiva si voltava subito a guardare indietro per la paura di vedersi inseguire da quel terribile pesce cane grosso come una casa di cinque piani e con un treno della strada afferrata in bocca dopo aver camminato più di mezz'ora arrivò un piccolo paese detto il paese delle api industriose le strade formicolavano di persone che correvano di qua e di là per loro faccende tutti lavoravano tutti avevano qualche cosa da fare non si trovava un ozioso o un vagabondo nemmeno a cercarlo con l'umicino ho capito disse subito quello sbogliato di Pinocchio questo paese non è fatto per me io non sono nato per lavorare intanto la fame lo tormentava perché erano ormai passate 24 ore che non aveva mangiato più nulla nemmeno una pietanza di vecce che fare non gli restavano che due modi per potersi sdigiunare o chiedere un po' di lavoro o chiedere nell'elemosina un soldo o un boccone di pane a chiedere l'elemosina si vergognava perché il suo babbo gli aveva predicato sempre che l'elemosina hanno il diritto di chiederla solamente i vecchi e gli infermi i veri poveri in questo mondo meritevoli di assistenza e di compassione non sono altro che quelli che per ragioni di età o di malattia si trovano condannati a non potersi più guadagnare il pane col lavoro delle proprie mani tutti gli altri hanno l'obbligo di lavorare e se non lavorano patiscono la fame tanto peggio per loro in quel frattempo passò per la strada un uomo tutto sudato e trafelato il quale da sé solo tirava con gran fatica due carretti carichi di carbone Pinocchio giudicandolo dalla fisionomia per un buon uomo gli si accostò e abbassando gli occhi dalla vergogna gli disse sottovoce mi fareste la carità di darmi un soldo perché mi sento morir dalla fame non un soldo solo rispose il carbonaio ma te ne do quattro a patto che tu mi aiuti a tirare fino a casa questi due carretti di carbone mi meraviglio rispose il burattino quasi offeso per vostra regola io non ho fatto mai il somaro io non ho mai tirato il carretto meglio per te rispose il carbonaio allora ragazzo mio se ti senti davvero morir dalla fame mangia due belle fette della tua superbia e vada di non prendere un'indigestione dopo pochi minuti passò per la via un muratore che portava sulle spalle un corbello di calcina fareste galantuomo la carità ad un soldo a un povero ragazzo che sbaglia dall'appetito volentieri vieni con me a portare calcina rispose il muratore e invece di un soldo te ne darò cinque ma la calcina è pesa replicò Pinocchio e io non voglio durare fatica se non vuoi durare fatica allora ragazzo mio divertiti a sbagliare e buon prontifaccia in men di mezz'ora passarono altre venti persone e a tutte Pinocchio chiese un po' dell'emosina ma a tutte gli risposero non ti vergogni invece di fare il bighellone per la strada va piuttosto a cercarti un po' di lavoro e impara a guadagnarti il pane finalmente passò una donnina che portava due brocche d'acqua vi contentate buona donna che io beva una sorsata d'acqua dalla vostra brocca disse Pinocchio che bruciava dall'arsione della sete bevi pure ragazzo mio disse la donnina posando le due brocche in terra quando Pinocchio ebbe bevuto come una spugna borbottò a mezza voce asciugandosi la bocca la sete me la son levata così mi potessi levar la fame la buona donnina sentendo queste parole soggiunse subito se mi aiuti a portare a casa una di queste brocche d'acqua ti darò un bel pezzo di pane Pinocchio guardò la brocca e non rispose né sì né no e insieme col pane ti darò un bel piatto di cavolfiore condito con l'olio e con l'aceto soggiunse la buona donna Pinocchio dette un'altra occhiata alla brocca e non rispose né sì né no e dopo il cavolfiore ti darò un bel confetto ripieno di rosolio alle seduzioni di quest'ultima ghiottoneria Pinocchio non seppe più resistere e fatto un animo risoluto disse pazienza vi porterò la brocca fino a casa la brocca era molto pesa e il burattino non avendo forza da portarla con le mani si rassegnò a portarla in capo arrivati a casa la buona donna fece sedere Pinocchio a una piccola tavola apparecchiata e gli pose davanti il pane il cavolfiore condito e il confetto Pinocchio non mangiò ma dilupiò il suo stomaco pareva un quartiere rimasto vuoto e disabitato da cinque mesi calmati a poco a poco i morsi rabbiosi della fame allora alzò il capo per ringraziare la sua benefattrice ma non aveva ancora finito di fissarle in volto che cacciò un lunghissimo di meraviglia e rimase là incantato con gli occhi spalancati con la forchetta per aria e con la bocca piena di pane di cavolfiore che cos'è mai tutta questa meraviglia disse ridendo la buona donna egli è rispose balbettando Pinocchio egli è egli è che voi mi somigliate voi mi rammentate sì 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 la stessa voce gli stessi occhi gli stessi capelli sì sì anche voi avete i capelli turchini come lei oh fatina mia oh fatina mia ditemi che siete voi proprio voi non mi fate più piangere se sapeste ho pianto tanto ho patito tanto e nel dir così Pinocchio piangeva dirottamente e gettandosi ginocchioni per terra abbracciava i ginocchi di quella donna misteriosa Pinocchio promette alla fata di essere buono e di studiare perché è stufo di fare il burattino e vuole diventare un bravo ragazzo in sulle prime la buona donna cominciò col dire che lei non era la piccola fata dai capelli turchini ma poi vedendosi ormai scoperta e non volendo mandare più di lungo la commedia finì per farsi riconoscere e disse a Pinocchio birba di un burattino come mai ti sei accorto che ero io gli è il gran bene che vi voglio quello che mi ha detto ti ricordi eh mi lasciasti bambina e ora mi ritrovi donna tanto donna che potrei quasi farti da mamma e io l'ho capito di molto perché così invece di sorellina mi chiamerò la mia mamma gli è tanto tempo che mi struggo di avere una mamma come tutti gli altri ragazzi ma come avete fatto a crescere così presto è un segreto insegnatemelo vorrei crescere un poco anch'io non lo vedete sono sempre rimasto alto con un soldo di caccio ma tu non puoi crescere replicò la fata perché? perché i burattini non crescono mai nascono burattini vivono burattini e muoiono burattini oh sono stufo di fare sempre il burattino gridò Pinocchio dandosi uno scappellotto sarebbe ora che diventassi anch'io un uomo e lo diventerai se saprai meritartelo davvero? e che posso fare per meritarmelo? una cosa facilissima abbezzarti a essere un ragazzino per bene oh che forse non sono tutt'altro i ragazzi per bene sono ubbidienti e tu invece? e io? non ubbidisco mai i ragazzi per bene prende un amore allo studio e al lavoro e tu? e io invece faccio il bighellone e il vagabondo tutto l'anno i ragazzi per bene dicono sempre la verità e io sempre le bugie i ragazzi per bene vanno volentieri alla scuola e a me la scuola mi fa venire i dolori di corpo ma da oggi in poi voglio mutare vita me lo prometti lo prometto voglio diventare un ragazzino per bene e voglio essere la consolazione del mio babbo dove sarà il mio povero babbo a quest'ora? non lo so avrò mai la fortuna di poterlo rivedere e abbracciare credo di sì anzi ne sono sicura a questa risposta fu tale e tanta la contentezza di Pinocchio che prese le mani alla fata e cominciò a baciargliele con tanta foga che pareva quasi fuori di sé poi alzando il viso e guardandola amorosamente le domandò dimmi mammina dunque non è vero che tu sia morta par di no risponde sorridendo la fata se tu sapessi che dolore e che serratura alla gola che provai quando lei si qui giace lo so ed è per questo che ti ho perdonato la sincerità del tuo dolore mi fece conoscere che tu avevi il cuore buono e dai ragazzi buoni di cuore anche se sono un po' monelli e avvezzati male c'è sempre da sperare qualcosa ossia c'è sempre da sperare che rientrino sulla vera strada ecco perché sono venuta a cercarti fin qui io sarò la tua mamma oh che bella cosa gridò Pinocchio saltando dall'allegrezza tu mi ubbidirai e farai sempre quello che ti dirò io volentieri 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 fino da domani soggiunse la fata tu comincerai con l'andare a scuola Pinocchio diventò subito un po' meno allegro poi sceglierai a tuo piacere un'arte o un mestiere Pinocchio diventò serio che cosa ha brontoli fra i denti domandò la fata con accento risentito dicevo mugolo il ragazzino a mezza voce che oramai per andare a scuola mi pare un po' tardi no signore tieni a mente che per istruirsi e per imparare non è mai tardi ma io non voglio fare né arti né mestieri perché perché lavorare mi pare fatica ragazzo mio disse la fata quelli che dicono così finiscono quasi sempre in carcere o all'ospedale l'uomo per tua regola nasca ricco o povero è obbligato in questo mondo a far qualcosa a occuparsi a lavorare guai a lasciarsi prendere dall'ozio l'ozio è una bruttissima malattia e bisogna guarirla subito fin da bambini se no quando siamo grandi non si guarisce più queste parole toccarono l'animo di Pinocchio il quale rialzando vivacemente la testa disse alla fata io studierò io lavorerò io farò tutto quello che mi dirai perché insomma la vita del burattino mi è venuta noia e voglio diventare un ragazzo a tutti i costi me l'hai promesso non è vero? me l'ho promesso e ora dipende da te 26 Pinocchio va con i suoi compagni di scuola in riva al mare per vedere il terribile pesce cane il giorno dopo Pinocchio andò alla scuola comunale figuratevi quelle birbe di ragazzi quando videro entrare nella loro scuola un burattino fu una risata che non finiva più chi li faceva uno scherzo chi un altro chi li levava il berretto di mano chi li tirava il giubbotto di dietro chi si provava a fargli con l'inchiostro due grandi baffi sotto il naso e chi si attentava perfino a legare dei fili ai piedi e le mani per farlo ballare per un poco Pinocchio usò disinvoltura e tiro via ma finalmente sentendoci scappare la pazienza si rivolse a quelle che più lo taffanavano e si pigliavano gioco di lui e disse loro a muso duro badate ragazzi io non sono venuto qui per essere il vostro buffone io rispetto gli altri e voglio essere rispettato bravo berlicche hai parlato come un libro stampato urlarono quei monelli buttandosi via dalle matte risate e uno di loro più impertinente degli altri allungò la mano con l'idea di prendere il burattino per la punta del naso ma non fece a tempo perché Pinocchio stese la gamba sotto la tavola e gli consegnò una pedata negli stinchi oi che piedi duri urlò ragazzino stroppicciandosi il libido che le aveva fatto il burattino e che gomiti anche più duri dei piedi disse un altro che per i suoi scherzi sguaiati si era beccata una gomitata nello stomaco fatto sta che dopo quel calcio e quella gomitata Pinocchio acquistò subito la stima e la simpatia di tutti i ragazzi di scuola e tutti gli facevano mille carezze e tutti gli volevano un bene dell'anima e anche il maestro se ne lo dava perché lo vedeva attento studioso e intelligente sempre il primo a entrare nella scuola sempre l'ultimo a rezzarsi in piedi a scuola finita il solo difetto che avesse era quello di bazzicare troppi compagni e fra questi c'erano molti monelli conosciutissimi per la loro poca voglia di studiare e di farsi onore il maestro lo avvertiva tutti i giorni e anche la buona fata non mancava di dirgli di ripetere più volte bada Pinocchio quei tuoi compagnacci di scuola finiranno prima o poi col farti perdere l'amore allo studio e forse forse colterarti addosso qualche grossa disgrazia non c'è pericolo rispondeva il burattino facendo una spallucciata e toccandosi con l'indice in mezzo alla fronte come per dire c'è tanto giudizio qui dentro ora avvenne che un bel giorno mentre camminava verso la scuola incontrò un branco dei soliti compagni che andandogli contro gli dissero sai la gran notizia no qui nel mare vicino è arrivato un pesce cane grosso come una montagna davvero che sia quel medesimo pesce cane di quando affogò il mio povero babbo noi andiamo alla spiaggia per vederlo vuoi venire anche tu io no io voglio andare a scuola che ti importa della scuola alla scuola ci andremo domani con una lezione di più o una di meno si rimane sempre gli stessi somari e il maestro che dirà il maestro si lascia dire è pagato apposta per brontolare tutti i giorni e la mia mamma le mamme non sanno mai nulla risposero quei malanni sapete che cosa farò disse Pinocchio il pesce cane voglio vederlo per certe mie ragioni ma andrò a vederlo dopo la scuola povero giucco ribatte uno del branco che credi che un pesce di quella grossezza voglia star lì a fare il comodo tuo appena si è annoiato piglia il diruzzone per un'altra parte e allora chi si è visto si è visto quanto tempo ci vuole di qui alla spiaggia domandò il burattino fra un'ora siamo belle andati e tornati dunque via e chi più corre è più bravo gridò Pinocchio dato così il segnale della partenza quel branco di modelli con i loro libri e i loro quaderni sotto il braccio si misero a correre attraverso i campi e Pinocchio era sempre avanti a tutti pareva che avesse le ali ai piedi di tanto in tanto voltandosi indietro canzonava i suoi compagni rimasti a una bella distanza e nel vederli anzanti trafelati polverosi e con tanto di lingua fuori se la rideva proprio di cuore lo sciagurato in quel momento non sapeva a quali paure e a quali orribili disgrazie andava incontro capitolo ventisettesimo gran combattimento fra Pinocchio e i suoi compagni uno dei quali essendo rimasto ferito Pinocchio viene arrestato dai carabinieri giunto che fu sulla spiaggia Pinocchio dette subito una grandocchiata sul mare ma non vide nessun pesce cane il mare era tutto liscio come un gran cristallo da specchio finché o il pesce cane dov'è? domandò voltandosi ai compagni sarà andato a fare colazione rispose uno di loro ridendo o si sarà buttato sul letto per fare un sonnellino aggiunse un altro ridendo più forte che mai da quelle risposte sconclusionate e da quelle risatacce grulle Pinocchio capì che i suoi compagni gli avevano fatto una brutta cellia dandogli ad intendere una cosa che non era vera e pigliandosela male disse loro con voce di bizza e ora che sugo ci avete trovato a darmi ad intendere la storiella del pesce cane? il sugo c'è sicuro rispusero in coro quei monelli e sarebbe quello di far perdere la scuola e di farti venire con noi non ti vergogni a mostrarti tutti i giorni così preciso e così diligenta la lezione non ti vergogni a studiar tanto come fai? e se io studio che cosa ve ne importa? a noi ce ne importa moltissimo perché ci costringe a fare una brutta figura col maestro perché? perché gli scolari che studiano fanno sempre scomparire quelli come noi che non hanno voglia di studiare e noi non vogliamo scomparire anche noi abbiamo il nostro amor proprio e allora che cosa devo fare per contentarvi? devi prendere a noia anche tu la scuola la lezione il maestro che sono i nostri tre grandi nemici e se io volessi seguitare a studiare? noi non ti guarderemo più in faccia e alla prima occasione ce la pagherai in verità mi fate quasi ridere disse il burattino con una scrollatina di capo ehi Pinocchio gridò allora il più grande di quei ragazzi andandogli sul viso non venire qui a fare lo smargiasso non venire qui a fare tanto il galletto perché se tu non hai paura di noi neanche noi abbiamo paura di te ricordati che tu sei solo e noi siamo sette sette come i peccati mortali disse Pinocchio con una gran risata avete sentito ci ha insultati tutti ci ha chiamato col nome di peccati mortali Pinocchio chiedici scusa dell'offesa o se no guai a te cucù fece il burattino battendosi con l'indice sulla punta del naso in segno di taccanza natura Pinocchio la finisce male cucù ne toccherai quanto un somaro cucù ritornerai a casa col naso rotto cucù ora il cucù te lo darò io gridò il più ardito di quei monelli prendi intanto questo acconto e servalo per la cena di stasera e nel dir così gli appiccicò un pugno nel capo ma fu come si suol dire botta e risposta perché il burattino come era da aspettarselo risposi subito con un altro pugno e lì da un momento all'altro il combattimento diventò generale e accanito Pinocchio sebbene fosse solo si difendeva come un eroe con quei suoi piedi di legno durissimo lavorava così bene da tenere sempre i suoi nemici a rispettosa distanza dove i suoi piedi potevano arrivare a toccare ci lasciavano sempre un livido per ricordo allora i ragazzi indispettiti di non potersi misurare col burattino corpo a corpo pensarono bene di metter male ai proiettili e sciolti fagotti dei loro libri di scuola cominciarono a scagliare contro di lui i sillabari le grammatiche i giannettini minuzzo li racconti del tuar il pulcino della bacini e altri libri scolastici ma il burattino che era d'occhio svelta malizzito faceva sempre civetta tempo sicché i volumi passandogli di sopra al capo andavano tutti a cascare nel mare figuratevi pesci i pesci credendo che quei libri fossero roba da mangiare correva una frotta a fior d'acqua ma dopo aver abboccato qualche pagina e qualche frontespizio la risputavano subito facendo con la bocca una certa smorfia che pareva volesse dire non è roba per noi noi siamo avvezzi a cibarci molto meglio intanto il combattimento si inferociva sempre più quando ecco che un grosso granchio che era uscito fuori dall'acqua si era ad agio ad agio arrampicato fin sulla spiaggia gridò con una vociaccia di trombone infreddato smettetela birichini che non siete altro queste guerre manesche tra ragazze e ragazzi raramente vanno a finir bene qualche disgrazia accade sempre povero granchio fu lo stesso che avesse predicato al vento anzi quella birba di pinocchio voltandosi indietro a guardarlo in cagnesco gli disse sgarbatamente chetati granchio dell'uggia faresti meglio assucciare due pasticche di lichene per guarire da codeste infreddatura di gola va piuttosto a letto e cerca di sudare in quel frattempo i ragazzi che avevano finito oramai di tirare tutti i loro libri occhiarono lì a poca distanza il fagotto dei libri del burattino e se ne impadronirono in mente non si dice fra questi libri vi era un volume rilegato in cartoncino grosso con la costola e con le punte di carta pecora era un trattato di aritmetica vi lascio immaginare se era peso di molto uno di quei monelli agguantò quel volume e presa di mira la testa di Pinocchio lo scagliò con quanta forza aveva nel braccio ma invece di cogliere il burattino colse nella testa uno dei compagni il quale diventò bianco come un panno lavato e non disse altro che queste parole oh mamma mia aiutatemi perché muoio poi cadde disteso sull'arena del lido alla vista di quel morticino i ragazzi spaventati si dettero a scappare a gambe e in pochi minuti non si videro più ma Pinocchio rimase lì e sebbene per il dolore e per lo spavento anche lui fosse più morto che vivo non di meno corse a inzuppare il suo fazzoletto nell'acqua del mare e si pose a bagnare la tempia del suo povero compagno di scuola e intanto piangendo dirottamente e disperandosi lo chiamava per nome e gli diceva e Eugenio povero Eugenio mio apri gli occhi e guardami perché non mi rispondi non sono stato io sai ti ho fatto tanto male credilo non sono stato io apri gli occhi Eugenio se tieni gli occhi chiusi mi farai morire anche a me oh Dio mio come farò a tornare a casa con che coraggio potrò presentarmi alla mia buona mamma che sarà di me e Pinocchio continuava a piangere a berciare a darsi dei pugni nel capo e a chiamar per nome il povero Eugenio quando sentia un tratto un rumore sordo di passi che si avvicinavano si voltò erano due carabinieri che cosa fai con sti sdraiato per terra domandarono a Pinocchio assisto questo mio compagno di scuola che gli è venuto male par di sì altro che male disse uno dei carabinieri chinandosi e osservando Eugenio da vicino questo ragazzo è stato ferito in una tempia chi è che l'ha ferito io no balbettò il burattino che non aveva più fiato in corpo se non sei stato tu chi è stato dunque che l'ha ferito io no ripete Pinocchio e con che cosa è stato ferito con questo libro e il burattino raccattò di terra il trattato di aritmetica rilegato in cartone e carta pecora per mostrarlo al carabiniere e questo libro di chi è? Mio basta così non occorre altro rizzati subito e vien via con noi ma io via con noi ma io sono innocente via con noi prima di partire i carabinieri chiamarono alcuni pescatori che in quel momento passavano per l'appunto con la loro barca vicino alla spiaggia e dissero loro vi affidiamo questo ragazzetto ferito nel capo portatelo a casa vostra e assistetelo domani torneremo a vederlo quindi si volsero a Pinocchio e dopo averlo immesso in mezzo a loro due gli intimarono con accento soldatesco avanti e cammina spedito se no peggio per te senza farselo ripetere il burattino cominciò a camminare per quella viottola che conduceva al paese ma il povero diavolo non sapeva più nemmeno lui in che mondo si fosse gli pareva di sognare e che brutto sogno era fuori di sé i suoi occhi vedevano tutto doppio le gambe gli tremavano la lingua gli era rimasta attaccata al palato e non poteva più spiccicare una sola parola eppure in mezzo a quella specie di stupidità e di rintontimento una spina acutissima gli bucava il cuore il pensiero cioè di dover passare sotto le finestre di casa della sua buona fata in mezzo ai carabinieri o avrebbe preferito piuttosto di morire erano già arrivati e stavano per entrare in paese quando una folata di vento strappazzone levò di testa Pinocchio il berretto portandoglielo lontano una diecina di passi si contentano disse il burattino ai carabinieri che vada a riprendere il mio berretto vai pure ma facciamo una cosa lesta il burattino andò raccattò il berretto ma invece di metterselo in capo se lo mise in bocca fra i denti e poi cominciò a correre di gran carriera verso la spiaggia del mare andava via come una palla di fucile i carabinieri giudicando che fosse difficile raggiungerlo gli aizzarono dietro un grosso cane mastino che aveva guadagnato il primo premio a tutte le corse dei cani Pinocchio correva e il cane correva più di lui per cui tutta la gente si affacciava alle finestre e si affollava in mezzo alla strada ansiosa di vedere la fine di un palio così inferocito ma non poté levarsi questa voglia perché fra il cammastino e Pinocchio sollevarono lungo la strada un tal polverone che dopo pochi minuti non era possibile di vedere più nulla Pinocchio corre pericolo di essere fritto in padella come un pesce durante quella corsa disperata vi fu un momento terribile un momento in cui Pinocchio si crede perduto perché bisogna sapere che Alidoro era questo il nome del cammastino a furia di correre e correre l'aveva quasi raggiunto basti dire che il burattino sentiva dietro di sé alla distanza ad un palmo l'alzare affannoso di quella bestiaccia e ne sentiva perfino la vampa calda delle fiatate per buona fortuna la spiaggia era oramai vicina e il mare si vedeva lì a pochi passi appena fu sulla spiaggia il burattino spiccò un bellissimo salto come avrebbe potuto fare un ranocchio e andò a cascare in mezzo all'acqua Alidoro invece voleva fermarsi ma trasportato dall'impeto della corsa entrò nell'acqua anche lui e quel disgraziato non sapeva nuotare per cui cominciò subito ad annaspare con le zampe per reggersi a galla ma più annaspava e più andava col capo sott'acqua quando tornò a rimettere il capo fuori il povero cane aveva gli occhi impauriti e stralunati e abbaiando gridava affogo affogo crepa gli rispose Pinocchio da lontano il quale si vedeva oramai sicuro da ogni pericolo aiutami Pinocchio mio salvami dalla morte a quelle grida strazianti il burattino che in fondo aveva un cuore eccellente si mosse a compassione e voltosi al cane gli disse ma se io ti aiuto a salvarti mi prometti di non darmi più noia e di non corrermi dietro te lo prometto te lo prometto spicciati per carità perché se indugi un altro mezzo minuto sono bello e morto Pinocchio esitò un poco ma poi ricordandosi che il suo babbo gli aveva detto tante volte che a fare una buona azione non ci si scapita mai andò nuotando a raggiungere l'idoro e presolo per la coda con tutte e due le mani lo portò sano e salvo sull'arena asciutta dell'idu il povero cane non si reggeva più in piedi aveva bevuto senza volerlo tant'acqua salata che era gonfiato come un pallone peraltro il burattino non volendo fare affidarsi troppo stimò cosa prudente di gettarsi nuovamente in mare e allontanandosi dalla spiaggia gridò all'amico salvato addio all'idoro fa buon viaggio e tanti saluti a casa addio Pinocchio rispose il cane mille grazie di avermi liberato dalla morte tu mi hai fatto un gran servizio e in questo mondo quel che è fatto è reso se capita l'occasione ci riparleremo Pinocchio seguitò a nuotare tenendosi sempre vicino alla terra finalmente gli parve di essere giunto in un luogo sicuro e dando un'occhiata alla spiaggia vide sugli scogli una specie di grotta dalla quale usciva un lunghissimo pennacchio di fumo in quella grotta disse disse fra stessi ci deve essere del fuoco tanto meglio andrò a rasciugarmi e a riscaldarmi e poi e poi sarà quel che sarà presa questa risoluzione si avvicinò alla scogliera ma quando fu lì per arrampicarsi sentì qualcosa sotto l'acqua che saliva 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 e lo portava per aria tentò subito di fuggire ma oramai era tardi perché con sua grandissima maraviglia si trovò rinchiuso dentro una grossa rete in mezzo a un brulichio di pesci d'ogni forma e grandezza che scodinzolavano e si dibattevano come tante anime disperate e nel tempo stesso vide uscire dalla grotta un pescatore così brutto ma tanto brutto che pareva un mostro marino invece di capelli aveva sulla testa un cespuglio foltissimo di erba verde verde era la pelle del suo corpo verdi gli occhi verde la barba lunghissima che gli scendeva fin qua giù pareva un grosso ramarro ritto sui piedi di dietro quando il pescatore ebbe tirata fuori la rete dal mare gridò tutto contento provvidenza benedetta anch'oggi potrò fare una bella scorpacciata di pesce manco male che io non sono un pesce disse pinocchio dentro di sé ripigliando un po' di coraggio la rete piena di pesci fu portata dentro la grotta una grotta buia e affumicata in mezzo alla quale frigeva una gran padella d'olio che mandava un odorino di moccolaia da mozzare il respiro ora vediamo un po' che pesce abbiamo presi disse il pescatore verde e ficcando nella rete una manona così spropositata che pareva una pala da fornai tirò fuori una lanciata di triglie buone queste triglie disse guardandole annusandole con compiacenza e dopo averle annusate le scaraventò in una conca senza acqua poi ripete più volte la solita operazione e via via che cavava fuori gli altri pesci sentiva venirsi l'acquolina in bocca e gongolando diceva buoni questi naselli squisiti questi mugini deliziose queste sogliore prelibati questi ragnotti carine queste acciughe col capo come potete immaginarvelo i naselli i mugini le soglie i ragnotti e le acciughe andarono tutti alla rinfusa nella conca a tenere compagnia alle triglie l'ultimo che restò nella rete fu Pinocchio appena il pescatore le beccavato fuori sgranò dalla maraviglia i suoi occhioni verdi gridando quasi impaurito e che razza di pesce è questo dei pesci fatti a questo modo non mi ricordo di averne mai mangiati e tornò a guardarlo attentamente e dopo averlo guardato ben bene per ogni verso finì col dire ho già capito deve essere un granchio di mare allora Pinocchio mortificato di sentirsi scambiare per un granchio disse con accento risentito ma che granchio non granchio guardi come lei mi tratta io per sua regola sono un burattino un burattino replicò il pescatore dico la verità il pesce burattino è per me un pesce nuovo meglio così ti mangerò più volentieri mangiarmi ma la vuol capire che io non sono un pesce o non sente che parlo e ragiono come lei è verissimo soggiunse il pescatore e siccome vedo che sei un pesce che hai la fortuna di parlare di ragionare come me così voglio usarti anch'io i dovuti riguardi e questi riguardi sarebbero il segno di amicizia di stima particolare lascerò a te che è la scelta di come vuoi essere cucinato desideri di essere fritto in padella oppure preferisci di essere cotto nel tegame con la salsa di pomidoro a dir la verità risposi Pinocchio se io devo scegliere preferisco piuttosto di essere lasciato libero per potermene tornare a casa mia tu scherzi ti pare che io voglia perdere l'occasione di assaggiare un pesce così raro non capita mica tutti i giorni un pesce burattino in questi mari lascia fare a me ti friggerò in padella assieme a tutti gli altri pesci e te ne troverai contento l'esser fritto in compagnia è sempre una consolazione l'infelice Pinocchio a quest'antifona cominciò a piangere a strillare a raccomandarsi e piangendo diceva quanto era meglio che fossi andato a scuola ho voluto dar retta ai compagni e ora la pago ii ii e perché si rivincolava come un'anguilla e faceva sforzi incredibili per risgusciare dalle grimpie del pescatore verde questi prese una bella buccia di giunco e dopo averlo legato per le mani e per i piedi come un salame lo gettò in fondo la conca con gli altri poi tirato fuori un vasso ghiaccio di legno pieno di farina si detta infarinare tutti quei pesci e man mano che li aveva infarinati li buttava a friggere dentro la padella i primi a ballare nell'olio bollente furono i poveri naselli poi toccò ai ragnotti poi ai mugini poi alle sogliore e alle acciughe e poi venne la volta di Pinocchio il quale a vedersi così vicino alla morte e che brutta morte fu preso da tanto tremito e da tanto spavento che non aveva più né voce né fiato per raccomandarsi il povero figliuolo si raccomandava con gli occhi ma il pescatore verde senza badarlo neppure lo avvoltolò cinque o sei volte nella farina infarinandolo così bene dal capo ai piedi che pareva diventato un burattino di gesso poi lo prese per il capo e ritorno a casa della fata la quale gli promette che il giorno dopo non sarà più un burattino ma diventerà un ragazzo gran colazione di caffè e latte per festeggiare questo grande avvenimento mentre il pescatore era proprio sul punto di buttare Pinocchio nella padella entrò nella grotta un grosso cane condotto là dall'odore acutissimo e ghiotto della frittura passa via gli gridò il pescatore minacciandolo e tenendo sempre in mano il burattino infarinato ma il povero cane aveva una fame per quattro e mugolando e dimenando la coda pareva che dicesse dammi un boccone di frittura e ti lascio in pace passa via ti dico gli ripetè il pescatore e allungò la gamba per tirargli una pedata allora il cane che quando aveva fame davvero non era avvezzo a lasciarsi posare mosche sul naso si rivoltò ringhioso al pescatore mostrandogli le sue terribili zanne in quel mentre si udì nella grotta una vocina fioca fioca che disse salvami Alidoro se non mi salvi son fritto il cane riconobbe subito la voce di Pinocchio e si accorse con sua grande maraviglia che la vocina era uscita da quel fagottino infarinato che il pescatore teneva in mano allora che cosa fa? spicca un gran lancio da terra abbocca quel fagotto infarinato e tenendolo leggermente coi denti esce correndo dalla grotta e via come un baleno il pescatore arrabbiatissimo di vedersi strappar di mano un pesce che gli avrebbe mangiato tanto volentieri si provò a rincorrere il cane ma fatti pochi passi gli venne un nodo di tosse e dove tornarsene indietro intanto Alidoro ritrovata che ebbe la viottola che conduceva al paese si fermò e posò delicatamente in terra l'amico Pinocchio quanto ti debbo ringraziare disse il burattino non c'è bisogno replicò il cane tu salvasti me e quel che è fatto è reso si sa in questo mondo bisogna tutti aiutarsi l'un con l'altro ma come mai sei capitato in quella grotta ero sempre qui disteso sulla spiaggia più morto che vivo quando il vento mi ha portato da lontano un odore di frittura quell'odorino mi ha stuzzicato l'appetito e io gli sono andato dietro se arrivavo un minuto più tardi non me lo dire urlò Pinocchio che tremava ancora dalla paura non me lo dire se tu arrivavi un minuto più tardi a quest'ora io ero belle fritto mangiato e digerito mi vengono i brividi soltanto a pensarvi Alidoro ridendo stese la zampa destra verso il burattino il quale gli lastrinse forte in segno di grande amicizia e dopo si lasciarono il cane riprese la strada di casa e Pinocchio rimasto solo andò a una capanna lì poco distante e domandò a un vecchetto che stava sulla porta a scaldarsi al sole dite galantuomo sapete nulla di un povero ragazzo ferito nel capo e che si chiamava Eugenio il ragazzo è stato portato da alcuni pescatori in questa capanna e ora ora sarà morto interruppe Pinocchio con gran dolore no ora è vivo ed è già ritornato a casa sua davvero davvero grido il burattino saltando dall'allegrezza dunque la ferita non era grave ma poteva riuscire gravissima e anche mortale rispose il vecchetto perché gli tirarono nel capo un grosso libro rilegato in cartone e chi glielo tirò un suo compagno di scuola un certo Pinocchio e chi è questo Pinocchio domandò il burattino facendo l'ognorri dicono che sia un ragazzaccio un vagabondo un vero rompicollo calugne calugne tutte calugne lo conosci tu questo Pinocchio di vista rispose il burattino e tu che concetto ne hai gli chiese il vecchietto a me mi pare un gran buon figliolo pieno di voglia di studiare ubbidiente affezionato al suo babbo e alla sua famiglia mentre il burattino sfilava faccia fresca tutte queste bugie si toccò il naso e si accorse che il naso gli si era allungato più di un palmo allora tutto impaurito cominciò a gridare non date retta galantuomo a tutto il bene che ve ne ho detto perché conosco benissimo Pinocchio e posso assicurarvi anch'io che è davvero un ragazzaccio un disubbidiente uno svogliato che invece di andare a scuola va con i compagni a fare lo sbarazzino appena ebbe pronunziate queste parole il suo naso raccorci e tornò alla grandezza naturale come era prima e perché sei tutto bianco a codesto modo gli domandò un tratto il vecchietto vi dirò senza vedermene mi sono strofinato un muro che era imbiancato di fresco rispose il burattino vergognandosi a raccontare che lo avevano infarinato come un pesce per poi friggerlo in padella oh della tua giacchetta dei tuoi calzoncini e del tuo beretto che cosa ne hai fatto ho incontrato i ladri e mi hanno spogliato dite buon vecchio non avreste per caso da darmi un po' di vestituccio tanto perché io possa ritornare a casa ragazzo mio in quanto a vestiti io non ho che un piccolo sacchetto dove ci tengo i lupini se lo vuoi piglialo eccolo là e Pinocchio non se lo fece dire due volte prese subito il sacchetto dei lupini che era vuoto e dopo averci fatto con le forbici una piccola buca nel fondo e due buche dalle parti se lo infilò o uso camicia e vestito leggerino a quel moto si avviò verso il paese ma lungo la strada non si sentiva appunto tranquillo tanto è vero che faceva un passo avanti e uno indietro e discorrendo da sé solo andava dicendo come farò a presentarmi alla mia buona Fatina che dirà quando mi vedrà vorrà perdonarmi questa seconda biricchinata scommetto che non me la perdona oh non me la perdona di certo e mi sta il dovere perché io sono un monello che prometto sempre di correggermi e non mantengo mai arrivò al paese che era già notte buia e perché faceva tempaccio e l'acqua veniva giù a catinelle andò diritto a diritto alla casa della fata con l'animo risoluto di bussare la porta e di farsi aprire ma quando fu lì sentì mancarsi il coraggio e invece di bussare si allontanò correndo una ventina di passi poi tornò una seconda volta alla porta e non concluse nulla poi si avvicinò una terza volta e nulla la quarta volta prese tremando il battente di ferro in mano e bussò un piccolo colpettino aspetta aspetta finalmente dopo mezz'ora si aprì una finestra dell'ultimo piano la casa era di quattro piani e Pinocchio vide affacciarsi una grossa lumaca che aveva un lumicino acceso sul capo la quale disse chi è a quest'ora la fata è in casa domandò il burattino la fata dorme e non vuole essere svegliata ma tu chi sei sono io chi io Pinocchio chi Pinocchio il burattino quello che sta in casa con la fata ah ho capito disse la lumaca aspetta mi costi che ora scendo giù e ti apro subito spicciatevi per carità perché io muoio dal freddo ragazzo mio io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta intanto passò un'ora ne passarono due e la porta non si apriva per cui Pinocchio che tremava dal freddo dalla paura e dall'acqua che aveva addosso si fece cuore e bussò una seconda volta e bussò più forte a quel secondo colpo si aprì una finestra del piano di sotto e si affacciò la solita lumaca lumachina bella gridò Pinocchio dalla strada sono due ore che aspetto e due ore a questa serataccia diventano più lunghe di due anni spicciatevi per carità ragazzo mio mi rispose dalla finestra quella bestiola tutta pace e tutta flemma ragazzo mio io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta e la finestra si richiuse di lì a poco suonò la mezzanotte poi il tocco poi le due dopo mezzanotte e la porta era sempre chiusa allora Pinocchio perduta la pazienza afferrò con rabbia il battente della porta per bussare un colpo da far rintronare tutto il casamento ma il battente che era di ferro diventò ad un tratto un'anguilla viva che sgusciandogli dalle mani sparì in un rigagnolo d'acqua che scorreva in mezzo alla strada ah sì gridò Pinocchio sempre più accecato dalla collera se il battente è sparito io seguiterò a bussare a furia di calci e tiratosi un poco indietro lasciò andare una solennissima pedata nell'uscio della casa il colpo fu così forte che il piede penetrò nel legno fino a mezzo e quando il burattino si provò a ricavarlo fuori fu tutta fatica inutile perché il piede c'era rimasto conficcato dentro come un chiodo ribadito figuratevi il povero Pinocchio dove passare tutto il resto della notte con un piede in terra e con quell'altro per alia la mattina sul far del giorno finalmente la porta si aprì quella brava bestiola della lumaca a scendere dal quarto piano fino all'uscio di strada ci aveva messo solamente nove ore bisognava proprio dire che avesse fatto una sudata che cosa fate con codesto piede conficcato nell'uscio domandò ridendo al burattino è stata una disgrazia vedete un po' l'umachina bella se mi riesce di liberarmi da questo supplizio ragazzo mio costici vuole un legnaiolo e io non ho mai fatto la legnaiola previate la fata da parte mia la fata dorme e non vuole essere svegliata ma che cosa volete che io faccia inchiodato tutto il giorno a questa porta divertiti a contare le formicole che passano per strada portatemi almeno qualcosa da mangiare perché mi sento rifinito subito disse la lumaca di fatti dopo tre ore e mezzo pinocchio la vide tornare con un vassoio d'argento in capo nel vassoio c'era un pane un pollastro arrosto e quattro picocchie mature ecco la colazione che vi manda la fata disse la lumaca alla vista di quella grazia di dio il burattino sentì consolarsi innanzitutto ma quale fu il suo disinganno quando incominciando a mangiare si doveva accorgere che il pane era di gesso il pollastro di cartone e le quattro albicocche di alabastro colorite come se fossero vere voleva piangere voleva darsi alla disperazione voleva buttar via il vassoio e quello che c'era dentro ma invece o fosse il gran dolore o la gran languidezza di stomaco fatto sta che cade svenuto quando si riebbe si trovò disteso sopra un sofà e la fata era accanto a lui anche questa volta ti perdono gli disse la fata ma guai a te se me ne fai un'altra delle tue Pinocchio promise e giurò che avrebbe studiato e che si sarebbe condotto sempre bene e mantenne la parola per tutto il resto dell'anno di fatti agli esami delle vacanze ebbe l'onore di essere più bravo della scuola e i suoi portamenti in generale furono giudicati così lodevoli e soddisfacenti che la fata tutta contenta gli disse domani finalmente il tuo desiderio sarà pagato cioè domani finirai di essere un burattino di legno e diventerai un ragazzo per bene chi non ha veduto la gioia di Pinocchio a questa notizia tanto sospirata non potrà mai figurarsela tutti i suoi amici e compagni di scuola dovevano essere invitati per il giorno dopo a una gran colazione in casa della fata per festeggiare insieme il grande avvenimento e la fata aveva fatto preparare 200 tazze di caffè e latte e 400 panini imburrati di dentro e di fuori quella giornata prometteva di riuscire molto bella e molto allegra ma disgraziatamente nella vita dei burattini c'è sempre un ma che sciuva ogni cosa capitolo trentesimo Pinocchio invece di diventare un ragazzo parte di nascosto col suo amico lucignolo per il paese dei balocchi com'è naturale Pinocchio chiese subito alla fata il permesso di andare in giro per la città a fare gli inviti e la fata gli disse va pure a invitare i tuoi compagni per la colazione di domani ma ricordati di tornare a casa prima che faccia notte hai capito? fra un'ora prometto di essere belle ritornato replicò il burattino vada Pinocchio i ragazzi fanno presto promettere ma il più delle volte fanno tardi a mantenere ma io non sono come gli altri io quando dico una cosa la mantengo vedremo caso poi tu disubbidissi tanto peggio per te perché? perché i ragazzi che non danno retta ai consigli di chi ne sa più di loro vanno sempre incontro a qualche disgrazia e io l'ho provato disse Pinocchio ma ora non ci ricasco più vedremo se dici il vero senza aggiungere altre parole il burattino salutò la sua buona fata che era per lui una specie di mamma e cantando e ballando uscì fuori dalla porta di casa in poco più di un'ora tutti i suoi amici furono invitati alcuni accettarono subito e di gran cuore altri da principio si fecero un po' pregare ma quando seppero che i panini da inzuppare nel caffè e latte sarebbero stati imburrati anche dalla parte di fuori finirono tutti col dire verremo anche noi per farti piacere ora bisogna sapere che Pinocchio fra i suoi amici e compagni di scuola ne aveva uno prediletto e carissimo il quale si chiamava di nome Romeo ma tutti lo chiamavano col soprannome di Lucignolo per via del suo personalino asciutto secco e allampanato tale quale come il Lucignolo nuovo di un lumino da notte Lucignolo era il ragazzo più svogliato e più birichino di tutta la scuola ma Pinocchio gli voleva un gran bene di fatti andò subito a cercarlo a casa per invitarlo alla colazione e non lo trovò tornò una seconda volta e Lucignolo non c'era tornò una terza volta e fece la strada in vado dove poterlo ripescare cerca di qua cerca di là finalmente lo vide nascosto sotto il portico di una casa di contadini che cosa fai Costi gli domandò Pinocchio avvicinandosi aspetto di partire dove vai lontano 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 e io che sono venuto a cercarti a casa tre volte cosa volevi da me non sai il grande avvenimento non sai la fortuna che mi è toccata quale domani finisco di essere un burattino e divento un ragazzo come te e come tutti gli altri buon pro ti faccia domani dunque ti aspetto a colazione a casa mia ma se ti dico che parto questa sera a che ora tra poco e dove vai vado ad abitare in un paese che è il più bel paese di questo mondo una vera cuccagna e come si chiama si chiama il paese dei balocchi perché non vieni anche tu io no davvero hai torto Pinocchio credilo a me che se non vieni te ne pentirai dove vuoi trovare un paese più sano per noi altri ragazzi lì non vi sono scuole lì non vi sono maestri lì non vi sono libri in quel paese benedetto non si studia mai il giovedì non si fa scuola e ogni settimana è composta di sei giovedì e di una domenica figurati che le vacanze dell'autunno cominciano col primo di gennaio e finiscono con l'ultimo di dicembre ecco un paese come piace veramente a me ecco come dovrebbero essere tutti i paesi civili ma come si passano le giornate nel paese dei balocchi si passano baloccandosi e divertendosi dalla mattina alla sera la sera poi si va a letto e la mattina dopo si ricomincia da capo che te ne pare? fece Pinocchio e tentennò leggermente il capo come a dire è una vita che la farei volentieri anch'io dunque vuoi partire con me? sì o no? risolviti no 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 e poi no oramai ho promesso alla mia buona fata di diventare un ragazzo per bene e voglio mantenere la promessa anzi siccome vedo che il sole va sotto così ti lascio subito e scappo via dunque addio e buon viaggio dove corri con tanta furia? a casa la mia buona fata vuole che ritorni prima di notte aspetta altri due minuti faccio troppo tardi due minuti soli e se poi la fata mi sgrida lascia raggridare quando avrà gridato ben bene si chieterà disse quella birba di lucignolo come fai? parti solo o in compagnia? solo saremo più di cento ragazzi e il viaggio l'ho fatto a piedi? fra poco passerà di qui il carro che mi deve prendere e condurre fin dentro i confini di quel fortunatissimo paese che cosa pagherei che il carro passasse ora? perché? per vedervi partire tutti insieme rimani qui un altro poco e ci vedrai no no voglio ritornare a casa aspetta altri due minuti ho indugiato anche troppo la fata starà in pensiero per me povera fata che ha paura forse che ti mangi i pipistrelli? ma dunque soggiunse Pinocchio tu sei veramente sicuro che in quel paese non ci sono punte scuole? neanche l'ombra e nemmeno i maestri nemmeno uno e non c'è mai l'obbligo di studiare? mai 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 che bel paese disse Pinocchio sentendo venirsi l'acquolina in bocca che bel paese io non ci sono stato mai ma me lo figuro perché non vieni anche tu è inutile se tu mi tenti oramai ho promesso alla mia buona fata di diventare un ragazzo di giudizio e non voglio mancare la parola dunque addio e salutami tanto le scuole geniasali e anche quelle liceali se le incontri per strada addio Lucignolo fa buon viaggio divertiti e rammentati qualche volta degli amici ciò detto il burattino fece due passi in atto per andarsene ma poi fermandosi e voltandosi all'amico gli domandò ma sei proprio sicuro che in quel paese tutte le settimane siano composte di sei giovedì e una domenica? sicurissimo ma lo sai di certo che le vacanze abbiano principio col primo di gennaio e finiscano con l'ultimo di dicembre? di certissimo che bel paese ripete Pinocchio sputando dalla soverchia conservazione poi fatto un animo risoluto soggiunse in fretta e furia dunque addio addio davvero e buon viaggio addio fra quanto partirete? fra poco sarei quasi quasi capace di aspettare e la fata? ormai ho fatto tardi e tornare a casa un'ora prima un'ora dopo è lo stesso povero Pinocchio e se la fata ti grida? pazienza la lascerò gridare quando avrai gridato ben bene si chiederà intanto si era fatta già notte in notte buia quando a un tratto videro muoversi in lontananza un lumicino e sentirono un suono di buboli uno squillo uno squillo di tromba così piccolo e soffocato che pareva il sibilo di una zanzara eccolo gridò Lucigno rilzandosi in piedi chi è? domandò sottovoce Pinocchio è il carro che viene a prendermi dunque vuoi venire sì o no? ma è proprio vero domandò il biurtino che in quel paese i ragazzi non hanno mai l'obbligo di studiare mai 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 che bel paese che bel paese che bel paese dopo cinque mesi di cuccagna Pinocchio con sua gran maraviglia sente spuntarsi un bel paio d'orecchie asinine e diventa un ciuchino con la coda e tutto finalmente il carro arrivò e arrivò senza fare il più piccolo rumore perché le sue ruote erano fasciate di stoppa e di cenci lo tiravano dodici pariglie di ciuchini tutti della medesima grandezza ma di diverso pelame alcuni erano bigi altri bianchi altri brizzolati a uso pepe e sale e altri rigati da grandi strisce gialle e turchine ma la cosa più singolare era questa che quelle dodici pariglie ossia quei ventiquattro ciuchini invece di essere ferrati come tutte le altre bestie da tiro o da soma avevano in piedi degli stivaletti da uomo fatti di pelle bianca e il conduttore del carro figuratevi un omino più largo che lungo tenero e untuoso come una palla di burro con un visino di mela rosa una bocchina che rideva sempre e una voce sottile e carezzevole come quella di un gatto che si raccomanda al buon cuore della padrona di casa tutti i ragazzi appena lo vedevano ne restavano innamorati e facevano a gara nel montare sul suo carro per essere condotti da lui in quella vera cuccagna conosciuta nella carta geografica col seducente nome di Paese dei Balocchi difatti il carro era già tutto pieno di ragazzetti fra gli otto e i dodici anni ammonticchiati gli uni sugli altri come tante acciughe nella salamoia stavano male stavano pigiati non potevano quasi respirare ma nessuno diceva oi nessuno si lamentava la consolazione di sapere che fra poche ore sarebbero giunti in un paese dove non c'erano né libri né scuola né maestri li rendeva così contenti e rassegnati che non sentivano né i disagi né gli strapazzi né la fame né la sete né il sonno appena che il carro si fu fermato l'omino si volse all'uscignolo e con mille smorfie e mille manierine gli domandò sorridendo dimmi mio bel ragazzo vuoi venire anche tu in quel fortunato paese sicuro che ci voglio venire ma ti avverto carino mio che nel carro non c'è più posto come vedi è tutto pieno pazienza replicò l'uscignolo se non c'è posto dietro mi adatterò a star seduto sulle stanghe del carro e spiccato un salto montò a cavalcioni sulle stanghe e tu amore mio disse l'omino volgendosi tutto complimentoso a Pinocchio che intendi fare vieni con noi o rimani io rimango disse Pinocchio io voglio tornarmene a casa mia voglio studiare voglio farmi onore alla scuola come fanno tutti i ragazzi per bene buon protifaccia Pinocchio disse allora l'uscignolo dai retta a me vieni con noi e staremo allegri no 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 vieni con noi e staremo allegri gridarono altre quattro voci di dentro al carro vieni con noi e staremo allegri urlarono tutte insieme un centinaio di voci e se vengo con voi che cosa dirà la mia buona fata disse il burattino che cominciava a intenerirsi e a ciurlar nel manico non ti fasciare il capo con tante malinconie pensa che andiamo in un paese dove saremo padroni di fare chiasso dalla mattina alla sera pinocchio non rispose ma fece un sospiro poi fece un altro sospiro poi un terzo sospiro finalmente disse fatemi un po' di posto voglio venire anch'io i posti sono tutti pieni replicò l'omino ma per mostrarti quanto sei gradito posso cederti il mio posto a cassetta e voi e io farò la strada a piedi no davvero che non lo permetto preferisco piuttosto di salire in groppa a qualcuno di questi ciuchini gridò Pinocchio detto fatto si avvicinò al ciuchino marrito della prima pariglia e fece l'atto di volerlo cavalcare ma la bestiola voltandosi a secco gli dette una gran musata nello stomaco e lo gettò a gambe e all'aria figuratevi la risatone impertinente sgangherata di tutti quei ragazzi presenti alla scena ma luminò non rise si accostò pieno di amorevolezza al ciuchino ribelle e facendo finta di dargli un bacio gli staccò con un morso la metà dell'orecchio destro intanto Pinocchio rizzatosi da terra tutto infuriato schizzò con un salto sulla groppa di quel povero animale e il salto fu così bello che i ragazzi smesso di ridere cominciarono a orlare viva Pinocchio e a fare una smanacciata di applausi che non finivano più quando ecco che all'improvviso il ciuchino alzò tutte e due le gambe di dietro e dando una fortissima sgropponata scaraventò il povero burettino in mezzo alla strada sopra un monte di ghiaia allora grandi risate da capo ma l'omino invece di ridere si sentì preso da tanto amore per quell'irrequieto asinello che con un bacio gli portò via di netto la metà di quell'altro orecchio poi disse al burettino rimonta pure a cavallo e non avere paura quel ciuchino aveva qualche grillo per il capo ma io gli ho detto due paroline negli orecchi e spero di averlo reso mansueto e ragionevole Pinocchio montò e il carro cominciò a muoversi ma nel tempo che i ciuchini galoppavano e che il carro correva sui ciottoli della via maestra gli parve al burettino di sentire una voce sommessa e appena intelligibile che gli disse povero gonzo hai voluto fare a modo tuo ma te ne pentirai Pinocchio quasi impaurito guardò di qua e di là per conoscere da quel parte venissero queste parole ma non vide nessuno i ciuchini galoppavano il carro correva i ragazzi dentro il carro dormivano lucignolo russava come un miro e l'omino seduto a cassetta canterellava fra i denti tutti la notte dormono e io non dormo mai fatto un altro mezzo chilometro Pinocchio sentì la solita vocina fiuga che gli disse ti hanno a mente grullerello i ragazzi che smettono di studiare e voltano le spalle ai libri alle scuole e ai maestri per darsi interamente ai malocchi e ai divertimenti non possono far altro che una fine disgraziata io lo so per prova e te lo posso dire verrà un giorno che piangerai anche tu come oggi piango io ma allora sarà tardi a queste parole mi sbigliate sommessamente il burattino spaventato più che mai salto giù dalla groppa della cavalcatura e andò a prendere il suo ciuchino per il muso e immaginatevi come restò quando si accorsi che il suo ciuchino piangeva e piangeva proprio come un ragazzo ehi signor Romino gridò allora Pinocchio al padrone del carro sapete che cosa c'è di nuovo questo ciuchino piange lascialo piangere riderà quando sarà sposo ma che forse gli avete insegnato anche a parlare no ha imparato da sé a borbottare qualche parola essendo stato tre anni in una compagnia di cani amaestrati oh povera bestia via via disse Romino non perdiamo il nostro tempo a vedere piangere un ciucho rimonta a cavallo e andiamo la nottata è fresca e la strada è lunga Pinocchio obbedì senza rifiatare il callo riprese la sua corsa e la mattina sul fare dell'alba arrivarono semplicemente nel paese dei Valocchi questo paese non somigliava affatto a nessun altro paese del mondo la sua popolazione era tutta composta di ragazzi i più vecchi avevano 14 anni i più giovani ne avevano 8 appena nelle strade un'allegria un chiasso uno strellio da levar di cervello branchi di monelli dappertutto chi giocava alle noci chi ha le piastrelle chi ha la palla chi andava in velocipide chi sopra un cavallino di legno questi facevano a mosca cieca quegli altri si rincorrevano altri vestiti da pagliacci mangiavano la stoppa accesa chi recitava chi cantava chi faceva i salti mortali chi si divertiva a camminare con le mani in terra e con le gambe in aria chi mandava il cerchio chi passeggiava vestito da generale con l'elmo di foglio e lo squadrone di carta testa chi rideva chi urlava chi chiamava chi batteva le mani chi fischiava chi rifaceva il verso alla gallina quando ha fatto l'uovo insomma un tal pandemonio un tal passeraio un tal baccano indiavolato da doversi mettere il cotone negli orecchi per non rimanere assorditi su tutte le piazze si vedevano teatrini di tela affollati di ragazzi dalla mattina alla sera e su tutti i muri delle case si leggevano scritte col carbone delle bellissime cose come queste viva i balocci invece di balocchi non vogliamo più scole invece di non vogliamo più scuole a basso la rilmetica invece di la rilmetica e altri fiori consigli Pinocchio Lucignolo e tutti gli altri ragazzi che avevano fatto il viaggio col domino appena ebbero messo il piede dentro la città si ficcarono subito in mezzo alla gran barahonda e in pochi minuti come facile immaginarselo diventarono gli amici di tutti chi più felice chi più contento di loro in mezzo ai continui spassi e agli svariati divertimenti le ore i giorni le settimane passavano come tanti baleni ah che bella vita diceva Pinocchio tutte le volte che per caso si batteva in Lucignolo vedi dunque se avevo ragione ripigliava quest'ultimo e dire che tu non volevi partire e pensare che ti eri messi in capo di tornarti a casa dalla tua fata per perdere il tempo a studiare se oggi ti sei liberato dalla noia dei libri e delle scuole lo devi a me ai miei consigli alle mie premure ne convieni non vi sono che i veri amici che sappiano rendere di questi grandi favori è vero Lucignolo se oggi io sono un ragazzo veramente contento è tutto merito tuo e il maestro invece sai che cosa mi diceva parlando di te mi diceva sempre non praticare quella birba di Lucignolo perché Lucignolo è un cattivo compagno e non può consigliarvi altro che a fare del male povero maestro replicò l'altro tentennando il capo lo so purtroppo che mi aveva noia e che si divertiva sempre a caluniarmi ma io sono generoso e gli perdono eh anima grande disse Pinocchio abbracciando affettuosamente l'amico e dandogli un bacio in mezzo agli occhi intanto era già da cinque mesi che durava questa bella cuccagna di balloccarsi e di divertirsi le giornate intere senza mai vedere in faccia né un libro né una scuola quando una mattina Pinocchio svegliandosi ebbe come si suol dire una gran brutta sorpresa che lo messe proprio di malumore a Pinocchio gli vengono gli orecchi di ciucco e poi diventa un ciuchino vero e comincia a ragliare e questa sorpresa quale fu? ve lo dirò io miei cari e piccoli lettori la sorpresa fu che a Pinocchio svegliandosi gli venne fatto naturalmente di grattarsi il capo e nel grattarsi il capo si accorse indovinate un po' di che cosa si accorse si accorse con suo grandissimo stupore che gli orecchi gli erano cresciuti più di un palmo voi sapete che il burattino fin dalla nascita aveva gli orecchi piccini piccini tanto piccini che a occhio nudo non si vedevano neppure immaginatevi dunque come restò quando dov'è toccar con mano che i suoi orecchi durante la notte erano così allungati che parevano due spazzole di padule andò subito in cerca di uno specchio per potersi vedere ma non trovando uno specchio empì d'acqua la cattinella del lavamano e specchiando visi dentro vide quel che non avrebbe mai voluto vedere vide cioè la sua immagine abbellita di un magnifico paio di orecchi asinini lascio pensare a voi il dolore la vergogna e la disperazione del povero Pinocchio cominciò a piangere a strillare a battere la testa nel muro ma quanto più si disperava e più i suoi orecchi crescevano 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 e diventavano pelosi verso la cima al rumore di quelle grida acutissime entrò nella stanza una bella marmottina che abitava al piano di sopra la quale vedendo il burattino in così grandi smanie gli domandò premurosamente che cos'hai mio caro casigliano sono malato marmottina mia molto malato è malato di una malattia che mi fa paura te ne intendi tu del polso un pochino senti dunque se per caso avessi la febbre la marmottina la marmottina alzò la zampa destra davanti e dopo aver tastato il polso a pinocchio gli disse sospirando amico mio mi dispiace doverti dare una cattiva notizia cioè tu hai una gran brutta febbre e che febbre sarebbe è la febbre del somaro non la capisco questa febbre rispose il burattino che l'aveva purtroppo capita allora te la spiegherò io soggiunse la marmottina sappi dunque che fra due o tre ore tu non sarai più né un burattino né un ragazzo e che cosa sarò fra due o tre ore tu diventerai un ciuchino vero e proprio come quelli che tirano il carretto e che portano i cavoli e l'insalata al mercato oh povero me povero me gridò Pinocchio pigliandosi con le mani tutti e due gli orecchi e tirandoli e strapazzandoli rabbiosamente come se fossero gli orecchi di un altro caro mio replicò la marmottina per consolarlo che cosa ci vuoi tu fare oramai è destino oramai è scritto nei decreti della sapienza che tutti quei ragazzi svogliati che pigliando a noia i libri le scuole e i maestri passano le loro giornate in balocchi in giochi e in divertimenti debbano finire prima o poi col trasformarsi in tanti piccoli somari ma davvero è proprio così domandò singhiozzando il burattino purtroppo è così e ora i pianti sono inutili bisognava pensarci prima ma la colpa non è mia la colpa credilo marmottina è tutta di lucignolo e chi è questo lucignolo un mio compagno di scuola io volevo tornare a casa io volevo essere ubbidiente io volevo seguitare a studiare a farmi onore ma lucignolo mi disse perché vuoi tu annoiarti a studiare perché vuoi andare alla scuola vieni piuttosto con me nel paese dei balocchi lì non studieremo più lì ci divertiremo dalla mattina alla sera e saremo sempre allegri e perché seguisti il consiglio di quel falso amico di quel cattivo compagno perché perché marmottina mia io sono un burattino senza giudizio e senza cuore oh se avessi avuto un zinzino di cuore non avrei mai abbandonata quella buona fata che mi voleva bene come una mamma e che aveva fatto tanto per me e a quest'ora non sarei più un burattino ma sarei invece un ragazzino a modo come ce n'è tanti ma se incontro lucignolo guai a lui gliene voglio dare un sacco e una sporta e fece l'atto di voler uscire ma quando fu sulla porta si ricordò che aveva gli orecchi d'asino e vergognandosi di mostrarsi in pubblico che cosa inventò prese un gran berretto di cotone e ficcato se lo intesta se lo ingozzò fin sotto la punta del naso poi uscì e si dette a cercare lucignolo dappertutto lo cercò nelle strade nelle piazze nei teatrini in ogni luogo ma non lo trovò ne chiese notizia a quanti incontrò per la via ma nessuno l'aveva veduto allora andò a cercarlo a casa e arrivato alla porta a busso chi è domandò lucignolo di dentro sono io rispose il burattino aspetta un poco e ti aprirò dopo mezz'ora la porta si aprì e figuratevi come restò Pinocchio quando entrando nella stanza vide il suo amico lucignolo con un gran berretto di cotone in testa che gli scendeva fin sotto il naso alla vista di quel berretto Pinocchio sentì quasi consolarsi e subito pensò dentro di sé che l'amico sia malato della mia medesima malattia che abbia anche lui la febbre del ciuchino e facendo finta di non essersi accorto di nulla gli domandò sorridendo come stai mio caro lucignolo benissimo come un topo in una forma di cacio parmigiano lo dici proprio sul serio e perché dovrei dirti una bugia ma scusi a mio amico e allora perché tieni in capo con questo berretto di cotone che ti copre gli orecchi me l'ha ordinato il medico perché mi sono fatto male a questo ginocchio e tu caro burattino perché porti con questo berretto di cotone ingozzato fin sotto il naso me l'ha ordinato il medico perché mi sono sbucciato un piede oh povero Pinocchio oh povero lucignolo a queste parole tenne dietro un lunghissimo silenzio durante il quale i due amici non fecero altro che guardarsi fra loro in atto di canzonatura finalmente il burattino con una vocina mellifua e flautata disse al suo compagno levami una curiosità mio caro lucignolo hai mai sofferto di malattie agli orecchi mai e tu mai peraltro da questa mattina in poi ho un orecchio che mi fa spasimare ho lo stesso male anch'io anche tu e qual è l'orecchio che ti duole tutti e due e tu tutti e due che sia la medesima malattia ho paura di sì vuoi farmi piacere lucignolo volentieri con tutto il cuore mi fai vedere i tuoi orecchi perché no ma prima voglio vedere i tuoi caro Pinocchio no il primo devi essere tu no carino prima tu che dopo io ebbene disse allora il burattino facciamo un patto da buoni amici sentiamo il patto leviamoci tutte e due il berretto nello stesso tempo accetti accetto dunque attenti e Pinocchio cominciò a contare voce alta uno due tre alla parola tre i due ragazzi presero i loro berretti di capo e li gettarono in aria e allora avvenne una scena che parebbe incredibile se non fosse vera avvenne cioè che Pinocchio e Lucignolo quando si videro colpiti tutti e due dalla medesima disgrazia invece di restare mortificati e dolenti cominciarono ad ammiccarsi i loro orecchi smisuratamente cresciuti e dopo mille sguagliataggini finirono col dare in una bella risata e risero 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 da doversi reggere il corpo se non che sul più bello del ridere Lucignolo tutto un tratto si chetò e barcollando e cambiando di colore disse all'amico aiuto che aiuto Pinocchio che cos'hai oimè non mi riesce più di starrito sulle gambe non mi riesce più neanche a me grido Pinocchio piangendo traballando e mentre dicevano così si piegarono tutti e due carponi a terra e camminando con le mani e con i piedi cominciarono a girare e a correre per la stanza e intanto che correvano i loro bracci diventarono zampe e i loro visi si allungarono e diventarono musi e le loro schiene si coprirono di un pellame grigellino chiaro brizzolato di nero ma il momento più brutto per quei due sciagurati sapete quando fu il momento più brutto e più umiliante fu quello quando sentirono spuntarsi di dietro la coda vinti allora dalla vergogna e dal dolore si trovarono a piangere e a lamentarsi del loro destino non l'avessero mai fatto invece di gemiche e di lamenti mandavano fuori dei gradi asigni e ragliandosi nuovamente facevano tutti e due in coro iah 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 in quel frattempo fu bussato la porta e una voce di fuori disse aprite sono l'omino sono il conduttore del carro che vi portò in questo paese aprite subito o guai a voi capitolo 33 diventato un ciuchino vero è portato a vendere e lo compra il direttore di una compagnia di pagliacci per insegnarli a ballare e saltare i cerchi ma una sera zuppisce e allora lo ricomprò un altro per far con la sua pelle un tamburo vedendo che la porta non si apriva l'omino la spalancò con un violentissimo calcio ed entrato nella stanza disse col suo solito risolino a pinocchio lucignolo bravi ragazzi avete ragliato bene e io vi ho subito riconosciuti alla voce e per questo eccomi qui a tali parole i due ciuchini rimassero moggi moggi con la testa giù con gli orecchi bassi e con la coda fra le gambe da principio l'omino li lasciò li accarezzò li palpeggiò poi tirata fuori la streglia cominciò a stigliarli per bene e quando a furia di stigliarli li ebbe fatti lustri come due specchi allora messe loro la cavezza e li condusse sulla piazza del mercato con la speranza di venderli e di peccarsi un discreto guadagno e i compratori di fatti non si fecero aspettare Lucignolo fu comprato da un contadino a cui era morto il suo mare il giorno avanti e Pinocchio fu venduto al direttore di una compagnia di pagliacce e di saltatori di corda il quale lo comprò per ammaestrarlo e per farlo poi saltare e ballare insieme con le altre bestie della compagnia e ora avete capito miei piccoli lettori qual era il bel mestiere che faceva allumino questo brutto mossicciattolo che aveva la fisionomia tutta di latte e miele andava di tanto in tanto con un carro a girare il mondo straga facendo raccoglieva compromesse e comune tutti i ragazzi svogliati che avevano a noi i libri e le scuole e dopo averli caricati sul suo carro li conduceva nel paese dei balocchi perché passassero tutto il loro tempo in giochi in chiassate e in divertimenti quando poi quei poveri ragazzi illusi a furia di baloccarsi sempre di non studier mai diventavano tanti ciuchini allora tutto allegro e contento si impadroniva di loro e li portava a vendere sulle fiere e sui mercati e così in pochi anni aveva fatto fior di quattrini ed era diventato milionario quel che accadesse di lucignolo non lo so so peraltro che Pinocchio andò incontro fin dai primi giorni a una vita durissima e strapazzata quando fu condotto nella stalla il nuovo padrone gli empì la greppia di paglia ma Pinocchio dopo averne assaggiato una boccata la risputò allora il padrone brontolando gli empì la greppia di fieno ma neppure il fieno gli piacque ah non ti piace neppure il fieno gridò il padrone invizzito lascia fare ciuchino bello che se hai dei capricci per il capo penserò io allevarteli e a titolo di correzione gli affibbiò subito una frustata nelle gambe Pinocchio dal gran dolore cominciò a piangere e a ragliare e ragliando disse i-à i-à la paglia non la posso digerire allora mangi il fieno replicò il padrone che intendeva benissimo il dialetto asinino i-à i-à il fieno mi fa volere il corpo «Pretenderesti dunque che un somaro, partuo, lo dovessi mantenere a petti di pollo e cappone in garantina?» Soggiunge il padrone, arrabbiandosi sempre più, riaffibbiandogli una seconda frustata. A quella seconda frustata Pinocchio, per prudenza, si chetò subito e non disse altro. Intanto la stalla fu chiusa e Pinocchio rimase solo e perché erano molte ore che non aveva mangiato, cominciò a sbadigliare dal grande appetito e sbadigliando spalancava la bocca che pareva un forno. Alla fine, non trovando altro nella greppia, si rassegnò a masticare un po' di fieno e dopo averlo masticato ben bene, chiuse gli occhi e lo tirò giù. «Questo fieno non è cattivo», poi disse dentro di sé. «Ma quanto sarebbe stato meglio che avessi continuato a studiare? A quest'ora, invece di fieno, potrei mangiare un cantuccio di pan fresco e una bella fetta di salame. Pazienza!» La mattina dopo, svegliandosi, cercò subito nella greppia un altro po' di fieno, ma non lo trovò perché l'aveva mangiato tutto nella notte. Allora prese una boccata di paglia tritata e in quel mentre che la stava masticando, si dov'è persuadere che il sapore della paglia tritata non somigliava appunto né al risotto alla milanese né ai maccheroni alla napoletana. «Pazienza!» ripeté continuando a masticare. «Che almeno la mia disgrazia possa servire di lezione a tutti i ragazzi disobbedienti e che non hanno voglia di studiare. Pazienza!» «Pazienza!» «Pazienza un corno!» urlò il padrone entrando in quel momento nella stalla. «Credi forse, mio bel ciuchino, che io t'abbia comprato unicamente per darti da bere e da mangiare? Io ti ho comprato perché tu lavori e perché tu mi faccia guadagnare molti quattrini. Su dunque, da bravo!» «Vieni con me nel cerco e là ti insegnerò a saltare i cerchi, a rompere col capo le botti di foglio e a ballare il waltzer e la polca, stando ritto sulle gambe di dietro». Il povero Pinocchio, o per amore o per forza, dove imparare tutte queste bellissime cose. Ma per impararle gli ci vollero tre mesi di lezioni e molte frustate da levare il pelo. Venne finalmente il giorno in cui il suo padrone poteva annunziare uno spettacolo veramente straordinario. I cartelloni di vario colore attaccati alle cantonate delle strade dicevano così «Grande spettacolo di gala per questa sera! Avranno luogo i soliti salti ed esercizi sorprendenti eseguiti da tutti gli artisti e da tutti i cavalli d'ambo i sessi della compagnia». «E più sarà presentato per la prima volta il famoso ciuchino Pinocchio, detto la stella della danza. Il teatro sarà illuminato a giorno». Quella sera, come potete figurarvelo, un'ora prima che cominciasse lo spettacolo, il teatro era pieno stivato. Non si trovava più né una poltrona, né un posto distinto, né un palco, nemmeno a pagarlo a peso d'oro. Le gradinate del circo formicolavano di bambini, di bambine e di ragazzi di tutte le età che avevano la febbre addosso per la smania di veder ballare il famoso ciuchino Pinocchio. Finita la prima parte dello spettacolo, il direttore della compagnia, vestito in giubba nera, calzoni bianchi a coscia e stivaloni di pelle fin sopra i ginocchi, si presentò all'affollatissimo pubblico e fatto un grande inchino. Recitò con molta solennità il seguente spropositato discorso. «Rispettabile pubblico, cavalieri e dame, l'umile sottoscritto, essendo di passaggio per questa illustre metropolitana, ha voluto procrearmi l'onore, nonché il piacere, di presentare a questo intelligente e cospicuo auditorio un celebre ciuchino che ebbe già l'onore di ballare al cospetto di sua maestà l'imperatore di tutte le principali corti d'Europa. E col ringraziandoli aiutateci della vostra animatrice presenza e compatiteci!» Questo discorso fu accolto da molte risate e da molti applausi, ma gli applausi raddoppiarono e diventarono una specie di uragano alla comparsa del ciuchino Pinocchio in mezzo al circo. Egli era tutto agghindato a festa. Aveva una briglia nuova di pelle lustra con fibbie e borchie d'ottone, due camele bianche agli orecchi, la criniera divisa in tanti riccioli legati con fiocchetti di seta rossa, una gran fascia d'oro e d'argento attraverso la vita e la coda tutta intrecciata con nastri di velluto paonazzo e celeste. Era insomma un ciuchino da innamorare. Il direttore, nel presentarlo al pubblico, aggiunse queste parole. Miei rispettabili auditori, non starò qui a farvi menzogna delle grandi difficoltà da me soppressate per comprendere e soggiogare questo mammifero, mentre pascolava liberamente di montagna in pontagna nelle pianure della zona torrida. Osservate, vi prego, quanta selvaggina trasudida ai suoi occhi, conciossi a che, essendo riusciti vanitosi tutti i mezzi per addomesticarlo al vivere dei quadrupe dei civili, ho dovuto più volte rincorrere all'affabile dialetto della frusta. Ma ogni mia gentilezza, invece di farmi da lui benvolere, me ne ha maggiormente cattivato l'animo. Io però, seguendo il sistema di Galles, trovai nel suo cranio una piccola cartagine ossea che la stessa facoltà medicea di Parigi riconobbe per essere quello il bulbo rigeneratore dei capelli e della danza pirrica. E per questo io lo voglio ammaestrare nel ballo, nonché nei relativi salti dei cerchi e delle botti poderate di foglio. Ammiratelo e poi giudicatelo. Prima però di prendere cognato da voi, permettete, o signori, che io vi inviti al diurno spettacolo di domani sera. Ma nell'apoteosi che il tempo piovoso minacciasse acqua, allora lo spettacolo, invece di domani sera, sarà posticipato a domattina, alle ore undici, antimeridiane del pomeriggio. E qui il direttore. fece una profondissima riverenza, quindi, volgendosi a Pinocchio, disse, Animo Pinocchio! Avanti di dar principio ai vostri esercizi! Salutate questo rispettabile pubblico, cavalieri, dame e ragazzi! Pinocchio, Pinocchio, ubbidiente, piegò subito i due ginocchi davanti e rimase inginocchiato fino a tanto che il direttore, schioccando la frusta, non gli gridò, AL PASSO! Allora il ciuchino si rizzò sulle quattro gambe e cominciò a girare intorno al circo camminando sempre di passo. Dopo un poco il direttore gridò AL TROTTO! E Pinocchio, ubbidiente al comando, cambiò il passo in trotto. AL GALOPPO! E Pinocchio staccò il galoppo. AL LA CARRIERA! E Pinocchio si dette a correre di gran carriera. Ma in quella che correva come un barbero il direttore alzando il braccio in aria scaricò un colpo di pistola. A quel colpo il ciuchino fingendosi ferito cade disteso nel circo come se fosse moribondo davvero. Rizzatosi da terra in mezzo a uno scoppio di applausi, durli e di battimani che andavano alle stelle gli venne fatto naturalmente di alzare la testa e di guardare in su e guardando vidi in un palco una bella signora che aveva al collo una grossa collara d'oro dalla quale pendeva un medaglione. Nel medaglione c'era dipinto il ritratto di un burattino. Quella ritratto è il mio! Quella signora è la fata! disse dentro di sé Pinocchio riconoscendola subito e lasciandosi vincere dalla gran contentezza si provò a gridare oh fatina mia oh fatina mia ma invece di queste parole gli uscì dalla gola un raglio così sonoro e prolungato che fece ridere tutti gli spettatori e segnatamente tutti i ragazzi che erano in teatro. Allora il direttore per insegnargli e per fargli intendere che non è buona creanza di mettersi a ragliare in faccia al pubblico gli die col manico della frusta una bacchettata sul naso. Il povero ciuchino tirato fuori un palmo di lingua durò a leccarsi il naso almeno cinque minuti credendo forse così di rasciugarsi il dolore che aveva sentito. Ma quale fu la sua disperazione quando voltandosi in su una seconda volta vide che il palco era vuoto e che la fatta era sparita si sentì come morire gli occhi gli si impirono di lacrime e cominciò a piangere dirottamente nessuno però se ne accorse e meno degli altri il direttore il quale anzi schioccando la frusta gridò da bravo Pinocchio ora farete vedere a questi signori con quanta grazia sapete saltare i cerchi Pinocchio si provò due o tre volte ma ogni volta che arrivava davanti al cerchio invece di attraversarlo ci passava più comodamente di sotto alla fine spiccò un salto e l'attraversò ma le gambe di dietro gli rimasero disgraziatamente impigliate nel cerchio motivo per cui ricade in terra dall'altra parte tutti in un fascio quando si rizzò era zoppito e a malapena poter ritornare alla scuderia fuori Pinocchio vogliamo il ciuchino fuori il ciuchino gridavano i ragazzi dalla platea impietositi e commossi al tristissimo caso ma il ciuchino per quella sera non si fece più rivedere la mattina dopo il veterinario ossia il medico delle bestie quando l'ebbe visitato dichiarò che sarebbe rimasto zoppo per tutta la vita allora il direttore disse al suo garzone di stalla e che vuoi tu che me ne faccia ad un somaro zoppo sarebbe un mangia pane a ufo portalo dunque in piazza e rivendilo arrivati in piazza trovarono subito il compratore il quale domandò al garzone di stalla quanto vuoi dico adesso ciuchino zoppo 20 lire io ti do 20 soldi non credere che io lo compri per servirmene lo compro unicamente per la sua pelle vedo che ha la pelle molto dura e con la sua pelle voglio fare un tamburo per la banda musicale del mio paese lascio pensare a voi ragazzi il bel piacere che fu per il povero Pinocchio quando sentì che era destinato a diventare un tamburo fatto sta che il compratore appena pagati i 20 soldi condusse il ciuchino sulla riva del mare e messogli un sasso al collo e legatolo per una zampa con una fune che tenevi in mano gli diè improvvisamente uno spintone e lo gettò nell'acqua Pinocchio con quel macigno al collo andò subito a fondo e il compratore tenendo sempre stretti in mano la fune si pose a sedere sopra uno scoglio aspettando che il ciuchino avesse tutto il tempo di morire affogato per poi scorticarlo e levargli la pelle trentaquattresimo capitolo Pinocchio gettato in mare è mangiato dai pesci e ritorna ad essere un burattino come prima ma mentre nuota per salvarsi è ingoiato dal terribile pesce cane dopo 50 minuti che il ciuchino era sott'acqua il compratore disse discorrendo da sé solo a quest'ora il mio povero ciuchino zoppo deve essere bello affogato ritiriamolo dunque su e facciamo con la sua pelle questo bel tamburo e cominciò a tirare la fune con la quale lo aveva legato per una gamba e tira 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 alla fine vide apparire a fior d'acqua indovinate invece di un ciuchino morto vide apparire a fior d'acqua un burattino vivo che scodinzolava come un'anguilla vedendo vedendo quel burattino di legno il povero uomo crede di sognare e rimase lì intontito a bocca aperta e con gli occhi fuori della testa riavutosi un poco dal suo primo stupore disse piangendo e balbettando e il ciuchino che ho gettato in mare dov'è? quel ciuchino sono io rispose il burattino ridendo tu io? ah mariuolo pretenderesti forse di burlarti di me? burlarmi di voi tutt'altro caro padrone io vi parlo sul serio ma come mai tu che poco fa eri un ciuchino ora stando nell'acqua sei diventato un burattino di legno? sarà effetto dell'acqua del mare il mare ne fa di questi scherzi bada burattino bada non credere di divertirti alle mie spalle guai a te se mi scappa la pazienza ebbene padrone volete sapere tutta la vera storia? scioglietemi questa gamba e io ve la racconterò quel buon pasticcione del compratore curioso di conoscere la vera storia gli sciolse subito il nodo della fune che lo teneva legato e allora Pinocchio trovandosi libero come un uccello nell'aria prese a dirgli così sappiate dunque che io ero un burattino di legno come sono oggi ma mi trovavo a tocco e non tocco di diventare un ragazzo come in questo mondo ce n'è tanti se non che per la mia poca voglia di studiare e per dar retta ai cattivi compagni scappai di casa e un bel giorno svegliandomi mi trovai cambiato in un somaro con tanto d'orecchi e con tanto di coda che vergogna che vergogna fu quella per me una vergogna caro padrone che Sant'Antonio Benedetto non la faccia provare neppure a voi portato a vendere sul mercato degli asini fui comprato dal direttore di una compagnia equestre il quale si messe in capo di far di me un gran ballerino e un gran saltatore di cerchi ma una sera durante lo spettacolo feci in teatro una brutta cascata e rimasi zoppo da tutte e due le gambe allora il direttore non sapendo che cosa farsi di un asino zoppo mi mandò a rivendere e voi mi avete comprato purtroppo e ti ho pagato venti soldi e ora chi mi rende i miei poveri venti soldi e perché mi avete comprato voi mi avete comprato per fare con la mia pelle un tamburo un tamburo purtroppo e ora dove troverò un'altra pelle non vi date alla disperazione padrone dei ciuchini ce n'è tanti in questo mondo dimmi monello impertinente e la tua storia finisce qui no rispose il burattino ci sono altre due parole e poi è finita dopo avermi comprato mi avete condotto in questo luogo per uccidermi ma poi cedendo a un sentimento pietoso d'umanità avete preferito di legarmi un sasso al collo e di gettarmi in fondo al mare questo sentimento questo sentimento di delicatezza vi onora moltissimo e io ve ne serverò eterna riconoscenza peraltro caro padrone questa volta avete fatto i vostri conti senza la fata e chi è questa fata è la mia mamma la quale assomiglia a tutte quelle buone mamme che vogliono un gran bene i loro ragazzi e non li perdono mai d'occhio e li assistono amorosamente in ogni disgrazia anche quando questi ragazzi per le loro scapataggini e per i loro cattivi portamenti meriterebbero di essere abbandonati e lasciati in balia a se stessi dicevo dunque che la buona fata appena mi vide in pericolo di affogare mandò subito intorno a me un branco infinito di pesci i quali credendomi davvero un giuchino bello e morto cominciarono a mangiarmi e che bocconi che facevano non avrei mai creduto che i pesci fossero più grotti anche dei ragazzi chi mi mangia gli orecchi chi mi mangia il muso chi il collo e la criniera chi la pelle delle zampe chi la pelliccia della schiena e fra gli altri vi fu un pesciolino così garbato che si degnò perfino di mangiarmi la coda da oggi in poi disse il compratore inorridito faccio giuro di non assaggiare più carne di pesce mi dispiacerebbe troppo di aprire una triglia o un nasello fritto e di trovargli in corpo una coda di ciucco ah io la penso come voi replicò il burattino ridendo del resto dovete sapere che quando i pesci ebbero finito di mangiarmi tutta quella buccia sinina che mi copriva dalla testa ai piedi arrivarono come naturale all'osso o per dir meglio arrivarono al legno perché come vedete io sono fatto di legno durissimo ma dopo dati i primi morsi i pesci che i pesci gli ottoni si accorsero subito che il legno non era ciccia per i loro denti e nauseati da questo cibo e di gesto se ne andarono chi in qua chi in là senza portarsi nemmeno a dirmi grazie ed eccovi raccontato che qualmente voi tirando sulla fune avete trovato un burattino vivo invece di un ciuchino morto io mi rido della tua storia gridò il compratore imbestialito io so che ho perso venti soldi per comprarti e rivoglio i miei quattrini sai cosa farò ti porterò da capo al mercato e ti rivenderò appeso di legno stagionato per accendere il fuoco del caminetto ah rivendetemi pure io sono contento disse Pinocchio ma nel dir così fece un bel salto e schizzo in mezzo all'acqua e nuotando allegramente allontanandosi dalla spiaggia gridava al povero compratore addio padrone se avete bisogno di una pelle per fare un tamburo ricordatevi di me e poi rideva e seguitava a nuotare e dopo un poco rivoltandosi indietro urlava più forte addio padrone se avete bisogno di un po' di legno stagionato per accendere il caminetto ricordatevi di me fatto sta che in un batter d'occhio si era tanto allontanato che non si vedeva quasi più ossia si vedeva solamente sulla superficie del mare un puntolino nero che di tanto in tanto rizzava le gambe fuori dall'acqua e faceva capriole e salti come un delfino in vena di buon umore intanto che Pinocchio nuotava all'avventura vide in mezzo al mare uno scoglio che pareva di marco bianco e su in cima allo scoglio una bella caprettina che belava amorosamente e gli faceva scendo di avvicinarsi la cosa più singolare era questa che la lana della caprettina invece di essere bianca o nera o pallata di più colori come quella delle altre capre era invece tutta turchina ma di un turchino così sfolgorante che rammentava moltissimo i capelli della bella bambina lascio pensare a voi se il cuore del povero Pinocchio cominciò a battere più forte raddoppiando di forza e di energia si dì a nuotare verso lo scoglio bianco ed era già a mezza strada quando ecco uscir fuor dall'acqua e venirgli incontro un'orribile testa di mostro marino con la bocca spalancata come una voragine e tre filari di zanne che avrebbero fatto paura anche a vederle dipinte e sapete chi era quel mostro marino? quel mostro marino era né più né meno quel gigantesco pesce cane ricordato più volte in questa storia e che per le sue stragi e per la sua insaziabile voracità veniva soprannominato l'attila dei pesci e dei pescatori immaginatevi lo spavento del povero Pinocchio alla vista del mostro cercò di scansarlo di cambiare strada cercò di fuggire ma quella immensa bocca spalancata gli veniva sempre incontro con la velocità di una saetta affrettati Pinocchio per carità gridava velando la bella caprettina e Pinocchio nuotava disperatamente con le braccia col petto con le gambe e coi piedi corri Pinocchio perché il mostro si avvicina e Pinocchio raccogliendo tutte le sue forze raddoppiava di lena nella corsa vada Pinocchio il mostro ti raggiunge eccolo eccolo affrettati per carità o sei perduto e Pinocchio a nuotare più lesto che mai e via e via e via come anderebbe una palla di fucile e già si accostava allo scoglio e già la caprettina spenzolandosi tutta sul mare gli porgeva le sue zampine davanti per aiutarla a uscire fuori dell'acqua ma ma oramai era tardi il mostro lo aveva raggiunto il mostro tirando il fiato a sé si beve il povero burattino come avrebbe bevuto un uovo di gallina e lo indiottì con tanta violenza e con tanta avidità che Pinocchio cascando giù in corpo al pesce cane batte un colpo così screanzato da restarne sbarordito per un quarto d'ora quando ritorna in seda quello sbigottimento non sapeva raccapezzarsi nemmeno lui in che mondo si fosse intorno a sé c'era da ogni parte un gran buio ma un buio così nero e profondo che gli pareva di essere entrato col capo in un calamaio pieno di inchiostro stette in ascolto e non sentì nessun rumore solamente di tanto in tanto sentiva battersi nel viso alcune grandi buffate di vento da principio non sapeva intendere da dove quel vento uscisse ma poi capì che usciva dai colmoni del mostro perché bisogna sapere che il pesce cane soffriva moltissimo d'asma e quando respirava pareva proprio che soffiasse la tramontana Pinocchio sulle prime si ingegna di farsi un po' di coraggio ma quando ebbe la prova e la riprova di trovarsi chiuso in corpo al mostro marino allora cominciò a piangere e a strillare e piangendo diceva aiuto aiuto oh povero me non c'è nessuno che venga a salvarmi chi vuoi che ti salvi disgraziato chiese disse in quel buio una vociaccia fessa di chitarra scordata chi è che parla così domandò Pinocchio sentendosi gelare dallo spavento sono io sono un povero tonno inghiottito dal pesce cane insieme con te e tu che pesce sei io non ho che veder nulla coi pesci io sono un burattino e allora se non sei un pesce perché ti sei fatto inghiottire dal mostro non sono io che mi sono fatto inghiottire gli è lui che mi ha inghiottito ed ora che cosa dobbiamo fare qui al buio rassegnarsi e aspettare che il pesce cane ci abbia digeriti tutti e due ma io non voglio essere digerito urlò Pinocchio ricominciando a piangere neppure io voglio essere digerito soggiunse il tonno ma io sono abbastanza filosofo e mi consolo pensando che quando si nasce tonni c'è più dignità morire sott'acqua che sott'olio scioccherie gridò Pinocchio la mia è un'opinione replicò il tonno e le opinioni come dicono i tonni politici vanno rispettate insomma io voglio andarmene di qui io voglio fuggire fuggi se ti riesce è molto grosso questo pesce cane che ci ha inghiottiti domandò al burattino figurati che il suo corpo è più lungo di un chilometro senza contare la coda nel tempo che facevano questa conversazione al buio parve a Pinocchio di vedere lontan lontano una specie di chiarore che cosa sarà mai quel lumicino lontano lontano disse Pinocchio sarà qualche nostro compagno di sventura che aspetterà come noi il momento di essere digerito voglio andare a trovarlo non potrebbe darsi il caso che fosse qualche vecchio pesce capace di insegnarmi la strada per fuggire io te lo auguro di cuore caro burattino addio tonno addio burattino e buona fortuna dove ci rivedremo chi lo sa è meglio non pensarci neppure capitolo 35 pinocchio ritrova in corpo al pesce cane chi ritrova leggete questo capitolo e lo sapete pinocchio appena che bevito addio al suo buon amico tonno si mosse bancolando in mezzo a quel buio e camminando a tastone dentro il corpo del pesce cane si avviò un passo dietro alto verso quel piccolo chianore che veniva a barriginare lontano lontano e nel camminare sentì che i suoi piedi sguazzavano in una pozzangela d'acqua grassa e sbucciolona e quell'acqua sapeva di un odore così acuto di pesce frutto che gli pareva ad essere a mezza quaresima e più andò avanti e più e chi allora si faceva di recente distinto finché cammina cammina alla fine arrivò e quando fu arrivato che cosa trovò ve lo do a indominare trovò una piccola tavola apparecchiata con sopra una candela accesa infilata in una bottiglia di cristallo verde e seduto a tavola un vecchiettino tutto bianco come se fosse di nide o di panna montata il quale se ne stava lì biascicando alcuni pesciolini ma tanto nini che alle volte mentre li mangiava gli scappavano per stile di bocca a quella vista il povero Pinocchio ed un'allegrezza così grande e così inaspettata che ci mancò unette non cadesse in delirio voleva ridere voleva piangere voleva dire un monte di cose e invece mugolava confusamente e balbettava delle parole tronche e sconclusionate finalmente gli riuscì di cacciar fuori un grido di gioia e spalancando le braccia e gettandosi al collo del vecchietto cominciò a urlare oh babbo mio finalmente vi ho ritrovato ora poi non mi lascio più mai più mai più dunque gli occhi mi dicono il vero replicò il vecchietto assopicciandosi gli occhi dunque tu sei proprio il mio caro Pinocchio sì sì sono proprio io proprio io e voi mi avete già riperdonato non è vero oh babbo mio come siete buono e pensare che io invece ma se sapeste quante disgrazie mi sono piovute sul capo e quante cose mi sono andate attraverso figuratevi che il giorno che voi povero babbo col vendere la vostra casacca mi compasse la beccelaria per andare alla scuola io scappai a vedere i burattini e il burattinaio mi voleva mettere su fuoco perché gli cocesse il montone al bosco che fu quello poi che mi dette cinque monete d'oro perché le portasse a voi ma io trovai la volpe e il gatto che mi condussero all'osteria del gambero russo dove mangiarono come lupi e partito solo di notte incontrai gli assassini che si messero a corrermi dietro e io via e loro dietro e io via e loro sempre dietro e io via finché mi impiccavano un ramo della quercia grande dove che la bella bambina ha i capelli turchini mi vanno a prendere con una carrozzina e i medici quando mi ebbero visitato dissero subito se non è morto è segno che sempre vivo e allora mi scappò detto una bugia e il naso cominciò a crescermi e non mi passò più dalla porta di camera motivo per cui andare con la volpe e col gatto a sotterrare le quattro monete d'oro che una non spesa all'osteria e il pappagallo si messe a ridere e viceversa di duemila monete non trovai più nulla la quale il giudice quando seppe che ero stato rubato mi fece subito mettere in prigione per dare una soddisfazione l'acqua di dove col venerdìa vidi un bel grappolo due in un campo che rimasi preso alla tagliola e il contadino di santa ragione mi messe il collare del cane perché facesse la guardia al collare che riconobbe la mia innocenza e mi lasciò andare e il serpente con la coda che gli fumava cominciò a ridere e si strappò una vina sul petto e così ritornare alla casa della bella bambina che era morta e il colombo vedendo che piangero mi disse ho visto il tuo babbo che si fabbricava una barchettina per venirti a cercare e io gli dissi oh se avessi le aree anch'io e gli gli disse vuoi venire al tuo babbo e io gli dissi magari ma chi mi ci porta e lui gli disse ti ci porto io e io gli dissi come? e lui gli disse montavi sulla groppa e così abbiamo volato tutta la notte poi la mattina tutti i pescatori che guardavano verso il mare mi dissero c'è un poverone in una barchetta che sta per affogare e io da lontano vi riconobbi subito perché me lo diceva il cuore e mi feci segno di tornare alla spiaggia ti riconobbi anch'io disse Geppetto e sarei volentieri tornato alla spiaggia ma come fare il mare era grosso e un cavallone mi arrovesciò la barchetta allora un orribile pescecane che era lì vicino appena che mebbe visto nell'acqua corse subito verso di me e tirata fuori la lingua mi prese pari pari e mi inghiottì come un tortellino di Bologna e quant'è che siete chiuso qui dentro domandò Pinocchio da quel giorno in poi saranno ormai due anni due anni Pinocchio mio che mi son parzi due secoli e come avete fatto a campare e dove avete trovata la candela e i fiammiferi per accenderla chi ve li ha dati ora ti racconterò tutto devi dunque sapere che quella medesima burrasca che rovesciò la mia barchetta fece anche affondare un bastimento mercantile i marinai si salvarono tutti ma il bastimento calò a fondo e il solito pesce cane che quel giorno aveva un appetito eccellente dopo avere inghiottito me inghiottì anche il bastimento come lo inghiotti tutto in un boccone domandò Pinocchio maravigliato tutto in un boccone e risputò solamente l'albero maestro perché gli era rimasto fra i denti come una lisca per mia grande fortuna quel bastimento era carico non solo di carne conservata in cassette di stagno ma di biscotto ossia di pane abbrostolito di bottiglie di vino d'uva secca di cacio di caffè di zucchero di candele steariche e di scatole di fiammiferi di cera con tutta questa grazia di dio ho potuto campare due anni ma oggi sono agli ultimi sgoccioli oggi nella dispensa non c'è più nulla e questa candela che vedi accesa è l'ultima candela che mi sia rimasta e dopo e dopo caro mio rimarremo tutte e due al buio allora bambino mio disse Pinocchio non c'è tempo da perdere bisogna pensare subito a fuggire a fuggire e come scappando dalla bocca del pesce cane e gettandosi a nuoto in mare tu parli bene ma io caro Pinocchio non so nuotare e che importa voi mi monterete a cavalluccio sulle spalle e io che sono un buon nuotatore vi porterò sano e salvo fino alla spiaggia illusioni ragazzo mio replicò Geppetto scotendo il capo e sorridendo malinconicamente ti pare egli possibile che un burattino alto appena un metro come sei tu possa aver tanta forza da portarmi a nuoto sulle spalle provatevi e vedrete a ogni modo se sarà scritto in cielo che dobbiamo morire avremo almeno la gran consolazione di morire abbracciati insieme e senza senza di l'altro Pinocchio prese in mano la candela e andando avanti per far lume disse al suo babbo venite dietro a me e non abbiate paura e così camminarono un bel pezzo e traversarono tutto il corpo e tutto lo stomaco del pesce cane ma giunti al punto dove cominciava la spaziosa gola del mostro pensarono bene di fermarsi per dare un'occhiata e cogliere il momento opportuno alla fuga ora bisogna sapere che il pesce cane essendo molto vecchio e soffrendo d'asma e di palpitazione di cuore era costretto a dormire a bocca aperta per cui Pinocchio affacciandosi al principio della gola e guardando in su poteva vedere al di fuori di quell'enorme bocca spalancata un bel pezzo di cielo stellato e un bellissimo lume di luna questo è il vero momento di scappare bisbigliò allora voltandosi al suo babbo il pesce cane dorme come un ghiro il mare è tranquillo e ci si vede come di giorno vieni dunque babbino dietro a me e fra poco saremo salvi detto fatto salirono su per la gola del mostro marino e arrivati in quell'immensa bocca cominciarono a camminare in punta di piedi sulla lingua una lingua così larga e così lunga che pareva il viottolone di un giardino e già stavano lì lì per fare il gran salto e per gettarsi a nuoto nel mare quando sul più bello il pesce cane starnotì e nello starnotire dette uno scossone così violento che Pinocchio e Geppetto si trovarono rimbalzati all'indietro e scaraventati nuovamente in fondo allo stomaco del mostro nel grandurto della caduta la candela si spense e padre figuolo rimasero al buio e ora domandò Pinocchio facendosi serio ora ragazzo mio siamo belle perduti perché perduti datemi la mano babbino e badate di non sdrucciolare dove mi conduci dobbiamo ritentare la fuga venite con me e non abbiate paura ciò detto Pinocchio prese il suo babbo per la mano e camminando sempre in punta di piedi risalirono insieme su per la gola del mostro poi traversarono tutta la lingua e scavalcarono tre filari di denti prima però di fare il gran salto il burattino disse al suo babbo montatemi a cavalluccio sulle spalle e abbracciatemi forte forte al resto ci penso io appena Geppetto si fu accomodato per bene sulle spalle del figliuolo il bravo Pinocchio sicuro del fatto suo si gettò nell'acqua e cominciò a nuotare il mare era tranquillo come un olio la luna splendeva in tutto il suo chiarore e il pesce cane seguitava a dormire di un sonno così profondo che non l'avrebbe svegliato nemmeno una cannonata finalmente Pinocchio cessa di essere un burattino e diventa un ragazzo mentre Pinocchio nuotava alla svelta per raggiungere la spiaggia si accorse che il suo babbo il quale distava a cavalluccio sulle spalle e aveva le gambe mezze nell'acqua tremava fitto fitto come se al pover uomo gli battesse la febbre terzana tremava di freddo o di paura chi lo sa forse un po' dell'uno e un po' dell'altro ma Pinocchio credendo che quel tremito fosse di paura gli disse per confortarlo coraggio coraggio babbo fra pochi minuti arrivaremo a terra e saremo salvi ma dov'è questa spiaggia benedetta domandò il vecchietto diventando sempre più inquieto e appuntando agli occhi come fanno i santi quando infilano l'ago eccomi qui che guardo da tutte le parti e non vedo altro che cielo e mai ma io vedo anche la spiaggia disse il burattino per vostra regola io sono come i gatti ci vedo meglio di notte che di giorno il povero Pinocchio faceva finta di essere di buon umore ma invece invece cominciava a scoraggiarsi le forze gli scemavano il suo respiro diventava grosso e affannoso insomma non ne poteva più e la spiaggia era sempre più lontana nuotò finché ebbe fiato poi si voltò col capo verso Geppetto e disse con parole interrotte babbo mio aiutatemi perché io muoio e padre e figlio erano ormai sul punto di affogare quando dio una voce di chitarra scordata che disse chi è che muore sono io e il mio povero babbo questa voce la riconosco tu sei Pinocchio preciso e tu io sono il tonno il tuo compagno di prigionia incorpa il pesce cane e come hai fatto a scappare ho imitato il tuo esempio tu sei quello che mi ha insegnato la strada e dopo di te sono fuggito anch'io tonno mio tu capiti proprio a tempo ti prego per l'amore che porti ai tonni i tuoi figlioli aiutaci o siamo perduti volentieri e con tutto il cuore attaccatevi tutte e due alla mia coda e lasciatevi guidare in quattro minuti vi condurrò alla riva Gerpetto e Pinocchio come potete immaginarvelo accettarono subito l'invito ma invece di attaccarsi alla coda giudicarlo più comodo di mettersi addirittura a sedere sulla groppa del tonno siamo troppo pesi gli domandò Pinocchio pesi neanche per ombra mi pare di avere addosso due gusci di conchiglia rispose il tonno il quale era di una corporatura così grossa e robusta da parere un vitello di due anni giunti alla riva Pinocchio saltò a terra per primo per aiutare suo babbo a fare altrettanto poi si voltò al tonno e con voce commossa gli disse amico mio tu hai salvato il mio babbo dunque non ho parole per ringraziarti abbastanza permetti a me che ti dia un bacio in segno di conoscenza eterna il tonno cacciò il muso fuori dall'acqua e Pinocchio piegandosi coi ginocchi a terra gli posò un affettuosissimo bacio sulla bocca a questo tratto di spontanea e vivissima tenerezza il povero tonno che non c'era avvezzo si sentì talmente commosso che vergognandosi a farsi vedere come un bambino ricacciò il capo sott'acqua e sparì intanto si era fatto giorno allora Pinocchio offrendo il suo braccio a geppetto che aveva appena il fiato di reti al sin piedi gli disse appoggiatevi pure al mio braccio caro bambino e andiamo cammineremo pian pianino come le formicole e quando saremo stanchi ci riposeremo lungo la via e dove dobbiamo andare domandò geppetto in cerca di una casa o di una capanna dove ci diano per carità un boccon di pane e un po' di paglia che ci serva da letto non avevano ancora fatti cento passi che videro seduti sul ciglione della strada due brutti ceffi i quali stavano lì in atto di chiedere l'elemosina erano il gatto e la volpe ma non si riconoscevano più da quelli di una volta figuratevi che il gatto a furia di fingersi cieco aveva finito con l'accecare davvero e la volpe invecchiata intignata e tutta perduta da una parte non aveva più nemmeno la coda così è quella trista ladracchio la caduta nella più squallida miseria si trovò costretta un bel giorno a venderne perfino la sua bellissima coda un merciaio pulante che la comprò per farsene uno scacciamosche oh Pinocchio gridò la volpe con voce di piagnisteo fai un po' di carità a questi due poveri infermi infermi ripetè il gatto addio mascherine rispose il burattino mi avete ingannato una volta e ora non mi ripigliate più credilo Pinocchio che oggi siamo poveri e disgraziati davvero davvero ripetè il gatto se siete poveri ve lo meritate ricordatevi del proverbio che dice i quattrini rubati non fanno mai frutto addio mascherine abbi compassione di noi di noi addio mascherine ricordatevi del proverbio che dice la farina del diavolo va tutta in crusca e non ci abbandonare are ripetè il gatto addio mascherine ricordatevi del proverbio che dice chi ruba il mantello al suo prossimo per il solito muore senza camicia e così dicendo Pinocchio e Geppetto seguitarono tranquillamente per la loro strada finché fatti altri cento passi videro in fondo a un avviotto in mezzo ai campi una bella capanna tutta di paglia e col tetto coperto di embrici e di mattoni quella capanna deve essere abitata da qualcuno disse Pinocchio andiamo là e bussiamo difatti andarono e bussarono alla porta chi è disse una vocina di dentro e siamo un povero babbo un povero figliolo senza pane senza tetto rispose il burattino girate la chiave e la porta si aprirà disse la solita vocina Pinocchio girò la chiave e la porta si aprì appena entrati dentro guardarono di qua guardarono di là e non videro nessuno ho i padroni della capanna dov'è? disse Pinocchio maravigliato eccomi quassù babbo e figliolo si voltarono subito verso il soffitto e videro sopra un travicello il grillo parlante oh mio caro grillino disse Pinocchio salutandolo garbatamente ora mi chiami il tuo caro grillino non è vero ma ti rammenti di quando per cacciarmi di casa tua mi tirasti un manico di martello hai ragione grillino scaccia anche me tira anche a me un manico di martello ma abbi pietà del mio povero babbo io avrò pietà del babbo e anche del figliuolo ma ho voluto ramentarti il brutto garbo ricevuto per insegnarti che in questo mondo quando si può bisogna mostrarsi cortesi con tutti se vogliamo essere cambiati compai cortesia nei giorni del bisogno hai ragione grillino hai ragione da vendere e io otterrò a mente la lezione che mi hai data ma mi dici come hai fatto a comprarti questa bella capanna questa capanna mi è stata regalata ieri da una graziosa capra che aveva la lana di un bellissimo colore turchino e la capra dove è andata domandò Pinocchio con vivissima curiosità non lo so e quando ritornerà non ritornerà mai ieri è partita tutta afflitta e Belando pareva che dicesse povero Pinocchio oramai non lo rivedrò più il pesce cane a quest'ora l'avrà bello e divorato ha detto proprio così dunque era lei era lei era la mia cara fatina cominciò a urlare Pinocchio singhiozzando e piangendo dirottamente quando ave pianto ben bene si rasciugò gli occhi e preparato un buon lettino di paglia vi distese sopra il vecchio geppetto poi domandò al grillo parlante dimmi grillino dove potrei trovare un bicchiere di latte per il mio povero babbo tre campi distante di qui c'è l'ortolano giangio che tiene le mucche vada lui e troverai il latte che cerchi Pinocchio andò di corsa a casa dell'ortolano giangio ma l'ortolano gli disse quanto ne vuoi del latte ne voglio un bicchiere pieno un bicchiere di latte costa un soldo comincia intanto dal darmi il soldo non ho nemmeno un centesimo rispose Pinocchio tutto mortificato e dolente male burattino mio replicò l'ortolano se tu non hai nemmeno un centesimo io non ho nemmeno un dito di latte pazienza disse Pinocchio e fece l'atto di andarsene aspetta un po disse giangio fra te e me ci possiamo accomodare vuoi adattarti a girare il bindolo che cos'è il bindolo gli è quell'ordigno di legno che serve a tirare sull'acqua dalla cisterna per annaffiare gli ortaggi mi proverò dunque tirami su cento secchie d'acqua e io ti regalerò in compenso un bicchiere di latte sta bene giangio condusse il burattino nell'orto e gli insegnò la maniera di girare il bindolo Pinocchio si pose subito al lavoro ma prima di aver tirato su le cento secchie d'acqua era tutto grondante di sudore dalla testa ai piedi una fatica a quel modo non l'aveva durata mai finora questa fatica di girare il bindolo disse l'ortolano l'ho fatta fare al mio ciuchino ma oggi quel povero animale è in fin di vita mi menate a vederlo disse Pinocchio volentieri appena che Pinocchio fu entrato nella stalla vide un bel ciuchino distiso sulla paglia rifinito dalla fame e dal troppo lavoro quando l'ebbe guardato fisso fisso disse dentro di sé turbandosi eppure quel ciuchino lo conosco non mi è fisionomia nuova e Chinatosi fino a lui gli domandò in dialetto asinino chi sei? a questa domanda il ciuchino aprì gli occhi moribondi e rispose balbettando nel medesimo dialetto sono i o luci i o gnolo e dopo richiuse gli occhi e spirò oh povero lucignolo disse Pinocchio a mezza voce e presa una manciata di paglia si rasciugò una lacrima che gli colava giù per il viso ti commuovi tanto per un asino che non ti costa nulla disse l'ortolano che cosa dovrei fare io che lo comprai a quattrini contanti vi dirò era un mio amico tuo amico un mio compagno di scuola come? come? urlò Giangio dando in una gran risata come? avevi dei somari per compagni di scuola? figuriamoci i begli studi che devi aver fatto il burrattino sentendosi mortificato da quelle parole non rispose ma prese il suo bicchiere di latte quasi caldo e se ne tornò alla capanna e da quel giorno in poi continuò più di cinque mesi a levarsi ogni mattina prima dell'alba per andare a girare il bindolo e guadagnare così quel bicchiere di latte che faceva tanto bene alla salute cagionosa del suo babbo ne si contentò di questo perché a tempo avanzato imparò a fabbricare anche i canestri e i panieri di giunco e coi guattrini che ne ricavava provvedeva con moltissimo giudizio a tutte le spese giornaliere fra le altre cose costruì a se stesso un elegante carroettino per condurre a spasso il suo babbo nelle belle giornate e per fargli prendere una boccata d'aria nelle vendie poi della sera si esercitava a leggere e a scrivere aveva comprato nel paese vicino per pochi centesimi un grosso libro al quale mancavano il frutto del spizio e l'indice e con quello faceva la sua lettura quando lo scrivere si serviva di un fuscello temperato ad uso penna e non avevano né calamaio né inchiostro lo indingeva in una boccettina ripiena di sugo di more e di ciliegi fatto sta che con la sua buona volontà di ingegnarsi di lavorare e di tirarsi avanti non solo era riuscito a mantenere quasi aggiatamente il suo genitore sempre malaticcio ma per di più aveva potuto mettere da parte anche 40 soldi per comprarsi un vestitino nuovo una mattina disse a suo padre vado qui al mercato vicino a comprarmi una giacchettina un berrettino e un paio di scarpe quando tornerò a casa soggiunse ridendo sarò vestito così bene che vi scambierete per un gran signore e uscito di casa cominciò a correre tutto allegro e contento quando ad un tratto sentì chiamarsi per nome e voltandosi vide una bella lumaca che sbucava fuori dalla siepe non mi riconosci? disse la lumaca mi pare e non mi pare non ti ricordi di quella lumaca che stava per cameriera con la fata dai capelli turchini? non ti rammenti di quella volta quando scesi a farti lume e tu rimanesti con un piede confitto nell'uscio di casa? mi rammento tutto gridò Pinocchio rispondimi subito lumachina bella dove hai lasciato la mia buona fata? che fa? mi ha perdonato? si ricorda sempre di me? mi vuole sempre bene? è molto lontana di qui? potrei andare a trovarla? a tutte queste domande fatte precipitosamente e senza ripigliar piato la lumaca rispose con la sua solita femma Pinocchio mio la povera fata giace in un fondo di letto all'ospedale all'ospedale? purtroppo colpita da mille disgrazie si è gravemente ammalata e non ha più da comprarsi un boccone di pane davvero? oh che gran dolore che mi hai dato oh povera fatina povera fatina povera fatina se avessi un milione correrei a portarmelo ma io non ho che quaranta soldi eccoli qui andavo giusto a comprarmi un vestito nuovo prendili la lumaca e va a portarmi subito alla mia buona fatta e il tuo vestito nuovo? che mi importa del mio vestito nuovo? venderei anche questi cengito addosso per poterla aiutare va lumaca e spicciati e fra due giorni ritorna qui che spero di poterti dare qualche altro soldo finora ho lavorato per mantenere il mio babbo da oggi in là lavorerò cinque ore di più per mantenere anche la mia buona mamma addio lumaca e fra due giorni ti aspetto la lumaca contro il suo costume cominciò a correre come una lucertola nei grandi solleoni d'agosto quando Pinocchio tornò a casa il suo babbo gli domandò è il vestito nuovo? non mi è stato possibile di trovarne uno che mi tornasse bene pazienza lo comprerò un'altra volta quella sera Pinocchio invece di vegliare fino alle dieci vegliò fino alla mezzanotte sonata e invece di fare otto canestri di giunco ne fece sedici poi andò a letto e si addormentò e nel dormire gli parve di vedere in sogno la fata tutta bella e sorridente la quale dopo avergli dato un bacio gli disse così bravo Pinocchio in grazia del tuo buon cuore io ti perdono tutte le monellerie che hai fatto fino a oggi i ragazzi che assistono amorosamente i propri genitori nelle loro miserie e nelle loro infermità meritano sempre una gran lode e grande affetto anche se non possono essere citati come modelli di ubbidienza e di buona condotta metti giudizio per l'avvenire e sarai felice a questo punto il sogno finì e Pinocchio si svegliò con tanto d'occhi spalancati ora immaginatevi voi quale fu la sua meraviglia quando svegliandosi si accorse che non era più un burattino di legno ma che era diventato invece un ragazzo come tutti gli altri dette un'occhiata all'intorno e invece delle solite pareti di paglia della capanna vide una bella camerina immobiliata e agghindata con una semplicità quasi elegante saltando giù dal letto trovò preparato un bel vestiario nuovo un berretto nuovo e un paio di stivaletti di pelle che gli tornavano una vera pittura appena si fu vestito gli venne fatto naturalmente di mettere le mani nelle tasche e tirò fuori un piccolo portamonete d'avorio sul quale erano scritte queste parole la fata dai capelli turchini restituisce al suo caro Pinocchio i 40 soldi e lo ringrazia tanto del suo buon cuore aperto il portafoglio invece dei 40 soldi di rame vi luccicavano 40 zecchini d'oro tutti nuovi di zecca dopo andò a guardarsi allo specchio e gli parve d'essere un altro non vide più riflessa la solita immagine della marionetta di legno ma vide l'immagine vispa intelligente di un bel fanciullo coi capelli castagni coi occhi celesti e con un'aria allegra e festosa come una pasqua di rose in mezzo a tutte queste meraviglie che si succedevano le une alle altre Pinocchio non sapeva più nemmeno lui se era desto davvero o se sognava sempre a occhi aperti e il mio babbo dov'è gridò tutta un tratto ed entrato nella stanza accanto trovo il vecchio geppetto sano arzillo e di buon umore come una volta il quale avendo ripreso subito la sua professione di intagliatore stava appunto disegnando una bellissima cornice ricca di fogliame di fiori e di testine di diversi animali levatemi una curiosità babbino ma come si spiega tutto questo cambiamento improvviso gli domandò Pinocchio saltandogli al collo e coprendolo di baci questo improvviso cambiamento in casa nostra è tutto merito tuo disse geppetto perché è merito mio perché quando i ragazzi di cattivi diventano buoni hanno la virtù di far prendere un aspetto nuovo e sorridente anche all'interno delle loro famiglie e il vecchio Pinocchio di legno dove si sarà nascosto eccolo là rispose geppetto e gli accennò un grosso burattino appoggiato a una seggiola col capo girato su una parte con le braccia ciondoloni e con le gambe incrocicchiate e ripiegate in mezzo da parere un miracolo si stava ritto Pinocchio si voltò a guardarlo e dopo che l'ebbe guardato un poco disse dentro di sé con grandissima compiacenza come ero buffo quando ero un burattino e come ora sono contento di essere diventato un ragazzino per bene con le braccia ciondoloni con le braccia ciondoloni con le braccia ciondoloni che si stava ritto a presto a presto un bel Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.